Si accomodi appunto se ci dice le sue generalità, ha queste domande sulle generalità ovviamente all'obbligo di dire la verità. Buongiorno signor giudice, luogotenente carica speciale Massimiliano Colombo Labriola, nato a Bari il 22 febbraio 1967. E' stato chiesto il suo esame, come sa da tutte le parti, lei non è obbligato a sottoporsi all'esame, alla facoltà di non rispondere alle domande, se invece intenderà rispondere deve sapere che quello che lei dirà potrebbe essere utilizzato anche contro di lei, nell'eventualità in cui dovesse accusare altre persone all'obbligo di dire la verità, perché poi potrebbe eventualmente essere chiamato come testimone, salvo le incompatibilità e le garanzie previste dal codice di rito. Intendo rispondere. Bene, quindi prego pubblico ministero. Buongiorno luogotenente. Buongiorno. Senta, ci vuole dire innanzitutto lei quand'è che è arrivato a Torsapienza e da quando ha ricoperto la carica di comandante della stazione? Allora, io sono arrivato alla stazione Torsapienza il 22 febbraio del 1999. E all'epoca ho fatto circa quattro mesi di affiancamento all'allora comandante titolare che è stato poi collocato in congedo al sessantesimo anno di età. E dal 19 giugno 1999 fino al 13 ottobre 2019 ho retto il comando della stazione di Roma Torsapienza. Quindi per vent'anni sostanzialmente. Per, sì, 21 anni. 20 anni, 20 anni. E al 99 2019. Aveva anche l'alloggio in caserma? Sì, alloggiavo al... in realtà è un secondo piano e l'alloggio ruotava su 360 gradi della caserma, insomma. Senta, lo contenente vuole iniziare a dire lei, inutile dire, sappiamo tutti qual è l'oggetto del procedimento. Quando è che lei viene a conoscenza della vicenda Cucchi, tra virgolette, cioè del fatto che Stefano Cucchi era stato ristretto nelle camere di sicurezza della caserma di Torsapienza nella notte fra il 15 e il 16 ottobre del 2009? Allora, il 16 ottobre del 2009, alle ore 8 circa, alloggiando in caserma sono sceso in ufficio. E come mi era solito fare tutto ogni mattina quando intraprendevo servizio, chiedevo al militare di servizio alla caserma, che voglio dire per semplicità da ora in poi chiamerò Piantone, chiedevo se ci fossero delle novità, ancor più quando non mi venivano comunicate nel corso della notte. Quel giorno il Piantone era il carabiniere scelto Francesco Di Sano. Alla mia richiesta, appunto, se ci fossero delle novità, Di Sano mi disse abbiamo un detenuto in camera di sicurezza e a questo punto io sono rimasto sorpreso, perché nel corso della notte, che ci hanno associato nel corso della notte, io nel corso della notte non ero stato informato dell'associazione di questo detenuto nella camera di sicurezza. Chiesi appunto a Di Sano qualche notizia in più, a quel punto lui mi disse che era un detenuto tossico dipendente ed epilettico. Allora, devo innanzitutto precisare che purtroppo la stazione carabiniera di Torsapienza aveva le camere di sicurezza nel piano interrato e c'erano delle oggettive difficoltà, diciamo, laddove ci fossero stati dei problemi di salute, ad accettare i detenuti epilettici, infartuati, perché la parella lì c'era stato parecchi anni addietro, un tentativo, non erano riusciti a farla passare. E per questo motivo, diciamo, rimasti sorpreso, dissi subito a Di Sano, vallo a controllare, dice ma che fa? Io l'ho controllato alle ore 6 e il detenuto dormiva e lo mandai nuovamente a controllare il detenuto. E il detenuto stava dormendo. Senta, il vocodente si ferme in alto. Ma oltre a dire, insomma, che era un detenuto che era epilettico, le disse anche che era stato necessario chiamare il 118? Sì, mi disse anche che il detenuto nel corso della notte non si era sentito bene, che era intervenuto il centro di personale sanitario e che il detenuto, insomma, non si era voluto fare visitare. E per questo motivo comunque poi, vuol dire, non era stato portato via, cioè non c'erano stati presupposti per il ricovero spedavero. Senta, lei durante la notte non si era accorto di nulla? No, assolutamente, dottore. Al di là di non essere stato informato, ma io avevo la camera matrimoniale sulla parte opposta, quindi sul retro della caserma, non era, non si affacciava sull'ingresso pedonale e carraio che dava accesso a un piccolo, diciamo, cortile e poi c'era l'edificio proprio addibito a caserma. Senta, chi era di piantone durante la notte? Allora, il turno di piantone lo aveva svolto 06, il carabiniere, l'allora carabiniere scelto, Gianluca Colicchio, sempre dalla stazione Torsapienza. Lei, per quanto tempo Colicchio è stato in servizio, è stato in suo, diciamo, sopra? Sì, è stato alle dipendenze, se non ricordo male, fino al 2018, l'estate del 2018. Da quando? Era già, beh, lui quando è arrivato a Torsapienza, io già ero comandante della stazione, quindi erano sicuramente un 8-9 anni che era in forza la stazione, parlo alla data del 2009. Senta, e lei che tipo di rapporto ha avuto con Colicchio in questi 8-9 anni? No, il rapporto, diciamo, con Colicchio era buono, era un buon rapporto, diciamo, fatta un'eccezione, aveva un buon rapporto umano e professionale con tutto il personale della stazione. Senta, lei quindi stava dicendo, se ho capito bene, che avrebbe dovuto essere avvisato e non fu avvisato. Confermo, dottore. Ecco, vorrei sapere, ma questo è previsto, immagino, da qualche regolamento interno vostro? Sì, allora, il regolamento generale dell'arma dei carabinieri disciplina, è il documento fondante che disciplina il servizio di vigilanza dei detenuti ristretti nelle camere di sicurezza. Poi, all'epoca, io questo, diciamo, al recepite tutte le direttive del regolamento generale, le avevo integrate anche con quello che era il patrimonio mio di esperienza, che si era, insomma, incrementato negli anni, con delle disposizioni operative, normalmente vengono chiamate consegne, nelle quali, appunto, era tassativo che il militare di servizio alla caserma mi dovesse avvisare. Allora, innanzitutto, io dovevo essere avvisato quando veniva preannunciato l'assegnazione di un detenuto alla Camera di Sicurezza. Naturalmente parlo di detenuto che profedisse da altri reparti, perché se fosse un nostro arrestato, io già lo sapevo, a Monte. Poi, praticamente, dovevo essere avvisato quando materialmente arrivava il detenuto nella Camera alla stazione e lì c'era una sorta di prima, diciamo, di acquisizione di notizie. Perché, come dicevo prima, se fosse stato un detenuto infartuato o, quindi, con pregressi problemi di cuore o, appunto, con pregressi di epilessia, non doveva essere accettato alla nostra stazione. Aggiungo, non c'erano telecamere nelle camere di sicurezza né, tantomeno, negli spazi esterni di pertinenza alle camere. Non esisteva un interfono e il interfono che è stato poi, negli anni successivi, installato e il campanello all'interno della cella distava circa un metro e mezzo dai piedi del letto. Cioè, per poterlo attivare, necessariamente il detenuto si doveva alzare. E come poteva farlo se raggiunto all'improvviso da una crisi cardiaca o di epilessia? Ecco perché, in questi casi, normalmente il comando gruppo questo lo sapeva, però tante volte, magari nelle turnazioni o cambiavano i sottufficiali di giornata, quando, ecco perché serviva che fossi preventivamente avvisato, io in queste circostanze telefonavo al sottufficiale di giornata e il sottufficiale di giornata magari mi mandava un detenuto che non avesse quelle patologie, vuol dire, non dico in corso, ma pregresse, proprio per scongiurare questa serie di problemi. Senta, ma capitava spesso che nelle vostre camere di sicurezza fossero ospitati, fra virgolette, detenuti soggetti arrestati da altre stazioni? Allora, devo fare una piccola disgressione. E cioè, il servizio, nella città di Roma, il servizio che disciplinava, non c'era un applicativo, era la figura del sottufficiale di giornata del gruppo di Roma che al quale perveniva un prospetto, una situazione giornaliera di quelle che fossero le camere di sicurezza efficienti presso tutte le stazioni. A quel punto, normalmente il criterio adottato, almeno per quanto fosse in mia conoscenza, era quello di non far portare un detenuto dall'Eur a Torsapienza, proprio per una serie di ragioni obiettive, il dispostamento di personale col detenuto e via dicendo. Mentre, quando un comando esauriva, allora, o perché chiudesse alle ore 22, quindi fosse una stazione che viene chiamata di seconda fascia, cioè orario 8.22, oppure il comando che avesse operato l'arresto, non aveva inefficiente la propria camera di sicurezza, o l'avesse già con altri arrestati e nell'ambito della compagnia di riferimento di quella stazione non ci fossero più disponibili camere di sicurezza, allora il reparto che aveva proceduto l'arresto contattava il sottufficiale di giornata del gruppo e che a sua volta gli indicava presso quale stazione dovesse essere convogliato, associato l'arrestato. E il sottufficiale di giornata del gruppo, poi, telefonava al piantone avvisandolo che, guarda, la stazione, come fu nel caso di specie Appia, porterà un detenuto a Torsapienza. Sì, io volevo sapere con che frequenza accadeva. Sì, no, era pressoché giornalmente. Quindi in teoria lei avrebbe dovuto essere svegliato, disturbato tutte le notte. Accadeva, dottore, questo? Questo accadeva. Vorrei sapere se, in questo caso, dico, non è accaduto, abbiamo sentito la spiegazione che ha dato Colicchio. Vorrei sapere, al di là di quella che, diciamo, è la regola, no? Era accaduto in altre circostanze che Colicchio o altri carabinieri non la avvisassero? Allora, segnatamente Colicchio, quella è stata la prima circostanza, cioè non era recidivo Colicchio. Magari non mi avrà avvisato per qualche altro evento, tipo un incendio, non so, un danneggiamento, qualcosa che accadeva la notte. Ma a me chiamavano tutti, non con messaggi, cioè anche perché, dottore, correvo il rischio che il messaggio io non lo sentissi a causa del sonno, insomma, fisiologico. Per questo avevo detto, mi dovete telefonare e se non vi rispondo, venite su alla porta, mi bussate e vi avvole. Sì, sì, dottor Tenente, quella che, diciamo, era la regola è chiarissima. Io vorrei capire poi... Ma in quel caso Colicchio non mi avvisò. E questo anche è chiarissimo. Invece quello che ancora non ho capito è, per capire, no? Poi per, diciamo, leggere, fra virgolette, anche il comportamento di Colicchio, qualche... cioè, non era mai accaduta una cosa del genere? No, sui detenuti no. Sulla questione dei detenuti no. Le leggo un passaggio integrale, quindi la trascrizione, dell'interrogatorio che lei ha reso in procura il 18 ottobre 2018, da pagina 7 in poi. Domanda, ma in passato l'aveva disturbata? Lei risponde, ma era capitata qualche volta, diciamo, che non mi avevano avvisato. Questo non solo Colicchio, è capitato anche qualche altro Carabiniere. domanda dopo un po'. Cioè, lei di solito veniva svegliato la notte quando portavano un arrestato, risposta, signor sì, venivo svegliato. Domanda, è stato svegliato anche da Colicchio? E lei risponde, ora, tre notti, io non lo ricordo, però Colicchio, ricordo che qualche altra volta non mi ha chiamato, e io ero intervenuto con lui. Cioè, la discrezionalità di non disturbarmi, lei dice sostanzialmente, non ce l'aveva. Ma la conferma questa dichiarazione? Sì, quello lo confermo, però poi dopo, dottore, io avevo specificato che Colicchio, diciamo, io intendevo che non fosse recidivo su quello, su altre cose, però anche capitava che non mi avvisava la notte. Sì, lo chiedo, no, io glielo chiedo, proprio perché siccome è l'integrale, no? Da l'integrale... Sì, sì, lo ricordo, però poi l'avevamo chiarito, penso. Sì, 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 l'avevamo chiarito, però, diciamo, la verbalizzazione informativa, assuntiva, sul punto, invece, non è esattamente conforme alla trascrizione, perché lei, ripetutamente, in questi passaggi degli interrogatori, dice, la regola era chiamarmi, io volevo essere chiamato, a volte è accaduto che non mi chiamavano, ma quando non mi chiamavano sbagliavano. Sì, confermo? Sì, lo confermo, lo confermo. Andiamo avanti. Senta, lei ha mai chiesto poi successivamente a Colicchio, se mi ha confrontato, per dirgli, ma perché non mi hai chiamato? Sì, lo confermo, dottore. Infatti, il... Allora, Colicchio non alloggiava in caserma, lui e altri due, un altro carabiniero era sicuramente Palermo, che non alloggiava, avevano casa lì alla Rustica, e quindi lui smontò e se ne andò, io alle otto, quindi non ci siamo incrociati. Non ricordo se fu proprio il giorno successivo, o comunque sicuramente, nei giorni a seguire, e prima del decesso del signor Cucchi, del 22 ottobre, io ebbi modo di richiamarlo a Colicchio, non solo perché non mi aveva avvisato, ma anche perché aveva accettato un detenuto che era epilettico, per le problematiche che ho esposto, e Colicchio mi disse che non mi aveva avvisato, perché lui non intendeva disturbarmi. Alla fine poi disse pure, quello che doveva fare lei comandante l'ho fatto io, quindi non l'ho voluta disturbare, e invece disse, no, mi devi disturbare, primo. E secondo poi, perché lui aveva appreso di questi precedenti di epilessia del detenuto, non in sede di accettazione, ma quando era stato chiamato, dopo circa una ventina di minuti dalla sua accettazione in Camera di Sicurezza, perché segnalando che non si sentiva bene per una serie di specifiche che aveva indicato nella sua relazione redatta a fine turno. Cioè intende quegli aspetti che gli erano esibiti, posso... No, aspetti, gli erano io, così restiamo sugli allegati agli interrogatori, se mi dà una mano, una è per il giudice, come sempre, poi ne chiedo l'acquisizione. E diamo atto che stiamo esibendo l'allegato 1 per la difesa, l'interrogatorio del 18 ottobre 2018. Questa è la relazione inerente, i compiti assolti durante il servizio alla caserma. E devo dire, innanzitutto all'epoca non esisteva un registro dove annotare, al di là di quelli specifici delle armi, ma dove annotare tutti i materiali, comprese le armi e le munizioni, che si passavano in consegna per tutti i militari. E allora io, proprio per responsabilizzarli, avevo disposto la compilazione per ciascun turno di questa relazione, che io poi, a fine turno loro, mi mettevano nella cartella alla firma e vi stavo. Infatti, in calce a destra, reca il mio visto di presa visione. in più, lo spirito di questa relazione era anche quello di informarmi di telefonate, di eventi, che si fossero verificati durante la mia assenza e dei quali non mi avessero dato immediata contezza e che comunque non dovrebbero, cioè, non avessero dovuto formare oggetto di annotazioni. quindi, Colicchio, in questa parte, proprio all'inizio, diciamo nella premessa, telefonate importanti ricevute, lui indica quella del mezzanotte gruppo Roma comunicava l'accompagnamento, eccetera, eccetera, proprio perché non me l'aveva comunicato e in più, proseguendo, questo è un errore, un refuso il nominativo Buschi Stefano, in realtà era Cucchi, in questa parte, lui indica tutto quello in modo sintetico che è accaduto e del quale non me ne aveva dato partecipazione. Va bene, senta, Ducodente, ma quest'atto viene redatto alla fine di ogni turno? Lo confermo, alla fine di ogni turno. Ok, e quindi lei dice, vabbè, è stato chiaro, Colicchio aveva appreso del fatto che Stefano Cucchi era affetto da una patologia epilettica e dopo dopo, in un secondo momento, perché all'inizio non gliel'aveva detto. Sì, è pacifico, risulta pacificamente, quindi Colicchio le dà delle spiegazioni, fra virgolette, Colicchio le dà delle spiegazioni, vorrei sapere, lei ha fatto un formale rapporto nei confronti di Colicchio, disciplinare? No, non l'ho fatto. Allora, già, diciamo, di per sé, il richiamo orale è una forma di sanzione disciplinare che rientra comunque nell'ambito, nell'alveo della competenza del comandante della stazione. Io, comunque, di questa mancanza di Colicchio ne diedi partecipazione al Maggiore Soligo. Non ricordo se quando poi fui convocato il 26 verso le 15 e 30, 15 e 15, 15 e 30, come ho segnato nel mio memoriale del servizio dal Maggiore Soligo, o la mattina del 27 quando venne a Torsapienza per la visita quadrimestrale. Vabbè, poi ci arriviamo. Sì, poi ci arriviamo, mi fermo qui. Sì, sì, vorrei solo sapere se per quello che lei risulta Colicchio per questa diciamo mancanza ha subito delle sanzioni disciplinare. No, non ha subito nessuna sanzione disciplinare, anzi, è stato l'unico carabiniere al quale è stato detto bravo per il suo operato. Senta, aspetta un attimo, andiamo avanti. Ma, è rimasto un punto da chiedere a lei, l'ha mai visto in vita sua Stefano Cucchi? No, assolutamente, dottore, perché vado avanti nell'esposizione, quindi il carabiniere di Sano risale dal controllo e mi dice che sta dormendo. Queste sono le ore 8 del 16 ottobre 2009. Intorno alle 8 e 30, 8 e 30, 8 e 45, dissi a Di Sano di telefonare alla stazione Appia perché era anomalo che ancora non si fossero venuti a prendere il detenuto, tenuto conto che alle 9 iniziavano i riti direttissimi. Ma, la mia preoccupazione non era, diciamo, la tempistica e la puntualità di presentazione del detenuto, quanto che la signora delle pulizie che ci veniva tre volte a settimana dalle 7 e 30 alle 9, dovesse poi ripristinare, pulire la cella per poter accogliere anche nella stessa giornata un altro detenuto e disse a Di Sano appunto di chiamare alla stazione Appia e di sollecitare il prelevamento del detenuto. Cosa che Di Sano fece e mi disse che aveva chiamato e che comunque da lì a breve sarebbero giunti a prenderlo. Questa è la comunicazione che mi dite Di Sano. Senta, ma lei quando ha saputo che Stefano Cucchi era morto? Allora, io dottore guardi non ricordo di aver sentito al telegiornale la notizia che si è detto il 23 se non ricordo male la prima notizia data. Io ricordo lo stupore che espressi quando fui convocato dal maggiore Soligo il giorno 26 di ottobre e ero la mattina in tribunale di testimonianza fu nella tarda mattinata primo pomeriggio perché l'udienza mi sembra iniziasse a mezzogiorno della mia testimonianza quindi e mi disse appena termini il passa qui da Montesacro perché è una comunicazione urgente da darti e lì io ricordo di aver avuto la notizia va bene allora si fermi un attimo che ci sono prima di arrivare a questo passaggio ci sono delle domande preliminari che le devo fare vorrei sapere se lei sa quando Colicchio chiama il 118 per quello che le risulta e per quello che ha sentito dire anche negli anni successivi era da solo allora Colicchio mi ha sempre detto di essere solo io parlo con i ricordi dell'epoca ovviamente sulla forza di quelli noi quella notte voglio aggiungere perché non ho messo prima questo passaggio avevamo anche la pattuglia 06 composta dal maresciallo Grimaldi e dal carabiniere Gianrocco e più poi in caserma oltre ad avere il sottoscritto in assegnazione l'alloggio di servizio c'era un secondo alloggio di servizio che se non ricordo male all'epoca fosse occupato dal maresciallo capo di Maio Alfredo e poi c'era il piano delle camerate dove alloggiavano dei carabinieri ma le camerate quanti quanti erano quanti posti di detti avevano allora all'epoca c'erano nove posti letto e ancora non c'era personale femminile quindi erano tutti occupati da personale maschile e dalla consultazione del memoriale del servizio aspetti è quello che sto distribuendo adesso è legato due al verbale di interrogatorio quindi il memoriale del servizio del 16 10 2009 uno al giudice grazie grazie posso prego benissimo allora dal memoriale del servizio del 16 ottobre 2009 risulta che avevano e occupavano un posto letto in caserma il carabiniere Nessa Giuseppe il carabiniere Capozza Daniele Di Sano Francesco che comunque era di Piantone 612 il maresci il maresciano il carabiniere giarrocco e siamo menzella cannistraci e Mastronardi maresciallo Mastronardi Sabatino quindi quindi quella notte quelli erano in caserma che dormivano lì allora non c'è un registro di attestazione però loro avevano posto letto in caserma e avevano titolo di dormire in caserma io non ho riscontrato di viso dottore se realmente fossero presenti senta di tutti questi potenziali presenti diciamo mi interessa Mastronardi Sabatino vorrei sapere per quello che lei sa se quando stava a riposo comunque dormiva nell'alloggio in caserma si si dormiva perché lui aveva un un cane il un doberman e quindi ad eccezione dei lunghi periodi di ferie che vuol dire portava con seppo il cane ma lui dormiva in caserma e veniva anche quando era a riposo in caserma proprio per perseguire accudire e stare insieme al cane senta ma io avevo fatto torniamo alla domanda iniziale lei sa se insieme a Colicchio quella notte in caserma ci fosse qualcun altro o se fosse da solo io non posso affermare perché non stavo giù in caserma e Colicchio mi ha sempre detto che fosse da solo però nella telefonata registrata al 118 in sottofondo si sente una terza voce però è un patrimonio successivo si si però dico giusto perché poi la produrremo la telefonata per dare verità ai fatti poi non si è capito se la terza voce è accanto a quella del 118 o accanto a Colicchio io vorrei sapere lei quella notte non c'era però lei era il comandante di quella stazione e lo è stato per dieci anni successivi ha mai sentito dire in caserma qualcuno le ha mai detto Colicchio le ha mai detto qualcun altro le ha mai detto ovviamente quella notte veramente poi non c'era Colicchio la sola ha mai sentito dire qualcosa del genere ma io non Colicchio me l'ha sempre io anche quando abbiamo commentato mi fece sentire questa telefonata del 118 che girava in rete e lui escludeva che ci fosse qualcuno però voglio dire c'è personale a casermato e io questo non lo posso non lo posso dire per cognizione diretta o anche di per riferito perché a me mai nessuno mi ha detto che fosse presente a nessuno le ha mai detto una cosa del genere no senta di tutti questi presenti in caserma quelli che dormivano in caserma li ha indicati poco fa c'era qualcuno che aveva un rapporto particolarmente stretto con che vicino e quando io dicevo prima che con tutti tolta un'eccezione io avevo dei rapporti buoni ottimi posso dire oltre l'aspetto professionale parlo proprio dell'aspetto umano del contatto diretto era proprio con il maresciallo Mastronardi perché si era verificato un che era giunto intorno all'estate del 2006 alla stazione Tor Sapienza e il cui padre Enrico Mastronardi comandava la stazione Tor Vergata in quel periodo e si era verificato dopo penso un paio di mesi dal suo arrivo purtroppo diciamo uno spiacevole episodio nel io ero fuori di pattuglia ricordo ancora che mi chiamò il carabiniere Gianrocco dicendomi comandante rientri subito in caserma perché il maresciallo Mastronardi sta costruendo una cuccia sovradimensionata all'interno del non era una casetta io anche ho sempre avuto cani e tenuti pure insomma come vanno tenuti nel rispetto e mi disse però che nel giardino della caserma stava costruendo questa voglio dire una cuccia sovradimensionata ma era qualcosa di più grande dico rientri lui era preoccupato per il fatto che il carabiniere era di piantone poi io al mio rientro gliel'avrei contestato perché non mi ha avvisato da lì io poi dissi al maresciallo Mastronardi guarda qui vi dobbiamo chiedere un'autorizzazione non è possibile fare una cosa una struttura del genere dico poi se proprio voglio dire tu la reputi necessaria idonia parlane con tuo padre realizzala a quella stazione e da lì i rapporti insomma mi dispiace si si inclinarono nel senso lui non era più e anche il padre non mi telefonò più non venne più prima mi veniva spesso a trovare cioè si rimaneva e seguivo in modo esemplare il suo lavoro però si percepiva a livello di sensazione che fosse ci fosse rimasto molto male ecco di questo mio diniego e da lì questo le parlo nei miei confronti invece erano lui era era vicino a Colicchio il a parte andavano a pranzo insomma capitava con la mensa pranzo insieme ma poi c'è stato io questo l'ho appreso in un secondo momento all'epoca non la sapevo questa diciamo questa successiva affinità che sto per esporre e cioè che Colicchio è stato anche padrino di non mi ricordo se comunione cresima o comunque o battessimo il del dei figli di uno o addirittura dei due figli di Mastronardi e e e poi aveva conosciuto la insomma la sua attuale moglie tramite proprio Mastronardi perché mi sembra fosse amica lavorasse insieme all'attuale moglie del del maresciallo Mastronardi quindi diciamo c'era un un rapporto di vicinanza maggiore fra di loro rispetto a quello che poteva essere tutto il contesto degli altri senta Mastronardi era un maresciallo ha detto si maresciallo quindi un sotto ufficiale un sotto ufficiale ecco vorrei sapere ma nella nel comando stazione torsapienza come in ordine chi c'era prima di lui allora prima di lui guardi le ho posso dire all'epoca avevo solo un dubbio di anzianità tra lui e Grimaldi allora innanzitutto prima di lui c'era il maresciallo capo Di Maio Alfredo c'era maresciallo Divico Francesco maresciallo Mastronardi Sabato e maresciallo Grimaldi Ciro e il maresciallo Di Maio era il vicecomandante il vicecomandante sì diciamo svolgiva questa funzione di vicecomandante della stazione un'ultima domanda prima poi di andare alla telefonata del maggiore Solico a cui stava facendo cenno lei vorrei sapere dico ha sentito quello che ha detto Colicchio quando è stato sentito in merito alla consegna di un bigliettino con un numero di telefono da parte di del post-it sì allora io questo post-it dell'esistenza l'ho appresa la sera del 17 aprile del 2018 dopo l'esame in corte d'assise di Colicchio di cui insomma non anticipo nulla parleremo penso dopo e praticamente questo post-it era stato lasciato la notte da uno dei componenti della pattuglia consorziata Appia a Quadraro che era l'appuntato Nicolardi a Colicchio e su questo post-it c'era notato il numero di telefono di cellulare del maresciallo Mandolini poi ho appreso pure che proprio a quel numero aveva chiamato il carabiniere di sano la mattina del 16 ottobre per sollecitare l'intervento quindi il prelevamento del detenuto e dico che non ne sapevo nulla dottore perché non era allegato né questo post-it alla relazione redatta da Colicchio del 16 ottobre 2009 né tantomeno è stato allegato o comunque citato in quella relazione in quelle poi che saranno le annotazioni che si andranno a formare il 26 ma al di là del fatto insomma che lei non lo sapesse vorrei sapere per quella che è la procedura rituale diciamo era normale era nomada una cosa del genere assolutamente non era non era normale e per due motivi non era normale il primo e se dico c'è una pattuglia consorziata fuori con un militare della propria stazione e quindi a mio avviso parlo adesso con lo dico con con il buonsenso se ci deve essere qualcosa è vero che il comandante della stazione deve essere comunque sempre avvisato parlo anche della stazione che cede l'arrestato in consegna per le camere di sicurezza però in primis c'è un tuo militare fuori e secondo poi c'è una sorta anche di garbo istituzionale cioè tu non puoi lasciare il militare il telefono al piantone ma comunicalo al comandante della stazione una sorta di garbo istituzionale tra comandanti di stazione che era io vado a memoria quella è stata la sola volta che non sono stato chiamato anche di notte da un comandante di stazione per dire io ti mando il detenuto noi ci avvissavamo sempre era insomma una forma di correttezza un lavoro di team di squadra soprattutto poi avvissavamo quando davamo un detenuto che non stesse in condizioni diciamo di salute ottimali è proprio per avvisare per mettere nelle condizioni di poter adoperare qualsiasi strumento nella vigilanza nella vicinanza cioè detenuti veramente le posso dire dottore che in tutte le stazioni venivano seguiti coccolati nel vero senso della parola non è non lo dico perché mi trovo in questa posizione ma l'abbiamo sempre fatto e tutti i comandanti di stazione il proprio questa era al di là di una direttiva sempre ripetuta ma proprio sentita ecco l'anomalia di lasciare questo post-it al piantone e di non chiamare il comandante della stazione al di là di questo la procedura non dovrebbe no non lo prevedeva ma non lo prevedeva la procedura cosa prevedeva no la procedura è che laddove ci fosse stato un diciamo un'anomalia un problema qualsiasi che sul riguardante il detenuto il problema può essere di salute ovviamente bisognava chiamare la centrale operativa avvisare fare arrivare la pattuglia che poi era la centrale a decidere quale fosse la pattuglia perché tutte le autoradio fuori sono disciplinate dalla centrale operativa e poi quindi avvisare il comandante della stazione e in relazione alla gravità è il comandante della stazione poi che contatta il comandante di quell'altra stazione senta allora arriviamo a quella cosa che stava dicendo prima cioè la telefonata che lei riceve il 26 ottobre 2009 dal Maggiore Soglie dico innanzitutto vorrei sapere se ricordo orientativamente l'orario sì allora io posso circolare allora l'orario è guardi io vado a memoria dovevano essere intorno alle 14 14 e 30 perché nel mio memoriale del servizio ho annotato dalle 15 e 15 alle 16 e 15 che sono transitato presso la compagnia Montesacro quindi l'orario doveva essere quello e il motivo mi ha detto passa in compagnia perché ho una comunicazione urgente da darti io tra l'altro dovevo anche passare in compagnia ero con il mio scooter e il e perché dovevo c'era anche un altro plico riservato il carteggio riservato non viene trasmesso in composta elettronica ma viene movimentato mediante corriere a mano allora io ero di strada dal tribunale per torsapienza dovevo comunque passare ma segnatamente fui contattato dal maggiore Soligo per questo quindi è una comunicazione importante urgente da darti senza precisare altro no non mi è stato precisato null'altro cioè non gli disse è morto quando sono andato poi a Montesacro per telefono glielo disse no per telefono non gli disse nient'altro solo questo lei poi va a Montesacro sì quindi io terminata la testimonianza arrivo alla compagnia Montesacro e in quella sede il maggiore Soligo eravamo soli io e lui nel suo ufficio mi disse che era deceduto un detenuto transitato presso la nostra camera di sicurezza il 16 ottobre mi disse il nome e io mi ricordai il del del diciamo del della data perché avevo richiamato Colicchio manco a farlo apposta insomma il ma questo prima del decesso e della ecco perché dicevo prima io non ricordo di aver seguito al telegiornale quella insomma quell'intervista della signora e del se non ricordo male del 23 perché ricordo il mio stupore nell'apprendere il decesso del del detenuto e e e mi aggiunse che diciamo che era deceduto ad Alessandro Pertini il dopo circa una settimana dalla da che era transitato nella nostra camera di sicurezza ma non mi fornì nessun altro dettaglio e mi disse voglio completare la comunicazione che i due militari di servizio alla caserma Colicchio 06 di Sano 612 dovessero ciascuno redigere un'autonoma annotazione di servizio sul di servizio o di polizia giudiziaria io allora in realtà era di polizia giudiziaria perché lui mi disse che le due annotazioni io le avrei dovute trasmettere alla stazione Appia che a sua volta le avrebbe dovute inviare alla procura di Roma perché era stato aperto un fascicolo d'indagine sul sul decesso del insomma del signor Cocchi e in più gliel'avrei dovute trasmettere a lui al al suo indirizzo di posta istituzionale individuale per gli aspetti disciplinari da avaliare nei confronti dei due militari senta ma le disse chi aveva preso l'iniziativa insomma di chiedere queste annotazioni no disse la la procura cioè le annotazioni erano determinate dalla procura cioè nel senso dal fascicolo d'indagine aperto c'era una delega delle annotazioni dovevano essere trasmesse alla stazione Appia e che a sua volta le avrebbe inviate alla procura di Roma quindi nell'ambito di una delega di un fascicolo di indagini aperto a seguito della morte della persona senta ma gli spiegò che cosa era accaduto fra visto che erano passati quattro giorni dalla morte di Cucchi cosa era accaduto che lo aveva determinato solo il 26 ottobre a richiedere queste annotazioni no assolutamente mi ha parlato solo del fascicolo di indagine aperto dalla procura a seguito del decesso della delega che io non ho visto neanche gliel'ho chiesto a dire la verità però voglio dire non l'ha vista nessuno perché non c'era quella delega io dico quello che cioè quello che mi è stato detto lei ha ricordo che il maggiore solicole parlò di una delega assolutamente sì va bene quindi non le spiego non mi disse dell'interrogazione parlamentare mi ha presa l'esistenza al 415 bis prima di allora io e i due carabinieri non ne sapevamo nulla quindi lei torna poi immagino a Torsapienza sì allora sono direttamente tornato a Torsapienza non ho da Montesacro non ho avvisato due piantoni cioè Colicchio e Disano allora quel 26 Disano era 12-18 di piantone mentre Colicchio aveva fatto il 6-12 ed era andato via appena arrivato a Torsapienza il tempo di parcheggiare lo scooter e di entrare mi viene subito incontro il maresciallo Mastronardi che quel giorno era a recupero riposo lo dico riscontrando il memoriale del servizio del 26 ottobre del 2009 e maresciallo Mastronardi mi dice che poco prima del mio arrivo aveva telefonato il maresciallo Mandolini gli aveva telefonato il maresciallo Mandolini e aveva chiedendogli la trasmissione delle annotazioni di due piantoni la mia risposta la prima risposta è stata dal dottore al maresciallo Mastronardi quella ma come fa cioè adesso me l'ha chiesto il maggiore Soligo e già vuole le annotazioni poi ho detto ma perché ha telefonato a te e non mi ha chiamato direttamente e allora il maresciallo Mastronardi mi ha detto dice no perché lui evidentemente ha scelto questa forma più speditiva di comunicazione di richiesta perché mi conosce per aver prestato servizio alle dipendenze di mio padre alla stazione Tor Vergata quindi lui giustificò questo contatto avuto dal maresciallo Mastronardi in forma diretta con lui col fatto che fosse più speditivo e avesse chiamato perché si conoscevano insomma ma era una procedura rituale no no assolutamente come non era rituale anche il fatto che il maresciallo Mandolini mi facesse diciamo mi facesse quella richiesta il non mediante una lettera ma non direttamente nemmeno direttamente a me tramite il maresciallo Mastronardi però io pensai che il maresciallo Mandolini per dirmelo così poco tempo dopo erano passate manco mezz'ora da quando me l'avesse detto il maggiore Soligo il maresciallo Mandolini l'avesse saputo dal suo comandante di compagnia questa è stata una mia deduzione lui non me l'ha mai detto questo Mandolini nemmeno io gliel'ho chiesto ma fosse una mia deduzione che ci fosse stata una sorta di comunicazione ma come normalmente avviene il tra comandanti di compagnia cioè non sono compartimenti stagni ma soprattutto quando una dinamica si svolge su diversi territori i comandanti di compagnia così come quelli di stazione comunicano interagiscono tra di loro questo accade sempre nell'arma c'è uno smossi proprio a tutti gli effetti andiamo avanti quindi le viene incontro il comandante il maresciallo Mastronardi e le dice mi ha chiamato Mandolini esatto ed è questa la richiesta del maresciallo Mandolini quindi Colicchio non era in sede Di Sano era 12-18 io dico loro non ricordo se Colicchio lo chiamai direttamente o lo feci chiamare da Di Sano perché alloggiava fuori comunque dico che devono redigere ciascuno l'annotazione a me tra l'altro non mi era stata data nessuna indicazione nemmeno né sui contenuti né su come o raccomandazioni nulla era stato detto in forma settica a me dal maggiore Soligo di che ciascuno dovesse redigere annotazioni ma mi scusi un attimo torniamo alla richiesta di Soligo sì cioè ma le spiego qual è la razza di questa richiesta che cosa chi avrebbe dovuto redigere un'annotazione solo Colicchio e Di Sano sì solo Colicchio solo Colicchio e Di Sano eppure c'era sì anche Grimaldi lei mi dice no perché le dico lei quando è stato poi sentito in dibattimento nel Cucchi B studienza del 6 dicembre 2018 ricorda lei ha detto c'era una delega della procura perché tutti coloro tutti sì io parlavo di Colicchio di Sano per la parte nostra no no io parlo in generale no 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 tutti allora tutti coloro tutti coloro che avevano no no io stavo riferendo solo limitatamente per la procura abbiamo chiarito tutti coloro che avevano avuto diciamo una sorta di contatto non necessariamente fisico anche si erano rapportati visivamente con il detenuto dovessero redigere una notazione questo era l'accertamento per la parte nostra era per Colicchio e Di Sano gli altri poi lo ha preso in quel momento non sapevo chi fossero gli altri ok va bene andiamo andiamo avanti quindi il dico a Colicchio Di Sano che dovessero redigere ciascuno in autonomia autonomamente quindi un'annotazione e questa annotazione si mettono su due postature arriva arriva Colicchio Di Sano smonta perché nel suo turno non riesce a fare questa a redigere l'annotazione e quindi pressoché in simultanea tutti e due se non ricordo male erano intorno alle 18.30 che redigono ciascuno la sua annotazione ma quindi non erano più in servizio no infatti infatti io ho attribuito loro del lavoro straordinario Di Sano se non ricordo male dalle 18.30 alle 19.30 mentre per Colicchio che ha svolto un'altra incombenza relativamente alla sottoposizione all'obbligo della presentazione dell'APG di una persona dalle 18.30 alle 20.00 in questa fase quindi ho ricevuto in caserma me l'ha transitata il piantone una telefonata di sollecito questa volta ha chiamato me del maresciallo Mandolini il quale mi sollecitava la trasmissione delle annotazioni anche lui dicendomi che dovevano essere rassegnate l'indomani mattina alla procura di Roma l'indomani mattina anche presto mi ha detto anche presto che dovessero essere rassegnate devo dire dottore anche per precisione lo sa logotenente perché conosce gli atti non risulta anzi risulta il contrario che l'indomani mattina Mandolini depositò questa annotazione alla procura io dico quello che lui mi disse dottore io riferisco su quello le risultanze sono altre ma io dico quello che lui disse e voglio aggiungere dottore perché dal dal memoriale del servizio sul lavoro straordinario io segnai che queste due annotazioni sono state richieste dal maggiore unali questo voglio specificare il perché io ho ricevuto sicuramente dopo la colloco dopo la telefonata del maggiore unali a Torsapienza nella quale anche lui mi sollecitava le annotazioni ma sempre quella sera sì sì sempre quella sera perché è riferito al lavoro straordinario di quel giorno è il al maggiore però non è che solo la trasmissione delle annotazioni adappia ma non mi chiese nessuna informazione io non non diedi a parte non era un mio superiore diretto non avevo avuto direttivo in tal senso dal maggiore soligo e per me la mia interfaccia è stata il maggiore soligo questo lo posso affermare con piena certezza e quindi quando poi ho riportato lo straordinario in realtà non è stato il primo a chiederle è stato il maggiore soligo il maggiore unali mi ha sollecitato la trasmissione ad appia delle annotazioni perché purtroppo c'è stato il problema a me il maggiore soligo mi aveva dato anche una certa urgenza nel far redigere queste annotazioni quando sono andato il 26 da lui a Montesacro però purtroppo Di Sano era di Piantone e riceveva gente rispondeva al telefono apriva il cancello cioè assolveva una miriade di incombenze era impossibile che la riuscisse a scrivere Colicchio alloggiava fuori caserma e quindi arrivò quasi a ridosso delle 18 e 30 un po' prima il tempo che gli dicessi quello che dovevano fare ecco perché ci fu un ritardo da quando me lo comunicò a quando loro iniziarono a redigere ciascuno le annotazioni quindi diciamo l'annotazione di Colicchio in cui c'è scritto 26 e ottobre 18 e 40 è conforme è conforme assolutamente conforme va bene tra l'altro Colicchio mi disse quando prima di iniziare a redigere quella annotazione che dice guardi comandante io ho già scritto il 16 prendo quello che ho scritto magari in una forma un pochino più discorsiva perché ho già scritto riferendosi alla relazione della relazione del 16 con una forma un pochino più discorsiva la rendo annotazione quindi recepisco le notizie che stanno in quella mia relazione quindi diciamo aveva un compito sotto questo aspetto più agevolato rispetto invece di sano che aveva sì redatto la relazione il 16 ma solo con i materiali non ci aveva scritto nulla di nessun dettaglio sulla dimissione del detenuto quindi redigono queste due annotazioni che io il trasmetto o meglio le dico a di sano perché infatti il numero di protocollo della della stazione della lettera di trasmissione alla stazione Appia è un sottonumero del protocollo dell'annotazione di disano che è 16 barra 212 mentre Colicchio il protocollo suo era il 16 barra 211 e quindi era ah dimenticavo un altro particolare chiedo scusa durante sempre purtroppo a causa del ritardo della trasmissione delle prime parlo sempre delle prime versioni quindi siamo al 26 mi sollecitò anche il maggiore soligo perché lui mi aveva detto fai subito trasmettile subito erano passate da quando me l'avevo detto in realtà oltre tre ore e le annotazioni non erano ancora uscite erano in informazione e insomma e voleva insomma mi rimproverò perché non fossi stato solerte sollecito nel farle redigere a loro gli spiegai le motivazioni gli impedimenti oggettivi e da quel punto il maggiore soligo mi chiese dice ma relativamente dice ma non c'è nulla non c'è io gli dissi pure che già Colicchio aveva redatto una relazione e questa relazione io gliel'ho trasmessa anche al maggiore soligo oltre che poi fargliela rivedere il 27 l'ho trasmessa la sera del 26 al maggiore soligo quella di Colicchio sì solo quella di Colicchio perché in realtà di sano su di sano non c'era scritta niente c'erano solo i materiali aspetti aspetti innanzitutto quando gli era trasmessa e come? allora le comunicazioni col maggiore soligo avvenivano alla sua email individuale istituzionale cioè luciano punto soligo chiocciola carabinieri punto it io per poter trasmettere a quell'email potevo utilizzare solo l'outlook era la versione in uso nel 2009 e il io non avevo ancora non avevo non mi era stato assegnato un mio profilo individuale outlook cioè io non avevo l'email massimiliano punto colombo chiocciola carabinieri punto it potevo utilizzare solo quella del comando della stazione di torsatenza che era strm 2141 74 chiocciola carabinieri punto it quindi io le comunicazioni utilizzavo quell'email non la potevo mandare in docsp perché il docsp la versione del 2009 aveva un format di indirizzi già suoi acquisiti dell'applicativo e non consentiva di trasmettere ad indirizzi diversi non inseriti nel format di quell'applicativo e gli indirizzi istituzionali individuali non rientravano in quel format cioè quello dei singoli comandi delle singole persone cioè io potevo mandare al gruppo alla compagnia Montesacro quell'email ma con il docsp ma non la potevo mandare all'accompagnia Montesacro nucleo operativo per esempio o al alla persona che faceva servizio in quel reparto o a Luciano Punto Soligo o a Luciano Punto Soligo non lo potevo mandare e quindi l'ha mandata con l'autoc e l'ho mandata con l'autoc parliamo della relazione del 16 non ho capito una cosa ma quindi prima manda la relazione del 16 prima mando la relazione perché perché era pressato perché ero pressato ok e poi e poi ho trasmesso io non ricordo se prima delle 22 e 13 che è l'orario di trasmissione in fax della lettera ad appia delle due annotazioni o dopo penso prima perché ho pensato prima a soddisfare ma vado per logica il mio padrone di casa piuttosto che sta fuori certo 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 diciamo è meglio essere sollecitati da mandolini che dal comandante di compagnia ecco certo è chiaro quindi prima probabilmente prima lo manda a soddisfare poi ad appia in ogni caso le manda allora ad appia in fax alle 22 e 13 più e alle due annotazioni c'è la scheda numero 80 di registrazione del detenuto mentre al 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 maggiore soligo avevo mandato con un'email solo la relazione quella che era il progressivo 280 quella di colicchio del 16 dopo le due annotazioni e qui non ricordo se alle due annotazioni allegai la scheda numero 80 di registrazione del detenuto alla stazione Torsapienza nella camera di sicurezza o già gliela inviai con la relazione perché quello era un documento subito disponibile io quindi pur di diciamo di non essere più volte pressato e rimproverato tutto ciò che potevo trasmettere in quel momento per dare un patrimonio informativo l'ho trasmesso l'ha trasmesso benissimo una domanda luogo tenente prima di trasmettere queste annotazioni colicchio di sano quindi annotazioni di polizia giudiziaria di colicchio di sano lei le ha lette? allora io sì le ho lette certo le ho lette tutte e due e voglio dire colicchio me l'ha detto che recepiva quindi già conoscevo il contenuto di quello che di colicchio andiamo a quella di di sano io sì sì l'ho detta di sano e le posso aggiungere dottore che di sano siccome il 16 non aveva redatto nessuna relazione su queste condizioni descritte nella sua annotazione gli chiesi a di sano come mai non me l'hai detto questi particolari tu non me li hai raccontati il 16 aspetta lei si riferisce a questo passaggio che lo ricordo riferiva dolore alle costole e di non poter camminare veniva aiutato a salire le scale da personale della PMZ sì benissimo e si può dire che questa è la descrizione di uno che non sta bene che Cucchi non stava bene sì lo voglio proprio cioè le dico quello che mi disse di sano proprio che lui aveva inteso dettagliare questa situazione perché adesso che cioè all'epoca non me l'aveva detto il 16 perché gli era sembrata irrilevante perché il detenuto se l'era andato da solo questo è ciò che mi disse di sano perché io alla mia contestazione perché l'aveste scritto invece adesso a questa annotazione gli era stata scritta proprio perché una persona era deceduta quindi gli era stata richiesta chiedo scusa gli era stata richiesta perché una persona era deceduta e quindi lui proprio per descrivere che questa persona stesse male aveva anche se così come diceva Colicchio dottore loro dicevano stesse male di suo hanno sempre escluso sia lui che Colicchio che il detenuto potesse essere stato oggetto di violenze pregresse quella è stata poi un'ipotesi che ho fatto io dopo il giorno dopo al maggiore Soligo quando è venuto in ufficio ma che spiegherò lui quindi si era sentito nel dovere di dettagliare proprio per dire guardi nel mio turno non è successo nulla io non e non c'è nulla che posso riferire voglio evidenziare le condizioni di salute che stesse male la persona e per questo l'aveva puntualizzata a me non è sembrato strano questo dottore nel modo più assoluto che l'avesse dettagliato il 26 vabbè certo no 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 ma io non dico questo io quello che vorrei la conferma da parte sua dico leggendo questa annotazione sì dopo che Stefano Cucchi era morto che aveva diceva di avere difficoltà a salire le scale e aveva dolore al costato si può dire che era la descrizione di uno che non sta bene sì sì ma era proprio quello cioè lui voleva descrivere una persona che non stava bene questo proprio per dire cioè la persona non sta bene e quindi io la descrivo proprio per dire che nel mio turno non è successo nulla e dico in questa descrizione se ne rende conto da solo anche lei che l'epilessia non c'entra niente me lo conferma? sì sì non c'entra nulla l'epilessia assolutamente no era stato dottore mi scusi colicchio a dirmi che sì 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 questo è chiaro che aveva chiamato perché quei segnali per lui potevano essere premonitori di una crisi però ovviamente era una sua interpretazione e benissimo aveva fatto a chiamare cioè io per il primo dico non mi hai non mi hai informato ma quantomeno hai fatto quello che dovevi fare vabbè l'abbiamo sentito alla spiegazione di colicchio non mi interessava questo passaggio dell'annotazione di disano quindi insomma lei si rende conto di aver mandato due annotazioni quella di disano insomma che è particolarmente interessante su questo punto va bene comunque lei aveva eseguito un ordine cioè riceve l'ordine ricevo l'ordine e lo eseguo e quindi trasmetto ok e quindi le trasmetto senta quando nella serata del 26 che lei invia ha detto anche probabilmente prima il maggiore solico anche queste annotazioni sempre con Outlook si 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 in pdf in pdf lei in quel momento aveva i file word di quelle annotazioni aveva disponibilità no no infatti poi il giorno dopo l'ho chiesto a loro dove fossero salvati la domanda che mi interessa fare è questa quella sera il maggiore solico che era in trepitante attesa delle annotazioni non mi ha chiamato ecco ha avuto qualcosa da dire quando l'ha ricevuta assolutamente no ha sindacato sul contenuto no andiamo alla mattina del 27 allora la mattina del 27 sempre intorno alle ore 8 ho ricevuto una telefonata da parte del maggiore solico che ha esordito tu hai letto quelle annotazioni dice che cosa ci hai fatto scrivere e io voglio dire detto sì le ho lette guardi ma non sinceramente è quello che hanno cioè io non lei lo sa gliel'ho detto anche ieri io non so nulla della della vicenda faccio capire era un tono di rimprovero sì sì era un tono di rimprovero era un tono di rimprovero e infatti io cioè voglio dire mi sono messo sulla difensiva subito perché era un tono mi contestava innanzitutto hai avuto cognizione hai preso cognizione di quelle annotazioni le lette le viste che cosa hai fatto scrivere ma lei doveva fare scrivere no no perché normalmente dottore noi diciamo il personale quando redige una annotazione la porta a vedere al comandante dice è scritta bene parlo nella forma perché l'intervento è sempre volto a esplicare meglio un contenuto il contenuto dico nel rispetto della verità però anche perché dei cucchi non avrà mai visto io non potevo dare nessun contributo solo sotto forma di lessico forse forse non potevo dare nessun contributo e io ho detto che le avevano però dice no le annotazioni non vanno bene troppo particolareggiate ma è successo qualcosa gli avete alzato le mani perché chi legge ha la percezione che è una sorta di ostentazione di adesso cioè che è successo qualcosa insomma voglio dire che state mettendo le mani avanti questo c'è un escusazio non petita esatto e quindi mi dice questo estremamente non vandavano bene perché erano estremamente particolareggiate chi leggeva aveva questa percezione e chi è che vuole stare in camera di sicurezza nessuno quindi questa si riferiva alla relazione di colicchio e poi il e che c'hai i dottori a torsapienza cioè questo che vuoi dire c'è dottore perché avevano indicato colicchio nella sua annotazione e di sano in quella sua ciascuno aveva indicato il quello che era riferito dal detenuto leggendo l'annotazione aspetti cioè gli ha detto cioè i dottori nel senso colicchio di sano perché avevano refertato in poche parole questo il senso era questo hanno refertato le condizioni di salute si fermi un attimo quindi le contestazioni erano primo sono troppo particolareggiata sì ma scusi l'ocatenente una domanda che io già le ho fatto nel corso degli interrogatori ma le abbiamo dette tutti queste annotazioni ma sono mezza paginetta le sembrano tanto particolareggiata dottore io come ho detto al mio interrogatorio per il mio stile non sono particolareggiata ma questa è una diciamo è una mia opinione cioè lei avrebbe scritto di più certamente di più va bene io se ovviamente avessi saputo non sempre se avessi saputo cioè il perché voglio dire quello che magari è una questione soggettiva una persona può descriverlo in tre quattro parole io ne posso impiegare anche dieci e per me è più particolareggiata però magari quelle tre parole sono state più incisive delle mie dieci ma io sono cioè per il mio stile queste non erano particolareggiate però me lo sta dicendo il mio comandante di compagnia voglio dire ecco che figura di garanzia figura di riferimento persona alla quale si voglio dire è la prima figura di riferimento di cui si ha la piena fiducia e voglio aggiungere e tra l'altro il maggiore soligo proveniva dalla sezione disciplina del comando di corpo della legione carabinieri Lazio cioè dove approda personale competente qualificato in materie giuridiche che esamina il voglio dire quindi aveva anche un certo titolo cioè al di là della sua carica aveva anche un suo titolo oltre che giuridico ma di qualifica una persona qualificata ti dice così io aspetti un secondo no volevo dire diciamo per telefono gli ho detto al maggiore soligo che non andavano bene aspetti un secondo lei ha detto quindi la prima contestazione è che erano particolareggiate e lei ha espresso la sua pautazione la seconda è che così che di sano si erano lanciati se ho capito bene in valutazioni medico-legali in valutazioni medico-legali ma lei ha detto queste annotazioni sì ma ci sono valutazioni medico-legali o un riferito del detenuto come c'è scritto c'è un riferito del detenuto ok e poi la terza era che aveva sbagliato Colicchio scrive che non era un ultrone c'era questo chi vuole stare in camera di sicurezza nessuno dico quindi che ce lo scrivete a fare in realtà Colicchio non l'aveva scritto nella sua annotazione nella sua annotazione l'aveva scritto nella relazione l'aveva scritto nella relazione però voglio dire la contestazione l'ha mossa ma scusi ma a questo lei ha detto una figura di garanzia il comandante di compagnia nel caso di specie era una persona particolarmente diciamo competente competente sì anche perché quello mi sembra era il terzo comando di compagnia che reggeva ecco vorrei sapere ma questa figura di garanzia particolarmente competente nel corso di questa telefonata lei ebbe a dire maggiore sono mortificato però ormai l'ho mandata e sì infatti stavo concludendo poi mi sono fermato dottore non ha chiesto dopo che mi ha esposto cioè mi ha mosso queste contestazioni io gli ho detto ma sio maggiore come mi ha detto lei io ieri sera oltre a mandarli a lei le ho mandate alla stazione Appia e queste annotazioni e se lei mi dice che non vanno bene ma io ormai le ho già trasmesse e lui mi disse no non ti preoccupare dice questo non è il problema quelle sono delle bozze dice non ti preoccupare non sono state rassegnate all'autorità giudiziaria no ma scusi sempre per capire perché non si finisce mai di imparare ma queste bozze che secondo il maggior sovrigo le ha precisato che erano protocollate sottoscritte firmate trasmesse via fax con nota di trasmissione io ho detto le ho trasmesse in fax con mia missiva alla stazione Appia le annotazioni poi recavano ambe due sulla parte in calce a destra una classifica un numero di protocollo anche se in realtà non era manco quella protocollazione perché si può protocollare un documento prima dopo diciamo prima durante e dopo non era quello il sigillo per me il sigillo che l'avevo trasmessa beh sì oddio si può protocollare prima durante e dopo però quelle erano protocollate sì sì no no erano protocollate erano protocollate io dicevo io però per me per me era la trasmissione certo il che avevo fatto sì sì per lei perché la trasmissione la firma lei perché la firmo io la trasmissione ok ok è per questo però lui mi ha dato quella risposta e lì si chiude la telefonata si chiude la telefonata ma quel giorno era prevista qualcosa nella stazione di Tossa Pies no no un attimo non si chiude la telefonata in realtà cioè si chiude questa parentesi perché la telefonata non si è chiusa così e andiamo avanti nella stessa telefonata il maggiore soligo mi dice dice guarda devo parlare con Colicchio e Di Sano visto che sto venendo a Tossa Pienza fammeli trovare lì Colicchio era di Piantone 6-12 ma in realtà Di Sano aveva smontato il giorno precedente quindi con il suo turno 12-18 poi prolungato con lo straordinario dalle 18-30 alle 19-30 ma il 27 intorno all'ora di pranzo doveva partire un po' dopo l'ora di pranzo non mi ricordo con precisione comunque la partenza era il 27 in aereo dove doveva andare? a Palermo e perché? perché lui ha la famiglia d'origine lì nella città tra l'altro Di Sano accumulava riposi li accodava e faceva seguire la licenza dei riposi proprio per andava ogni due mesi un mese e mezzo comunque faceva faceva trascorrere parecchio diciamo per accumularsi più giorni e trascorrere più giorni con i familiari e non consumarsi subito in due o tre mesi il periodo di ferie ma come fanno un po' tutti i militari dottore e quindi disse che non dovevano partire anche io ho il maggiore solito guardi che Di Sano cioè che li doveva li voleva incontrare anche io disse suo maggiore guardi il carabiniere Di Sano ha smontato ieri sera deve partire no Di Sano non deve partire perché il io non posso i superiori mi stanno continuamente chiamando non mi indicò che è superiore però scusi il superiore immediatamente diretto del comandante di compagnia chi è? è il comando gruppo all'epoca comandava il generale Alessandro Casarsa c'è colonnello chiedo scusa comandante di colonnello il superiore diretto cioè lei prendeva ordini dal comandante di compagnia il comandante di compagnia dal comandante di gruppo prende ordini dal comandante di gruppo sì nella struttura piramidale c'è compagnia gruppo provinciale regionale comando generale quindi i superiori mi stanno chiamando e questo non mi disse che i superiori i superiori mi stanno chiamando e non posso correre il rischio che il telefono non prenda il carabiniere ce l'abbia spento quindi lui fu imperativo e di San non dovesse partire senta ma se lo sa ma che cosa era accaduto nella mattina del 27 ottobre 2009 per scatenare tutto questo putiferio dottore questo lo ha preso dopo in quel momento non lo sapevo e questo nel patrimonio mio conoscitivo era perché tutta la rassegna stampa io del giorno 27 l'ho visualizzata il 28 quindi perché il 27 c'era la visita quadrimestrale motivo per il quale che era già stata programmata con ampio anticipo ancora prima del decesso del signor Cucchi e il quindi parecchio tempo prima del decesso del signor Cucchi questa visita quadrimestrale alla stazione Torsapienza e quindi io diciamo per me la fibrillazione era la visita quadrimestrale ma come ogni comandante di stazione anche perché il maggiore Soligo era molto molto preciso nei suoi controlli era cioè vivisezionava posso dire insomma il buro praticamente professionalmente un comandante di stazione nelle visite scusi un secondo dopo tenente poi parliamo ci spiega cos'è la visita quadrimestrale vorrei sapere io sono sempre fermo a Disano che aveva l'aereo sì che aveva l'aereo e quindi lei questa telefonata di cui sta parlando a che ora la riceve più o meno e l'abbiamo detto intorno alle 8 dottore ho detto intorno alle 8 intorno alle 8 di mattina sì e Disano lei ha detto aveva l'aereo l'aereo verso l'ora di pranzo un po' dopo non mi ricordo se erano le 2 le 3 le 4 cioè era era calcolando poi che doveva fare il check in quindi doveva lui ma aveva già fatto le valigie ecco perché io poi avevo fatto anche un po' di confusione col fatto del 26 che mi mi metteva fretta va bene ho finito me ne posso andare me ne posso andare parlo del 26 perché per il fatto delle valigie ecco perché io c'era stato un equivoco tra il 26 e il 27 ho capito ma insomma ormai il biglietto l'aveva fatto e quindi ho fatto cioè ho fatto chiamare Disano che era in camera e l'ho fatto venire in ufficio e glielo ho comunicato gli ho anticipato quella che in realtà era la volontà del maggiore soligo cioè di non farlo partire perché la notazione gli ho detto non andava bene e l'ho spiegato sia a lui che colicchio che era piantone pure cioè gli ha detto quello che aveva detto sì sì ho detto quello che ha detto e loro e loro la prima cosa che tutti e due mi hanno detto dice perché loro avevano avvisato che il maggiore soligo avrebbe fatto l'esame disciplinare cioè avevo mandato le annotazioni in pdf al maggiore soligo per la parte disciplinare della vicenda e loro dice ma come gliela ha mandato ieri sera e ora ce lo fa stamattina dice ieri sera lei stavano bene le annotazioni e stamattina non stanno più bene cioè queste queste e io poi quando ho detto dell'ostentazione perché io pari pari come l'ho ricevuto il messaggio dal maggiore così l'ho detto ai carabinieri ma anche perché mi sembrava doveroso cioè loro adesso ci dovevano parlare essere a conoscenza di quello che in realtà stava contestando per il mio tramite a loro il maggiore non a me e loro hanno detto ma come ieri sera e poi dice ma quale ostentazione dice noi abbiamo scritto voglio dire quello che c'era da scrivere qui da noi non è successo nulla ecco perché il e poi è venuto di sano comunque era furibondo e non era mai successo che io che io o qualcun altro bloccasse loro una partenza perché poi lui l'ha perso il biglietto aereo il costo ma non gli ha rimbossato no non l'ha rimbossato nessuno perché lui dottore era nella posizione di militare a recupero riposo e l'istituto della licenza del recupero diciamo del rimborso prevede che il militare debba stare in licenza quindi lui non si trovava nella posizione nemmeno di poterlo chiedere l'aveva preso siccome andava ogni mese e mezzo a casa l'aveva preso quei biglietti low cost a basso costo e quindi non poteva poi riconvertirlo con un altro biglietto era perso e poi partì nel tardo pomeriggio in auto quando fu il maggiore soligo a darmi il via libera poi ma mi faccio capire quindi di sano tornava a casa ogni mese e mezzo più o meno sì un mese e mezzo un mese un mese e mezzo insomma quando partiva andava sempre però quella volta erano due mesi che mancava dall'estate perché andava sempre a casa era molto legato alla famiglia legato alla famiglia poi diciamo lui accumulava aveva un guardaroba molto ampio accumulava e portava tutto quanto giù ai familiari insomma e quindi era molto legato alla famiglia eppure per una questione diciamo organizzativa sua c'è un guardaroba in che senso no dicevo guardaroba come biancheria tutto quanto lui convogliava tutto con tutto giù ma era era molto molto legato all'epoca mi sembra fosse anche fidanzato giù quindi ha maggior ragione c'è rimasto male di santo molto 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 male infatti lui ha sperato fino all'ultimo di riuscire a prendere l'aereo senta parliamo un po' di questa visita quadrimestrale se ci spiega cos'è con quale anticipo viene programmata eccetera eccetera che cosa si fa quali sono le attività quanto dura allora la la visita quadrimestrale è praticamente l'analisi dell'andamento di un reparto nella sua totalità riguarda un aspetto parte da un aspetto logistico cioè della caserma quindi come si presenta la caserma se è seguita tutti i registri dell'impianto di riscaldamento tutte richieste vengono analizzate tutte richieste di varie manutenzioni ordinarie straordinarie si passa poi all'analisi delle varie tipologie di contabilità che può avere un comando di stazione da quella telefonica alla contravvenzionale si analizzano tutti i dati statistici della del comando quindi l'andamento operativo viene analizzata pure l'attività di polizia giudiziaria sotto un profilo anche documentale cioè i tempi di evasione delle deleghe la completezza delle comunicazioni di notizie di reato i tempi di evasione delle denunce per poi andare alle armi ai materiali corrispondenza dei lotti delle munizioni cioè una visita quadrimestrale normalmente e non mi dilungo perché ci sarebbe ancora da dire altro pubblicazioni ordinarie classificate carteggio classificato insomma una visita quadrimestrale normalmente durava 4-5 ore senta lei da quanto tempo se lo ricorda il maggiore suo ricordo è il comandante della compagnia Montesauro allora nel se non ricordo male settembre 2007 quindi aveva fatto altre visite quadrimestrale si 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 ne aveva fatte ed era insomma ed era preciso molto ecco perché la mia fibrillazione era la visita mi scusi purtroppo non avendo avuto alcun segnale alcuna nessun alert da chiunque io quel giorno avevo centrato tutto sulla visita quadrimestrale che per me è molto molto analitica quindi e andava preparato pure con un largo anticipo io purtroppo quel giorno il 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 26 ero stato avevo trascorso diciamo la mattinata in tribunale di testimonianza il primo pomeriggio ero passato a Montesacro ero orientato infatti finì molto tardi quella sera in ufficio mi sembra alle 23.50 proprio perché dovevo preparare tutti quei dati statistici tutta quell'attività quindi fui molto assorbito e diciamo distratto da questo senta ma quindi lei ha detto durava minimo 4-5 ore ricorda che ora arrivò quel giorno il Maggiore Soligo allora il Maggiore Soligo arrivò intorno alle 9.30 dottore devo fare una precisazione che in sede di interrogatorio non non ho fatto ma mi si è diciamo accesa la memoria con il leggendo gli atti al 415 bis prego il prima di venire in caserma ci fu un diciamo in questa fascia oraria dalle 8 a che arrivò alle 9.30 io ricetti un'altra telefonata dal Maggiore Soligo nella quale mi chiese se noi avessimo acquisito a Torsapienza il referto di pronto soccorso da parte del personale sanitario intervenuto sul posto a Torsapienza io dissi guardi il referto non è stato acquisito ma non ce n'era manco motivo di acquisirlo perché la persona aveva rifiutato di farsi visitare per come mi aveva riferito Colicchio se no bisogna farne la richiesta e infatti con il progressivo numero 54 del suo indice c'è il la richiesta della stazione Torsapienza fatta all'Ares 118 intorno alle 9 con risposta dell'Ares del 9 del 27 del 9 del 27 quindi non fu chiesto il 26 ma non c'era motivo di chiederla fu chiesto il 27 perché me lo indicò il maggiore soligo telefonicamente e la richiesta dell'Ares di Torsapienza il progressivo sono da 54 a 58 del fascicolo del pubblico ministero sono c'è la richiesta della stazione la risposta dell'Ares alla quale risposta mi sembra arriva intorno alle 11 e 54 il fax vado a memoria nella quale risposta è allegato il cartellino di emergenza che è quella scheda che compila l'operatore della centrale dell'Ares più il modulo di rilevazione dati che è stato compilato invece sul posto dall'infermiere dal personale dei paramedici che avevano invece visitato dopo il rifiuto il detenuto invece Colicchio mi aveva detto che il detenuto non era stato visitato ma invece i parametri vitali erano stati presi risulta da quella scheda quindi questa scheda poi io a fine visita se la porto via con tutta la richiesta il maggiore e il numero di protocollo è 16 barra 211 la redasse Colicchio quella lettera perché ha anche la numerazione relativa alla sua annotazione Colicchio era di piantone quindi si continuava ad utilizzare come numeratore quello sì in quel caso allora mentre di sano la lettera è stata trattata col 16 barra 212 che era il protocollo la lettera appia la lettera invece di quella lì siccome c'era Colicchio e lo dissi a Colicchio che era in servizio fu utilizzato il protocollo 16 barra 211 volevo aggiungere pure che di sano quel giorno io gli chiesi poi perché mi dispiaceva che era stato bloccato cioè se lui volesse che lo segnassi di servizio per non perdere la giornata voglio dire perché diciamo immaginavo che per dirmi i falli devono stare lì non ce l'avrebbe fatta con la tempistica ma di sano mi disse no 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 comandante non mi segni di servizio perché se poi accade qualcosa il come posso cioè partire mentre ora ce l'ho la possibilità di riuscire a prendere l'aereo e di partire perché io questo glielo chiesi subito prima che venisse il maggiore se volessi se insomma lui gradisse che gli facessi la variazione perché il 27 di sano nel memoriale a recupero di riposo ma lui mi disse di no che non la gradiva questa variazione perché dice io in qualsiasi momento sbroglio la situazione posso partire e prendere l'aereo quindi di sano rimase sul memoriale del 27 a riposo mentre è presente nel registro delle visite che compilò il comandante della compagnia il non in sede se lo porta via ma poi mi sembrano il 30 31 qualche giorno dopo che attesta la presenza di disano nella parte in cui incontra tutto il personale della sede prima collettivamente per trattare argomenti chiamiamoli di ampio respiro e poi li incontra individualmente per sentire se ciascuno avesse delle proprie le esibisco il memoriale del servizio del 27 e la visita del comandante di compagnia uno al giudice per favore uno all'imputato mi dica se sta facendo riferimento a questi atti grazie allora 27 penso sia no signor giudice sono due posso allora il memoriale del 27 infatti risulta di sano francesco 0024 recupero riposo come dicevo prima mentre nel registro delle visite al prima l'ultimo l'ultimo paragrafo problemi del personale ho incontrato i seguenti militari Colombo Labriola Grimaldi Colicchio Giarrocco Palermo Adinolfi Disano Capozza e Cannistraci quindi viene elencato tutto il personale nessuno ha presentato problemi di servizio al momento non erano presenti e ho incontrato dice l'altro personale che non era presente l'ha incontrato nell'ambito delle normali ispezioni invece nel memoriale nel memoriale invece risultava recupero riposo perché nel memoriale risulta che un carabiniere l'ha assistita infatti infatti dalle 12 alle 14 c'è scritto il carabiniere Colicchio Gianluca come lavoro straordinario in ufficio per rapporto comandante della compagnia al personale della sede in occasione della visita quadrimestrale assiste il comandante della stazione durante la visita quindi in realtà insieme a Colicchio c'è anche Disano che ha fatto le stesse cose quel giorno però era a riposo no perché il diciamo Disano Disano era in caserma il è stato ricevuto il devo passare dall'arrivo del Maggiore poi in caserma dove mi ero fermato quindi il Maggiore arriva in no aspetti no perché poi l'hai aperto un'altra parola si è avevamo rimasto la domanda a cosa è arrivato lei ha detto alle 9.30 quindi prima dell'arrivo ricevo mi sono ricordato di questa telefonata e di questa richiesta ok poi è arrivato insomma a che ora sei andato allora è andato via intorno alle 14 le dico perché sono quell'orario intorno innanzitutto per lo straordinario di Colicchio perché Colicchio si ferma con lo straordinario alle 14 con il mio straordinario segnato dalle dalle 14 alle 16 dove in realtà io sono stato a redigere un primo appunto sulla vicenda che mi aveva chiesto il Maggiore Soligo a fine della visita appunto che io poi diciamo gli mandai sempre alla sua email individuale istituzionale il 27 quindi sono stato impegnato dopo la visita a redigere quell'appunto il Maggiore Soligo quindi è arrivato alle 9 30 è andato via alle 14 circa e il rapporto sarà durato le dico subito dottore meno di due giorni rapporto scusi la visita quadrimestrale meno di due ore molto meno meno di due quindi diciamo di tutte quelle attività che lei ha indicato sono state fatte tutte in maniera molto speditiva cioè come firma sui registri giusto le armi furono controllate a campione ma tutti per esempio i corpi di reato le contabilità tutti memoriali perché la visita è quadrimestrale dottore voglio dire abbraccia quattro mesi ecco perché dura tanto cioè si prendono va di quattro mesi in quattro mesi quindi l'invaglio l'esame di tutto è sui quattro mesi antecedenti la data della visita quindi io la faccio ad aprile e vado quattro mesi prima e perché fu così speditivo quello? allora appena arrivato a Tor Sapienza come normalmente sempre accaduto viene ricevuto cioè io vado ad accogliere all'ingresso al cancello lo accompagno nel mio ufficio e qui nel mio ufficio la prima cosa che ha ripetuto il maggiore Soligo era quello che mi aveva già anticipato al telefono cioè che le annotazioni non andavano bene a quel punto mi ha detto di fare entrare sempre le stesse cose sì sempre ripetendo sempre la stessa cosa che erano troppo particolare che non erano dei medici e che chi vuole stare in caserma in camera di sicurezza nelle camere di sicurezza chi vuole stare chiede scusa la camera di sicurezza da me da solo primo step all'arrivo ok mi dice poi di fare entrare a colicchio e di sano in mia presenza dice loro ripete loro queste contestazioni alle quali aggiunge perché era presente di sano il fatto che ma i detenuti li fate girare liberamente in caserma o sono accompagnati allora i detenuti in caserma non giravano liberamente i detenuti una volta che venivano dimessi uscivano dalla cella scusi a cosa si stava riferendo alla parte di disano dove all'annotazione di disano era evidente cioè lui non l'ha detto ma era evidente l'unico passaggio era quello cioè della salita del detenuto però mi scusi logotenente ma se non sbaglio mi corregga lei se sbaglio prima di essere scritto nell'annotazione di disano veniva accompagnato a salire le scale cioè scritto riferiva di non poter camminare si prima riferiva dolore alle costole e di non poter camminare di non poter camminare soprattutto e poi ce l'ha scritto veniva comunque aiutato a salire le scale che c'entra questa considerazione però questo dottor su ciò che ha detto capito dice lei il comandante di compagnia andiamo ma che domanda è questa scusi pubblico ministero non ho capito questa ultima domanda che ha fatto è avvocato o fa opposizione la spiegazione della domanda non è prevista noi faccio la spiegazione e non ho capito la domanda se no l'abbiamo pagato la domanda si chiede di non capire sia per cento magari capisci pubblico ministero andiamo avanti no io non ho capito che succede di non capire andiamo avanti lo co tenente no io sto parlando con il giudice pubblico ministero la domanda era ammissibile e l'imputato ha risposto eh ma dico che cosa ha chiesto perché io non ho capito che cosa ha chiesto non riesco come non me lo dice se me lo dice lei ha chiesto con riferimento alle esternazioni del di soligo riferite in sua presenza con riferimento al contenuto e quello che l'imputato ha percepito eh fossero riferite quindi andiamo avanti il maggiore di soligo dice ma perché di solito girano liberamente girano liberamente li fate girare liberamente eh allora premesso che i detenuti lo sapevano benissimo i piantoni che quando uscivano dalla camera di sicurezza dovevano essere ammanettati perché non ricordo dottore Guardi qualche anno prima c'era stato proprio un episodio nell'ambito della nostra compagnia nel quale un detenuto una persona arrestata simulando un malore si era lanciata dal primo piano di questa stazione e poi dopo serrate ricerche l'avevamo eh eravamo riusciti a rintracciarlo in zona San Giovanni no non era la stazione Torsapienza era un'altra stazione però proprio per questo eravamo molto sensibili a questo passaggio quindi detto detto questo però a me non risultava che il detenuto avesse girato liberamente per la caserma voglio dire ha mosso questa contestazione dopodiché alla quale io questa volta erano presenti i carabinieri e ho risposto dico ma signor Maggiore dico ma lei come sa ieri sera io le annotazioni le ho trasmesse alla stazione Appia e voglio dire non ah scusi dottore volevo perché volevo cambiato discorso quando mosse le contestazioni in presenza dei carabinieri ha detto che devono essere modificate le annotazioni lui l'ha specificato le annotazioni non vanno bene per questo per questo per questi quattro motivi e devono essere modificate ma fra i quattro motivi c'era pure di nuovo il fatto delle scusazioni non pedita si sempre sempre allora dottore se vuole io ogni volta lo ripeto lui ha ha precisato sono estremamente estremamente particolareggiate sembra che sia successo qualcosa per chi le legge ha questa percezione la percezione è questa che si stiano mettendo le mani avanti perché è successo qualcosa aspetta domanda ma in quella fase lei ha detto ma signor Maggiore ma se noi togliamo qualcosa che è successo invece di fare una scusazione impedita tiriamo l'attenzione sì adesso arrivo dottore se le stavo ripetendo va bene allora quindi nuove quelle quattro contestazioni ok allora le premetto dottore io questa è stata l'ho sempre detto una mia valutazione una mia opinione perché per come erano scritte quella di disano era una consecuzio di quella di colicchio dove colicchio in realtà cosa dava atto che dopo venti minuti dall'entrata in camera di sicurezza la persona aveva gli aveva manifestato gli aveva riferito una serie di malori quindi secondo la mia interpretazione ma questa è mia personale se fosse accaduto qualcosa è accaduto prima no non può essere accaduto a torsapienza e lo dissi questo al Maggiore alleggerendo generalizzando visto che la contestazione erano estremamente precise quindi vuol dire che sono troppo dettagliate generalizzando il contenuto di queste annotazioni i due carabinieri avrebbero potuto avere problemi poi cioè se mentre come c'è scritto erano esclusi si poteva ragionalmente escludere attenzione tutto poteva essere successo pure anche se io lo escludevo perché li conoscevo benissimo e sapevo la loro sensibilità verso tutte le persone soprattutto quelle fragili ma facendo questo alleggerimento questa generalizzazione si correva il rischio avrebbero potuto avere dei problemi quindi anche la stazione siccome sono due carabinieri di torsapienza anche la stazione torsapienza va sotto i riflettori quando invece come c'è scritto si capisce secondo me in più in più c'era la questione che io l'avessi trasmesse la sera precedente con la infazza così come mi ha detto lei di fare quindi mi scusi glielo faccio ripetere per essere sicuro lei disse proprio guardi che se è successo qualcosa è successo prima sì sì lo dissi ma dottore oltre a essere evidente io l'ho anche detto perché ma l'ho detto anche dottore perché prima che arrivasse i due carabinieri ma come noi non abbiamo ostentato nulla cioè era evidente loro voglio dire in quel momento io ero come posso dire il loro portavoce mi sentivo come sono il loro comandante di stazione sono per loro la figura naturale di riferimento come per me lo è il comandante di compagnia quindi mi sentivo proprio nel dovere morale di dirlo perché tra l'altro poi l'avevano espresso prima ecco perché il ho detto questo e ho ripetuto la questione dell'appia ma il maggiore è rimasto sulla sua posizione cioè ha detto no dice guardate il mio pensiero l'ho espresso dice e poi queste sono delle non sono state ancora rassegnate all'autorità giudiziaria dice pertanto sono delle bozze mancano del connotato di formalità c'è perché se sono state concepite per l'autorità giudiziaria e non sono state rassegnate all'autorità giudiziaria vuol dire non hanno la formalità dottore io ho creduto cioè in quel momento il maggiore soligo perché dovrebbe dirci una bugia perché ci dovrebbe trarre un danno ma scusi loco tenente vi faccio una domanda Cucchi è pacifico dico risultava in quel momento risultava anche la documentazione sanitaria nella serata del 16 ottobre 2009 aveva andato a fare bene i fratelli avevano fatto una radiografia e avevano riscontrato le fratture di due vertebre le difficoltà a camminare notate da di San non erano riconducibili a quello lei lo sapeva? no vabbè no dottore non avevamo nemmeno gli atti di Appia io avevo della stazione Appia solo la lettera di associazione a Torsapienza non avevamo nulla vabbè insomma lei dice io mi faccia capire un'altra cosa queste considerazioni del maggiore suo dico erano pensieri in libertà o erano ordini? beh allora quando dice deve essere modificata non è l'ordine non è che varia se ci sia il garbo nel farlo nel porlo o la perentorità deve essere modificata devono essere modificate è un ordine cioè lei come tale l'ha percepito io come tale l'ho percepito ed è proprio per questo che ho rappresentato devono essere modificate e allora un attimo cioè ma anche come spirito di collaborazione cioè per me dottore torno a ripetere adesso al di là del non sapere nulla ma il dovere morale pure un inferiore deve anche verso il suo superiore essere propositivo non solo a eseguire incondizionatamente io l'ho fatto come forma di proposizione ho espresso la mia opinione la mia cioè se ho capito bene lei ha detto forse non hai capito che l'ho già mandato e io cioè sì ma mi dici che non ha una formalità sì 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 è stato chiaro grazie forse non sapevo se sono riuscito a spiegarlo perfettamente andiamo avanti quindi siamo nel momento in cui il maggiore soligo esprime queste sue perplessità e fa da queste disposizioni e ci siete lei soligo colicchio e di sano sì io ho il centro colicchio e di sano dietro e il maggiore soligo seduto alla mia scrivania quindi dietro alla poltrona dietro la scrivania del comandante di stazione noi gli stavamo di fronte e il fatta questa affermazione quindi il che devono essere modificate e il e la questione bozze diceva bene mi sembra che iniziò colicchio e sono quasi sicuro che fosse colicchio a iniziare tra colicchio e di sano disse a colicchio quindi di fermarsi e in automatico gli e di sano uscimmo o io colicchio uscimmo cioè disse a uno dei due di fermarsi in ufficio con lui perché da lì a seguire ebbe almeno due colloqui individuali con i due militari ma dove dentro l'ufficio mio cioè io sono uscito e lui è uscito sì sì sono uscito dall'ufficio gli hanno detto di uscire no allora in realtà se lui mi avesse voluto tenere nell'ufficio me lo diceva perché rivolgendosi al militare resta qua in automatico noi la disciplina la conosciamo se il superiore ci dice di restare restiamo se non ce lo dice usciamo ok quindi lei l'ha percepito come un ordine di uscita io l'ho percepito come un ordine di uscita ma che lui non mi ha smentito non mi ha detto no tu resta qui ok ma li ha sentiti insieme o separatamente no separatamente tutte e due queste circostanze separatamente come normalmente si fa in un accertamento disciplinare no le dico perché lei nell'interrogatorio ha detto a quel punto il maggiore solito mi fece uscire oggi ha spiegato in che termine gli disse di uscita per parlare da solo con i due carabinieri e li ascoltò prima insieme e poi separatamente sì allora lì avvocato scusate dottore nel 2000 l'interrogatorio abbiamo fatto se ho detto così è accaduto così cioè adesso il quindi praticamente eravate quattro poi esce lei esco io ma loro sono stati poco però in due e poi ha iniziato a detto lei a sentire mi sembra colicchio mi sembra ma esattamente cosa faceva cioè gli eh io non lo so dottore cioè gli faceva una specie di esame interrogatorio allora questo le posso dire la mia interpretazione è che volesse incrociare la linearità delle loro dichiarazioni rispetto allo scritto certo è corretto anche io avrei fatto così quindi prima sentiva uno poi faceva uscire sentiva l'altro e poi rientrava il primo e uscita il secondo dopo questo diciamo e questo guardi è durato fino a prima che mi chiedesse la la dove avessero salvato le annotazioni cioè li sente loro due in queste modalità dopo di che dopo che il secondo in questa alternanza il e quindi disgiuntamente soli stava il militare e il maggiore in ufficio escono mi chiama e mi dice chi? il maggiore soligo mi chiama e mi dice dove hanno salvato le loro annotazioni file word colicchio e disano io non lo sapevo nel senso potevano averle salvate pure in rete perché noi avevamo un server con ogni carabiniere aveva la sua cartella nominativa cartella di colicchio cartella di disano cartella di colombo labriola potevano averla salvata là potevano averla salvata su una chiavetta potevano averla salvata sul loro desktop del pc quindi in locale non in rete ma in rete intende una cartella condivisa avevate sì avevamo una cartella condivisa archivio con delle sotto cartelle entro le quali poi ciascuno aveva i file con cui lavorava e non sapendolo sono andato a loro e ho detto ho chiesto sia di sano che a colicchio dove avete salvato i file word perché li vuole il maggiore soligo loro mi hanno indicato il percorso io sono rientrato nell'ufficio maggiore soligo sempre seduto alla mia scrivania ho aperto mi sono messo al suo fianco ho aperto i due file glielo ho aperti e da lì abbiamo cominciato la visita quadrimestrale ma scusi aprite cioè sì li apri i due file li apri i due file saranno passati iniziamo la visita prendimi sto registro quest'altro insomma saranno passati circa una ventina di minuti a occhi e croce guardi molto dieci minuti un quarto tra i dieci e venti minuti mi lascio come lasso temporale a memoria e mi ha detto guarda questi devi trasmetterli al colonnello cavallo questi due file word li devi trasmettere al colonnello cavallo e chi era il colonnello cavallo era l'ufficiale addetto al gruppo roma le premetto dottore io il colonnello cavallo lo conoscevo come gruppo le parlo del 2009 in quel momento come gruppo firma cioè perché arrivavano atti inattergato quindi trasmessi perché il gruppo a meno che non ci siano questioni di contabilità ma transita sempre le compagnie nelle risposte è sempre un transito via gerarchica e quindi lo conoscevo il colonnello cavallo come gruppo firma fisicamente non l'avevo mai visto che era tenente colonnello tenente colonnello cavallo sì sì no da noi il diciamo il tenente colonnello da noi si appella come colonnello dico un tenente colonnello che è in fondo io chiamo signor colonnello sì sì dico lo chiama signor colonnello se si rivolge a lui signor colonnello è anche un tenente colonnello voglio dire senta luogotenente prima di spiegare poi se lei ha eseguito anche questa disposizione e vorrei sapere ma in quella mattinata mentre c'era tutto questo esame incrociato il codicchio di sano e poi darmi file word dove stanno ha avuto modo di notare se il maggiore solico riceveva delle telefonate sì prima che mi dicesse sì i fatti sono tanti non si preoccupare prima che trasmettessi l'email lui innanzitutto ricevette nell'intero arco della visita quindi parliamo dalle 9.30 a circa le 14 circa 9.30 circa 14 ricevette guardi dalle 2 alle più di una sicura dalle 2 alle 4 telefonate io più di 4 non me ne ricordo ma la sua presenza sì sì mia presenza dove rispondeva comandi signor colonnello e alla alla prima telefonata mi fece cenno di uscire questo lo ricordo proprio c'è un ricordo diretto che con la mano mi insomma mi indicò vai verso la porta perché dove la sua seduta c'era la porta di uscita della stanza del comandante della stazione sulla sinistra mi fece il cenno con la mano così e uscì non mi ricordo se alla alla seconda telefonata pure mi fece cenno di uscire o io avevo capito tra l'altro se una persona vuole non parlo di gradisce ma vuole la presenza in ufficio se vede che io mi giro ed esco c'è no resta quindi non ebbi un controordine o di andarmene fuori dalla stanza io se per discusione era sempre comandi signor sempre comandi signor colonnello non comandi signor generale comandi signor colonnello e sicuramente sono state telefonate prima dell'invio dell'email ok senta quindi poi stavamo dicendo che dice dobbiamo mandare questa lettera anzi manda questa lettera al no le due annotazioni le due annotazioni di trasmetterla all'indirizzo email del colonnello cavallo che mi indico lui allora io come ho detto prima col colonnello non lo conoscevo l'indirizzo me lo indicò lui io gli dissi pure signor maggiore cosa scrivo va bene detenuto cucchi stefano dissi si si va bene è giusto dice un flash non mi spiegò non mi diede indicazioni dottore voglio anche aggiungere che quando disse che le annotazioni devono essere modificate il maggiore soligo non ha specificato come e chi le dovesse modificare questo non ce l'ha detto quantomeno voglio dire alla presenza congiunta mia di disano e di colicchio non è stata data questa indicazione solo devono essere modificate diciamo in senso generico a fronte di quelle contestazioni allora ritorno sull'email e come ho spiegato prima non potevo trasmetterla col doxpa e quindi avevo l'outlook e l'ho trasmessa con l'outlook aspetti che gliela esibisco si una una ecco potrei sapere questo è legato fin dall'interrogatorio del 18 ottobre 2018 potrei sapere se ci dice questa cosa che cos'è esattamente allora questo è lo screenshot del dell'applicativo doxpa della ricezione però riferito alla ricezione dell'email è inglobata arrivata sull'outlook inglobata con operazioni di scarico posta da me il col doxpa è protocollata il 28 ottobre del 2009 in questo documento in questo documento inglobata che vuol dire inglobata c'è praticamente devo spiegare un brevissimo no no guardi perché la sua precisione su questo argomento è particolarmente gradita su doxpa ecco non dia niente per scontato la spieghi bene allora il premesso dottore io non ho una cultura informatica quello che conosco è perché ho ci ho lavorato con questi programmi quindi con negli anni con l'esperienza il mio titolo di studio è tutt'altro la posta elettronica a Tor Sapienza era strutturata in questo modo esisteva l'applicativo l'outlook la versione dell'anno 2009 su cui diciamo si poggiava e lo dico forse non è un'espressione tecnica ma voglio spiegarla proprio nella sua concretezza si poggiava questo DOCSPA questo applicativo dell'arma arrivata quando arrivava un'email arrivava nell'outlook sull'outlook nel DOCSPA io dovevo dare un'operazione di scarico posta per poter inglobare incamerare quello che era arrivato sull'outlook che è cosa diversa dalla protocollazione sull'outlook no è diversa non c'entra adesso spiego la protocollizzazione ora ci arrivo vado step passaggio passo per passo questo 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 inglobare quindi è nell'inglobare è come una rete buttata nel mare tutto ciò che arrivava quindi anche gli indirizzi non catalogati diciamo non presenti venivano tutti presi veniva assorbito tutto ovviamente poi cosa si faceva quello che era di interesse si dopo aver dato l'operazione col DOCSPA dello scarico posta quello che era di interesse lo si protocollava informaticamente e qual era l'operazione era quella che bisognava cliccare sulla in basso a sinistra ci sono delle cartelle salva protocolla riproponi annulla e la cartella protocolla lì bisognava cliccare per avere il protocollo informatico che è quello che compare su segnatura 28 ottobre 2009 scusa l'avvocato Bonzano di festa d'estarmata è solo per capire siccome vedo che è legge per seguire anche noi dov'è che sta guardando questo casale chiedo scusa è solo per è l'allegato che ha mostrato il pubblico ministero quello diciamo della famosa mail perché è stata già sarebbe l'allegato 5 dell'interrogatorio pubblico 433 progressivo 4 l'avvocato l'avevo detto l'allegato 5 perfetto grazie scusatemi no prego continuo quindi vado avanti ho quasi terminato la descrizione quindi digitando protocolla davo il protocollo informatico poi questa però del doc questo screenshot di questa videata si compone dobbiamo dire che questo si compone poi il doc spa di carte è come un archivio in questo caso può essere usato sia nella ricezione nella trasmissione ma anche come archiviazione cioè io ciò che il che non necessariamente ciò che genero devo trasmettere posso anche generare per e archiviare quindi non necessariamente trasmettere il e il il doc spa presenta ovviamente c'è una prima questa sarebbe la parte interna quella che ho fatto la videata quelle che sono i progressivi 433 434 del fascicolo del pubblico ministero e che sarebbe l'allegato 5 avevamo detto dottore quello che mi ha esibito il questa è la parte interna perché c'è una maschera che diciamo uscendo da questa c'è una maschera principale che nella quale viene raffigurata tutta la posta che è entrata e quella che i carabinieri magari o io stesso devo trasmettere quindi questa è una maschera diciamo interna c'è una videata principale è come la copertina del libro e questa è la prima pagina del libro in questa prima pagina il compare perché è aperto come documento principale da luogotenente massimiliano colombo labriola roma torsapienza mail tu strm 2141 74 corcciolacarabinieri punti risulta inviato 27 ottobre 11 07 a tenente colonnello francesco cavallo oggetto detenuto cucchi stefano questo è il documento principale di questi mail che figura al doxpa dove c'è un allegato 1 e un allegato 2 qui si rimanda la seconda schermata che era il progressivo 434 dove la data di creazione dei due file è il 27 ottobre 2009 però mi scusi lei quando dice progressivo si riferisce alla foliazione del pubblico ministero si si attenga a quello che ho fatto io se no si capisce confusione va bene va bene quindi vado alla seconda pagina dell'allegato 5 quindi questi sono due allegati le due graffette che contagliono sono due allegati corrispondono a due allegati poi vorrego chiedere nella prima pagina dove c'è scritto sulla sinistra segnatura 28 10 2009 quella è la data della protocollazione è la data in cui ho fatto il protocollazione perché quel giorno non ho avuto il tempo di farlo perché io la visualizzai dall'outlook l'email e girando la pagina no come data creazione dei due allegati c'è scritto 27 10 27 10 2009 ci spiega perché allora questi due i due allegati non innanzitutto il il DOCSPA impone agli allegati è proprio il sistema una numerazione questi sono e questa è la datazione è la sua ma mi scusi quindi è quando lei fa quello che ha detto l'inglobamento sì esatto quando il indicativo importa eh importa quello che c'è scritto cioè come quando diciamo volgarmente come se mi arrivasse oggi un file word poi mi porta la data del momento in cui lo scarico esatto è la stessa cosa esatto quindi da qua si capisce che lei l'ha scaricato l'ha inglobato il 27 l'ha protocollato che il documento è creato il 27 pure da chi lo trasmette perché altrimenti avrebbe voglio dire è allegato alla mail del 27 quel documento sì 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 no no io mi interessa chiarire questo passaggio quindi quella è una data che il DOCSPA il DOCSPA dare entrambe le date 27 come inglobamento 28 come protocollazione esatto ok senta e questi due file questi due allegati corrispondevano alle annotazioni di colicchio di disano in formato word aspetti che adesso le esibisco allegati 6 e 7 all'interrogatorio mi dica se sono questi attenzione sono diversi una due grazie colicchio colicchio confermo sono questi sono quelli senta ma da questa mail no allegato 5 c'è la data di invio 11 07 11 07 sì questo è il momento in cui lei invia i file trasmetto l'email e perché non c'è la data di ricezione è perché il praticamente questo sistema non non ce lo dà è proprio il sistema questa versione parlo della versione per poter avere la data di ricezione data e ora di ricezione più che data ora di ricezione avrei avrei dovuto mantenere l'email mandata con tutte le email del 2009 cioè cosa che mi avevano cambiato il pc avevano cambiato il server non lo non le avevo potuto tra l'altro ha cambiato pure la versione dell'outlook non non l'avevo più mantenute ma non voglio dire per me dottore aveva senso il DOCSPA cioè io ho sempre saputo che il DOCSPA è il protocollo informatico dove per eccellenza si attesta tutto voglio dire non so adesso a livello informatico che avesse questo limite senta vorrei capire una cosa quindi per riprodurare maggiore soddico le dice dove sono i file le dice di chiedere dove sono cioè le dice dove sono i file e io ho detto io non lo so lo chiedo ai due carabinieri ok li manda poi le dice di mandare al tenente colonnello Cavallo Cavallo confermo lei li manda alle 11.07 alle 11.07 dopo quanto tempo un'ora un'ora e mezza guardi lo posso anche collocare perché nel memoriale del servizio del 27 di ottobre il alle ore 13 il comandante della compagnia ha ricevuto il personale diciamo anche in mia presenza al quale ha tenuto come risulta poi dal registro delle visite ha tenuto istruzione su argomenti di ampio respiro che riguardavano insomma tutti normalmente pure c'è un piccolo commento sull'attività della stazione e a questa istruzione collettiva sono poi seguiti i colloqui di nuovo chiamiamoli colloqui individuali cioè dove ciascun militare di quello elencato nel presente viene ricevuto dal comandante di compagnia nella stanza del comandante della stazione con il comandante della stazione che sta al di fuori quindi a meno che poi torno a ripetere non fosse richiesta fosse proprio il comandante della compagnia a chiederne la presenza durante il colloquio ma li riceveva da soli e questo comincia alle 13 quindi 11.07 la trasmissione alle 13 come da memoriale c'è la riunione collettiva io ho detto un'ora un'ora e mezza all'incirca arrivò quest'email perché quando arrivò l'email non era ancora iniziata la riunione collettiva delle 13 il maggiore mi disse non fu diciamo la mia iniziativa mi disse controlla vedi è arrivata la risposta dell'email dal colonnello cavallo e io dall'outlook controllai perché poi questo sistema d'oxo era molto lento nel carico dei dati e controllai adesso non mi ricordo se diedi lo scarico o siccome c'era di default il sistema ogni 10-15 minuti scaricava la posta fosse già arrivata io l'aprì aprì questi mail aprì i due allegati e ovviamente sempre su ordine del maggiore soligo li stampai e le due stampe le portai a lui che sono quelle che ho esibito che quelle che diciamo erano i due file word li stampai la stampante ce l'avevamo sempre al solito posto nel corridoio della stazione e li portai a lui senta quella di codicchio c'è scritto l'anno 2018 sì e quello è un campo modulo e si trova 2018 perché quando è la copia che io diedi al personale della squadra mobile quando mi sembra il 5 ottobre del 2018 sono venuti a eseguire il decreto di a notificarmi poi non è stato eseguito la perquisizione io l'avevo stampata non ricordo se la sera o due giorni prima perché avevo già concordato per quel pomeriggio del 5 l'appuntamento col mio legale all'inizio l'avvocato Buttazzo dovevamo andare con Disano avevamo già fissato l'appuntamento da lui e quindi volevo portare questa documentazione perché la mia intenzione è chiedere subito l'interrogatorio e insomma fornire tutto il contenuto che vuoi fare giusto per la precisione la perquisizione non fu eseguita perché? perché consegnai io avevo una cartella con all'interno perché le consegnero spontaneamente quello che aveva già preparato senta quindi questo è un campo modulo questo è un campo modulo e preca anno 2018 perché il 2018 è stata fatta la perquisizione cioè è stato notificato è stato fatto il sequestro dell'atto e quella di Disano invece no perché no no è perché lui aveva impostato evidentemente l'annotazione senza il campo modulo ho capito senta un'altra domanda tornando allo screenshot dalla seconda pagina si vede che è stato eseguito il 22 settembre 2018 sì e sono anche se le nota dottore due orari diversi uno alle 16 13 28 l'altro alle 17 01 allora io come dicevo cioè conosco non ho competenze informatiche e questo delle 16 e 13 e delle 17 mi coadiuvò mia figlia il primo sul posto perché mia figlia stava fuori tornò e insomma come tutti i giovani che hanno competenze il più competenze informatiche di chi magari ha qualche capello più grigio e venne e gli fuceppa rientrò in caserma dove noi alloggiavamo e mi diede ausilio nel fare la prima pagina però poi mi resi conto che c'era che sarebbe stato opportuno fare anche la seconda e telefonai a mia figlia chiedendo nuovamente spiegazione perché io non l'avevo immagazzinata e tant'è che fu pure intercettata questa cosa questa telefonata qua con mia figlia questa delle 17 dove mi spiega come si fa lo screenshot benissimo ok è stato chiaro senta le volevo chiedere un'altra cosa quindi lei cosa fa il maggiore solico le dice vedi se è arrivata la risposta del tenente colonnello cavallo esatto io non ricordo se diedi proprio l'operazione di scarico con l'outlook era già di default giunta perché c'era impostato ogni 10-20 minuti scaricava in automatico la posta elettronica quindi vado apro le due cartelle dell'email il maggiore dice stampale prendo le stampe e gliele porto e le consegno al maggiore solico ok senta lei ha visto le modifiche che sono state apportate io l'ho vista quando è andata via poi il maggiore solico cioè l'ho letta diciamo firmate dai due carabinieri quando è andato via il maggiore solico ma lì quando ho dato la stampa non le ho lette perché le ho prese c'è la stampante dall'uscita della porta del comandante della stazione sono 4-5 metri sono tornati indietro e e gliele ho date quindi le ho trovate poi firmate sulla mia scrivania e tra l'altro in fotocopia pure manco in originale qua prima che andasse via cioè lei non era presente quando hanno firmato no non ero presente e dottore e loro l'hanno firmato pure durante i colloqui individuali perché è stato l'unico momento dopo perché dopo questo dopo un po' inizia c'è stato il colloquio collettivo con tutto il personale risulta dal memoriale del servizio alle 13 e l'unico momento che possono aver avuto che io ho memoria è stato quello del dei colloqui individuali perché non è che mi ha detto vai fuori devo fare firmare colicchio e devo fare firmare di sano nei colloqui individuali è l'unico momento che può aver avuto per far firmare loro senza la mia presenza senta ma le camere di sicurezza sono fredde quelle di Tossa Pienza sono fredde sono molto molto umide dottore sono c'è un tasso di umidità perché sono corrispondenti al giardino nella parte sovrastante molto umide cioè ci dica lei ha capito quale è il senso sì sì no 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 lei ha sempre detto la terminologia utilizzata sì sì allora io posso come come voglio dire questo l'ho letta a posteriori premesso che dottore quello come si sia giunti alla determinazione di quello che c'è scritto io non lo posso sapere ma non lo posso sapere perché non mi è stato detto Colicchio l'ha riferito e poi io glielo ho pure chiesto perché dovremmo fare un salto al 17 aprile 2018 ma poi lo facciamo tutti sì andiamo lo lasso per gradi perché mi seguo nelle domande sì la seguo nelle domande io premesso quindi non sapevo però le camere di sicurezza sì c'è l'umidità ma come c'è scritto qua voglio dire temperatura freddo umida è molto umida sì sono fredde ma è molto umida cioè là va descritta l'umidità di quelle camere di sicurezza che addirittura faceva la condensa fuori alla porta in ferro ma perché lei ha sempre detto questo è l'interrogatorio l'integrale pagina 145 la camera di sicurezza è umida ma non è fredda sì no è molto umida molto umida cioè io era l'umidità che si percepiva più che il freddo dottore giù alle camere di sicurezza e poi ha qualcos'altro da segnalare con il riferimento alla terminologia che lei non avrebbe ah e tra l'altro tra l'altro qui il letto della camera di sicurezza viene descritto come branda ma la branda nel gergo militare è il lettino da campo o il letto delle camerate diciamo delle caserme dove ci avevano i letti a castello quelli in ferro insomma per uno sopra l'altro non è un termine a parte non è il mio ma è mai utilizzato sto termine ma non è un termine per descrivere che noi avremmo mai descritto della stazione un letto di una camera di sicurezza come branda la branda è come se avessimo scritto il talamo nuziale cioè voglio dire un'assonanza cioè la branda è una cosa diversa è completamente diversa senta ma lei avrebbe potuto ad iniziativa inviare una mail al tenente colonnello cavallo no può spiegare perché allora anche lì l'ordine io ho eseguito l'ordine di trasmettere l'email al colonnello cavallo perché il colonnello cavallo non è un mio naturale non è un mio naturale superiore di riferimento torna a ripetere nella struttura piramidale poi ancor più perché era voglio dire non lo conoscevo sì stava al comando gruppo e aveva un incarico insomma anche di rispetto al nel comando gruppo però gruppo roma poi però non io di mia iniziativa non la potevo mandare ma non la potevo mandare anche voglio dire non c'è una lettera di trasmissione cioè io sto scrivendo alla persona non sto scrivendo al comando per cui si presuma necessiti la lettera di trasmissione quindi io non la potevo mandare se non ci fosse stato un ordine del maggiore soligo a farlo senta ma una curiosità ma poi di sano è partito allora il nel tardo pomeriggio del 27 il non ricordo se fu io a chiamare il maggiore e e chiedergli se di sano perché non si sapeva più niente di dicere nel senso di sano premeva che voleva parlire e partire ma non si avevano notizie se fu io o fu lui a ma penso che fu io ma non guardi non ho questo ricordo marcato comunque il maggiore soligo del pardo pomeriggio dispose che di sano poteva partire però ormai l'aereo non l'ha potuto prendere è partito in auto poi è partito nella tarda serata insomma cioè non è stato così immediato quindi questa disposizione non è stata data subito dopo no 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 che è andato no assolutamente no 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 nel tardo pomeriggio guardi ricordo verso le 19 18 tra le 18 e le 19 giudice mi scusi ma chiedo scusa anche al pubblico ministero siamo al freddo e al gelo qualche genere di prima necessità ce la consente? non so quanto perché sono le due un quarto eh sì giudice manca sì sì non lasciamo l'avvocato scattare aspetta in verità si muore di freddo no è lei che si vede 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 no si vede lì all'interno ci siamo tutti possiamo riprendere? ha già dato atto del fatto che l'avvocato Bottazzo si è allontanato? sì ok va bene prego pubblico ministero può continuare allora l'uomo contenente lei ha detto di non avere assistito al momento in cui vengono firmate le due annotazioni confermo ci vuole spiegare quando come in che circostanze poi è venuto a conoscere tutti i fatti diciamo i pezzi che le mancavano sì allora il dottore vorrei completare il perché poi c'è stata ecco la sospensione il momento successivo la firma cioè quando il maggiore Soligo va via da Tor Sapienza e in quel momento aveva mi trovo le fotocopie fotocopie delle due versioni modificate sulla mia scrivania allora ho chiesto al maggiore Soligo indicazioni se le dovessi trasmettere le dovessi trasmettere a lui oppure le dovessi inviare alla stazione Appia questa domanda l'avrei fatta dopo io volevo solo prima riempire va bene allora adesso facciamo un salto di dieci anni ma sempre restando nel 2009 parliamo del 2009 e poi parliamo del motivo per il quale non ha fatto una seconda nota va bene quindi che cosa è successo lei quando è che viene a sapere esattamente quello che è successo allora il il 17 aprile 2018 il carabiniere Colicchio al termine del suo esame in corte d'assise io ero in ufficio e torna a Tor Sapienza e mi dice dice guardi oggi dice a noi sono state esibite le doppie versioni delle annotazioni e io non riuscivo a capire perché doppie versioni se la versione fosse solo la seconda cioè io davo per compiuto che il maggiore Soligo così come aveva detto già nella mattinata che le doveva far sostituire per il tramite del maggiore Unali alla stazione Appia avesse avuto luogo quella sostituzione io ne ero convintissimo non avevo manco chiesto nessun rischio a parte che ad Appia non conoscevo nessuno Mandolini l'ho visto la prima volta alla riunione che si è tenuta al comando provinciale il 30 ottobre del 2009 ma non avevo nessun rapporto poi diciamo pure mi aveva anche un portato quella sua forma di richiesta di sollecito pure insomma non avevo riscontrato se effettivamente poi il maggiore Soligo avesse portato a termine quella sostituzione fatto sta che Colicchio mi disse che in quella sede in Corte d'Assise il 17 aprile 2018 erano state esibite a lui e a Disano le doppie versioni delle annotazioni e che addirittura diciamo Disano rischiasse di restare indagato in quella sede proprio perché per queste doppie versioni e lui mi diceva che la sua la seconda l'aveva non riusciva a capire come sapeva perché poi l'abbiamo ricostruito della questione del 2015 di Colicchio parlo di Colicchio che era entrata nel patrimonio della Procura nel 2015 con l'acquisizione fatta il 5 novembre dal Capitano Testarmata ma non riusciva a a spiegarsi cioè manco lui e dice ma come io ho detto al Maggiore Soligo che non dovesse avere un seguito questa mia versione modificata e com'è che si l'ha data lei nel 2015 ma da quello che capiva lui stava già da prima cioè non fosse già dal 2015 ma già da prima questa seconda versione e e quindi mi racconto dell'episodio che fino ad allora non mi aveva mai detto così come non mi aveva detto che non aveva voluto coniugare la seconda versione il della della telefonata che gli aveva passato il il Maggiore Soligo al quindi aveva passato il Colonnello Cavallo telefonicamente parliamo sempre del 27 ottobre 2009 nella circostanza in cui lui aveva detto questa annotazione non rendono quello che io ho scritto lui disse proprio non è farina del mio sacco ha sempre utilizzato queste parole Colicchio e per questo gli aveva passato il Maggiore Soligo diciamo a fronte della sua protesta del suo diniego il Colonnello Cavallo al quale Colicchio diciamo aveva ribadito pure la sua volontà e il Colonnello Cavallo aveva cercato di persuaderlo in quella telefonata così mi disse lui Aspetta un attimo Logotenente ma Colicchio le ha spiegato com'è che c'è la sua firma se non era d'accordo No e Colicchio mi spiegò che quando si trovò di fronte due esemplari della quindi due fogli della seconda versione il praticamente lui gli sembrarono uguali a quella sua cioè lui pensava che stesse rifirmando la sua annotazione e e e e quindi ha firmato il primo mentre leggeva il secondo si è reso conto che nella parte finale cambiava cioè nella parte finale vuol dire il senso della parte di sopra perché lui nella parte iniziale aveva aveva scritto le specifiche dei malesseri insomma riferiti e e cambiavano erano non era quello che voleva dire lui allora a quel punto aveva detto no io questa non la firmo in realtà l'aveva firmata la prima e mi disse che l'aveva lui non ricordava se l'avesse messa in archivio o nel fascicolo chi l'aveva sottoposta per la firma il maggiore soligo quindi lui al maggiore soligo rappresenta inizialmente la sua contrarietà dice no io questa che cosa che si al maggiore soligo lui ha rappresentato e poi lui non si ricordava se il maggiore soligo chiamò il colonnello cavallo oppure se il stesse già al telefono col colonnello cavallo fatto sta che parliamo del colonnello cavallo che lui non conosceva però voglio dire gli ha passato sta telefonata l'interlocutore si è qualificato per il colonnello cavallo e ha tentato di convincerlo ma lui è restato irremovibile tant'è che mi disse pure che questo episodio allora io in questi termini l'avevo compreso a questo episodio aveva assistito anche il maresciallo Grimaldi però io come l'ho compreso io infatti io poi anche diciamo l'ho raccontata a mio fratello in questo modo che all'episodio avesse assistito il maresciallo Grimaldi almeno come compreso io lei veramente nell'interrogatorio ha detto per quello che mi ha raccontato Colicchio in tale occasione egli cioè Colicchio alzò addirittura la voce con i superiori e fu sentito ah fu sentito no in una telefonata con mio fratello raccontavo che era presente Grimaldi avevo fatto confusione comunque fu sentito dal dal maresciallo Grimaldi e anche di questo Colicchio non aveva detto nulla a nessuno e infatti io glielo chiesi ma scusa un episodio del genere e tu non ci dici niente e non mi dici niente innanzitutto al sottoscritto e lui disse no io mi ero talmente arrabbiato per questa situazione che non ho inteso parlarne con nessuno senta lei sa quali furono i termini dello scambio di battute fra Colicchio e il colonnello Cavallo nel corso di quella telefonata lei ha detto qualcosa Colicchio sul punto io ricordo che lui mi disse che tentò di persuaderlo a firmare diciamo nel firmare l'atto ora le parole testuali che mi disse lei in dibattimento quindi udienza del 6 dicembre 2018 ha dichiarato Colnello Cavallo lo aveva sortato dicendo perché non vuoi firmare e Colicchio avrebbe risposto perché le motivazioni apportate sono inverosimili inverosimili lo confermo perché lui diceva per me e questo mi ricordo che me lo disse sempre quel 17 aprile la sera perché poi noi cosa facemmo dottore una brevissima parentesi il Colicchio insistette a che io ascoltassi a Radio Radicale proprio la sua il suo esame e mi fece ascoltare anche quello di Di Sano e man mano che ascoltavamo riscontravamo sotto un profilo cartaceo dalla cartella che io avevo una sorta di raccolta tutti gli atti e con il Doxpa ecco perché lui rivide l'email e se ne ricordò lui già la conosceva la sapeva l'email e il a differenza di Di Sano che non sapeva e poi l'ho scoperto questo fatto a settembre del 2018 che Di Sano non era conoscenza dell'email e mi disse appunto Colicchio che si era man mano che ascoltavamo e riscontravamo con i cartacei si ricordò poi aprì tutti questi cassetti della memoria che c'è cose che in udienza non aveva ricordato e per questo non aveva testimoniato senta quindi insomma lei si ritrovava agli atti di annotazione in entrambe le versioni in entrambe le versioni sì stava dicendo prima che aveva una raccolta cartacea sì perché io già dal 2009 cosa avevo fatto man mano che generavamo noi atti il io facevo oltre alla alla classifica cioè oltre a quindi a protocollarli informaticamente a a lasciarne copia di questi atti nella nella raccolta delle relazioni annotazioni di servizio di pg era un'unica pratica il facevo una fotocopia e la mettevo in una cartella che avevo denominato raccoglitore dove non era una cartella diciamo ma sulla vicenda cucchi sì 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 sulla vicenda cucchi che tenevo nel mio ufficio vuol dire in libera vista però c'era non avevo messo nessuna indicazione di cognomi solo raccoglitore in mezzo alle varie pubblicazioni entrando a destra del mio ufficio c'era del mio ex ufficio c'era un mobiletto dove avevo pubblicazioni e testi professionali e tra quelli proprio alla merced di tutti io le lasciavo lì perché potessero nel caso in cui io fossi stato assente chiunque poteva consultarla c'erano le due gli atti nello stesso ordine in cui erano generati quindi le doppie le prime versioni con la lettera di Appia le seconde versioni poi nell'ordine l'altra interlocuzione è stata a dicembre del 2009 quella relazione che abbiamo fatto sull'Ares 118 e quindi e man mano però non avevano una numerazione non erano classificati e perché lei ha continuato a conservare tutto io perché pensavo che insomma ci potevano essere i carabinieri sarebbero stati chiamati a testimoniare cioè voglio dire era una vicenda che secondo me tra l'altro già dai primi articoli si capiva che avrebbe potuto avere degli sviluppi e quindi l'ho fatto in modo previdente insomma ad avere tutto e in questa raccolta aveva le annotazioni in cartaceo nella doppia versione la doppia versione si come primo atto era proprio la relazione del 16 ottobre 2009 dei compiti assolti da Colicchio senta ma lei ha raccontato insomma che Colicchio ha avuto questa discussione dopo aver firmato senza leggere e Di Sano invece le hanno spiegato come è andata allora il si in realtà allora con Di Sano il primo vero incontro io l'ho avuto il 22 settembre del 2018 quando siamo stati indagati perché Di Sano di sua iniziativa è venuto in caserma in lacrime e lì poi ho ricostruito perché Di Sano era stato trasferito dal settembre del 2010 era prima in servizio provvisorio poi a marzo del 2011 era stato trasferito presso il comando provinciale alla sezione operazioni e quindi da lì avevo perso tutti i contatti con Di Sano Di Sano non era più tornato a Tor Sapienza a prendere atti a consultare atti nulla di tutto questo e quindi il 22 settembre poi è stato Di Sano in quell'incontro a raccontarmi come erano andate le cose cioè praticamente appena devo partire dall'inizio da quando entrò in caserma io ero arrivato da poco tempo perché le lezioni di domicilio me l'avevano fatta presso la compagnia Montesacro e dalla compagnia Montesacro ero tornato a Tor Sapienza intorno alle 15.30 15.40 e arrivato Di Sano e stavo ancora con la mia famiglia e stavo parlando con Colicchio perché Colicchio nella telefonata che ho fatto uscendo da Montesacro mi 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 rammentò dice guardi allora lei è stato indagato in forza le dichiarazioni che ha reso Di Sano e si vede in corte d'assise che l'ha indicata come colui che ha dato l'ordine ma in realtà io ordini non ne ho mai dati in nessuna fase né il 26 se non quello di redigere l'annotazione e fine non ho dato nessun input di suggerimenti di correzioni sia il 27 che non ho fatto altro che anticipare a Di Sano quella che era la volontà del Maggiore Soligo cioè quella di non farla che non dovesse partire perché le annotazioni nel caso specifico la sua non andava bene e dissi pure a Di Sano quello che mi aveva riferito Soligo cioè che erano estremamente particolareggiate il sembrava una sorta per chi leggeva aveva la percezione che si trattasse di una sorta di ostentazione di estranetà mettere le mani avanti e scusazio non petita il il fatto che non fossero dei medici perché aveva loro avevano refertato con quello scrivere le condizioni di salute del detenuto e poi c'era poi quell'altra specifica ma quella la sentì pure lui che i detenuti non giravano solo in caserma però per la parte diciamo comune a fattor comune della prima telefonata ci fu presi partecipe di sano del fatto troppo particolareggiata e l'altro passaggio dei medici insomma che non erano dei medici quindi e di sano la prima cosa che dissi quando entrò in caserma fu proprio quella ma come ti è venuto di dire che l'ordine te l'ho dato io io non ti ho dato mai nessun ordine di questo e di sano a quel punto diciamo è scoppiato a piangere mi ha abbracciato mi ha chiesto scusa cioè io in quel momento mi sono diciamo la mia naturale figura non avevo un ricordo dei fatti dico la mia figura di riferimento è quella del comandante di stazione a cui io naturalmente mi rapporto ecco perché quando mi sono trovato di fronte alle due annotazioni per me ne esisteva solo una di annotazione e lui tra l'altro dottore non aveva mai preso con sé atti non si era portato via atti non aveva nulla al suo seguito realmente almeno per quello che mi risulta lui ha sempre testimoniato sulla forza dei suoi soli ricordi perché lui focalizzava quella manciata di secondi che ha visto il detenuto quindi e questo me l'ha sempre detto in ogni passaggio sia il 16 che il 26 del 16 ottobre 26 ottobre sia quando ci siamo poi visti il 22 settembre quindi lui mi chiese scusa chiese scusa anche alla mia famiglia che stavamo insieme in quel momento eravamo da poco rientrati da Montesacro e stavamo parlando con Colicchio ma quello stiamo parlando del giorno che cosa era successo quel giorno in cui poi vi incontrate tutte e tre parlate sì a quel punto io gli ho detto guarda cioè perché Di Sano viene in caserma perché era stato anche lui raggiunto dalla notifica della comunicazione del difensore d'ufficio ed elezioni di domicilio nell'ambito di questo procedimento è stato notificato lo stesso sì è stato notificato a Di Sano mentre si trovava a Tor di Quinto così come mi ha raccontato mentre io sono stato convocato presso la compagnia Montesacro dal tenente Zavattaro ero in licenza mi telefonò e disse devi venire perché c'è una comunicazione urgente tant'è che io pensavo vidi il nucleo investigativo pensavo si trattasse di un'indagine che stavano facendo nella nostra zona e me ne dovesse parlare a voce non avevo proprio lontanamente immaginato dottore io torno a ripetere io per nove anni poi la prima volta sono stato ecco sentito sono stato indagato e sentito direttamente da lei nell'interrogatorio e poi in corte d'assise senta allora questo insomma ricordo ma non ho capito Di Sano colì che ha firmato per errore Di Sano beh Di Sano diciamo pure la condizione psicologica dottore perché per Di Sano in quel momento esisteva partire questo infatti era molto irrequieto quella mattina quindi fermo restando che io non so cosa si siano detti in quella stanza perché a me poi Colicchio è andato via è andato a casa finita la visita Di Sano finita l'incontri se ne è andato su in camera non mi hanno detto niente io da parte mia non ho chiesto niente perché il chiedere voleva dire mettersi a investigare sull'operato del mio superiore quindi io non ho chiesto nulla Di Sano poi loro non mi hanno ho letto le annotazioni modificate e come tali dottore ho pensato ma questa è stata una mia valutazione il maggiore non mi dice niente i carabinieri non mi raccontano niente nessuno quando l'hanno preso chi l'ha preso non mi ha detto niente tutto chi l'ha preso chi l'ha preso voglio dire la mattina il detenuto riferisco al detenuto non mi ha segnalato niente cioè io non avevo nessun alert che mi potesse se non quello che era stato il mio buonsenso nel dire secondo me le prime versioni di quelle annotazioni recano dei dettagli che sono esplicativi sono degli indicatori ma è una mia valutazione ecco vabbè ma restando alla sua valutazione lei si è reso conto che cosa ha pensato quando ha detto ma io quello che ho pensato dottore sinceramente è che se hanno scritto e sono tutte e due firmate nessuno mi dice niente evidentemente avrà stimolato il maggiore soligo delle riflessioni a loro che per loro sono andate bene io non c'è questa è la mia valutazione la mia domanda è diversa però io torno a ripetere per me come stavano le prime erano più complete erano più dettagliate secondo il mio voglio dire la mia opinione sì ma dico io non richiedo una valutazione richiedo la percezione che ha avuto all'epoca leggendole dico si è reso conto che erano state tolte cose c'erano e voglio dire le differenze c'erano lei era presente quando ha deposto colicchio no? sì 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 io mi sono opposto perché le modifiche stravolgevano il senso di quello che avevo scritto lei se ne aveva reso conto? allora dottore io me ne sono reso conto però posso anche dire nello stesso momento che loro si sono cioè una volta che a me non dicono niente e si sono firmate no parlo per me io parlo per la parte mia però per torno a ripetere le modifiche si percevono io per quanto somiglianti ma le modifiche cioè delle variazioni c'erano perché c'è una conversazione con il suo fratello io spiego a mio fratello che la modifica erano in sostanza che cosa cambiava questa è stata la frase che ho detto a mio fratello nella sostanza che cosa cambiava beh vuol dire si legge non è però io con questo dottore intendevo anche dire perché a mio fratello spiegavo come stavano prima praticamente cosa cambiano in quest'altro sono state poi perché fosse avvenuta la modifica nel merito questo è chiaro io volevo solo chiedere se si era reso conto che le modifiche sostanziali poi fermo restando che l'ordine non l'ha dato lei e lei ha letto dopo come ci ha detto sì sì e non potevo manco entrare nel merito perché non lo sapevo vabbè per la trastazione qui ce lo dico la conversazione con il fratello che abbiamo indicato è la 497 come progressivo RIT 4940 del 26 settembre 2018 fra Colombo Labriola Massimiliano e Colombo Labriola Fabio senta allora ultima domanda su questo aspetto ma il fatto che quello che ha detto lei per Di Sano esisteva solo partire sì è una cosa è una sua deduzione o gliela ha detto specificamente Di Sano quel giorno il 22 settembre 2018 per spiegarle cosa era no no me lo disse sia quel giorno sia me l'ha ripetuto il 22 settembre del 2018 in tutte e due le circostanze me l'ha detto cioè esattamente no ma lui era allora al di là dello stato emotivo che era molto molto agitato il 22 settembre 2018 ma lui il suo obiettivo cioè sì mi ha spiegato pure e poi penso che quando verrà Di Sano lo spiegherà lui anche i contenuti di questa conversazione di questi incontri con Soligo perché poi riattivando riguardandoci le carte tutto quanto lo stato dei luoghi lui ha riattivato pure insomma ha cominciato ad aprire i cassetti la memoria è strana ad aprirsi insomma a ricordare dei dettagli dei particolari però per lui era non era mai successo dottore che un militare le parlo di militari della stazione mia di Torsapienza non li fosse da un momento all'altro praticamente con la valigia in mano eh imposto di non partire perché avevo sempre trovato una soluzione perché capivo i disagi e cosa vuol dire avere gli affetti distanti perché l'avevo passato anch'io prima di costituire una famiglia e di averla con me insomma al seguito quindi per lui era posso dire stravolto per questo fatto era stravolto non vorrei esasperare il concetto ma era quel giorno era molto 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 nervoso per questo fatto qui che non potesse partire le parlo proprio si percepiva e lo diceva in continuazione date che lui ha sperato fino all'ultimo momento di prendere quell'aereo e andare a casa va bene allora adesso lei ha spiegato insomma quello che ha saputo nel 2018 torniamo al 27 ottobre 2009 lei queste annotazioni firmate si ha detto a noi resta una copia si fotocopia fotocopia l'originale che ce l'aveva il maggiore soligo tra le mani tant'è che io gli chiesi signor maggiore devo redigere una lettera di trasmissione di queste a lei visto che volevo dire lei si fa carico di procedere di fare di questa sostituzione per il tramite del maggior lunali eh no questo lo deve spiegare non l'abbiamo detto allora il già dalla signor giudice già la mattina nella telefonata del del 27 torno alle 8 quando mi disse che non insomma che non andavano bene per quelle ragioni che ho illustrato poi alla alla mia esposizione alla mia perplessità ma guardi io ieri sera come mi ha detto lei le ho trasmesse alla stazione Appia il maggiore Soligo mi disse ma no ma non ti devi preoccupare quelle sono delle bozze provvederò io per il tramite del maggiore Unali comandante della compagnia Casilina a farle sostituire alla stazione Appia e il questo concetto poi l'ha ribadito questa volta in presenza dei due carabinieri quando io ho esposto la mia perplessità sulla generalizzazione delle annotazioni quindi quando è venuto fisicamente a Torsa Pienza quella mattina l'ha ribadito cioè che erano delle bozze la generalizzazione in che senso? cioè che praticamente se ho visto che contestava che erano dettagliate estremamente dettagliate cioè io ho detto generalizzare alleggerirle e questo cioè a fronte se sono queste dettagliate e mi dici che devono essere modificate a questo punto vuol dire che bisogna generalizzarle si si ho capito no no io intendevo questo a me generalizzare vuol dire un altro no no nel senso stretto della presenza giudiziaria ci siamo capiti va bene quindi lei aveva già espresso le perplessità si questo già l'aveva detto e quindi io per questo ho chiesto se dovessi redigere una lettera di trasmissione alla compagnia Montesacro o le dovessi trasmettere ad Appia e mi disse no già ce le ho io in mano non mi serve non mi occorre questo cioè io realmente come voglio dire una sorta di semplificazione burocratica e torno sempre a ripetere nell'ambito del rapporto di fiducia che c'è nei confronti del superiore che in quel momento mai e poi mai uno va a pensare che stia dicendo qualcosa che possa andare non a tutela del personale ecco perché io allora fisicamente non ho redatto la seconda lettera di trasmissione cioè perché dovevano essere sostituite no perché il maggiore soligo mi disse che si sarebbe fatto carico lui di sostituirle tramite il maggiore unali e quindi non serve che mi fai la lettera già ce le ho io in mano queste le seconde versioni che provvederò tramite il maggiore unali a fare sostituire alla stazione Appia ecco perché io non ho fatto la seconda lettera perché se le ha presse a mano direttamente il maggiore soligo non c'è neanche un verbale di consegna no ma no ma non dottore non si fa voglio dire il superiore cioè si dice questo praticamente è come se fosse un ordine a tutti gli effetti l'ho presa io non serve ok ma è per questo che hanno lo stesso numero di protocollo ed è per questo essendo delle bozze per questo hanno mantenuto lo stesso numero di protocollo sta riportando quello che ha detto il maggiore soligo sì no ma per me ma è l'interpretazione che ho dato io cioè me lo dice lui che mio voglio dire che motivo cioè quella è la mia interpretazione poi tra l'altro quando vengono restituite io non potetti manco intervenire su questo cioè anche sulla protocollazione di quegli atti sono già me li trovo firmati con quel numero di protocollo che sono delle prime quindi manco volevo dire potevo fare un un sottonumero di quell'altra ma quando mi furono restituiti in che senso cosa? quando furono restituiti i file con l'email del colonnello Cavallo i file quando mi fu mandata la mail sì sì mandata la mail restituita ho capito aspetta un attimo senta lo contenente lei da quanto tempo è nell'arma dei carabinieri? dal 18 settembre 1986 per quella che è mai capitato o ha mai avuto notizia di un comandante di compagnia che si interessa personalmente per far modificare un'annotazione quella è stata l'unica volta c'è stato meglio c'è stata poi una seconda volta il diciamo che mi riguardava direttamente e che questo è stato nel nel 2018 il che ma era diciamo perché secondo insomma un comandante di nucleo operativo non era di compagnia io avevo redatto insieme un'unica annotazione insieme ad altri militari nella quale questo che poi doveva essere trasmessa al 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 doveva trasmettere il nucleo operativo di un episodio verificato sia a torsapienza e mi aveva detto guarda ha indicato troppi particolari anche quella secondo lui era era estremamente dovizioso sultronea e io dissi no invece proprio quei particolari sono un indice e sono un indicatore indiretto di un comportamento se c'è stato o non c'è stato e io lì dissi no poi il fatto la vicenda insomma di Cucchi ha fatto un po' scuola a tutti non si modifica niente meno male senta allora 27 l'abbiamo detto quindi se ho capito bene solo dico prendere queste due annotazioni modificate e firmate e va via dicendo che le deve portare al maggiore un agli per la sostituzione esatto confermo ok e poi quelle che avrebbero dovuto essere sostituite quelle lui disse che dove venivano archiviate io le ho tenute perché le mie c'erano avevo mandato una lettera di trasmissione comunque per me è una bozza comunque resta cioè voglio dire c'è una lettera di trasmissione per me resta non c'è motivo di di sopprimere quell'atto senta il 28 abbiamo detto che lei protocolla la mail che riceve la colonnello cavallo il 29 si ricorda cosa è successo allora il il 29 io ero a allora le premetto dottore che io 28 e 29 ho fatto riposo settimanale riposo e recupero però ero solito passare comunque diciamo quelle due tre ore in in ufficio anche perché l'alloggio abitavo in caserma giusto per dare una continuità all'azione di comando e il 29 mi sembra nella intorno alle alle 14 arrivò un fax di convocazione grazie del del carabiniere colicchio davanti al dottor barba per essere assentito a verbale in quella circostanza era convocato anche di sano ma di sano mandammo una comunicazione nella quale davamo conferma assicuravamo la presenza di colicchio ma non quella di sano perché di sano era in sicilia una citazione come persona informata informata sui fatti nell'ambito di un procedimento penale sì nell'ambito di un procedimento penale ok quindi chiedo scusa quindi il colicchio il 29 è andato a testimoniare e testimoniare cioè è stato sentito è stato sentito sì è stato esclusso poi il il 30 mattina e quindi io di ciò che si sia detto colicchio il 29 non lo so non gli ha chiesto no va bene il 30 mattina il eravamo di pattuglia io e colicchio 8-11 sempre intorno alle 8 il maggiore Soligo mi ha chiamato e mi ha e mi ha detto che dovevamo presentarci per le 10 e 30 al comando provinciale di Roma piazza San Lorenzo in Lucina perché lì il comandante provinciale doveva incontrare il voleva incontrare il personale che aveva avuto un ruolo nella vicenda e quindi dovevamo presentarci alle 10 e 30 lì mi aggiunse che mi devi predisporre un appunto su quello che ha detto colicchio al dottor Barba a verbale nel il giorno precedente ma questo scusi chi è che gli ha questa disposizione il maggiore Soligo cioè colicchio che era stato sentito come persona informata sui fatti nell'ambito di un fascicolo in fase d'indagine coperto dal segreto il maggiore Soligo le dice fatti dire quello che ha detto sì ma praticamente con colicchio presente cioè nel senso di fare un appunto non è tanto farti di fare un appunto sul contenuto delle richiarazioni rese il giorno precedente a verbale no quello che lei lo sa a tuo godente perché gliel'ho già sottolineato una volta lei non si è reso conto che in quel momento quelle richiarazioni erano coperte dal segreto io veramente lo dissi pure all'interrogatorio non sapevo fosse coperto dal segreto lei mi ha contestato che a prescindere che fosse coperto dal segreto non dovessero essere comunque diciamo divulgate dal test e non dovessero essere chieste dal segreto ecco ma scusi lo co tenente per capire però lei non si è reso ma lo dice il superiore lo dice la funzione di garanzia ha detto prima eh lei si è fidato ancora una volta ma non avevo cioè non avevo motivo di non fidarmi dottore ho capito lo co tenente io questo ho capito ma le sto chiedendo conferma sì no lo confermo lo confermo quindi lei dice a Colicchio si fa dire quello che ha detto il dottor sì praticamente cosa abbiamo fatto dottore io mi sono seduto al mio computer la tastiera Colicchio a fianco a me e Colicchio mi ha dettato in realtà perché parlava io quell'appunto in terza persona quindi una parte dettava in prima una parte in terza persona e io la parte sua l'ho integrata quindi l'ho cioè l'ho integrata nel senso l'ho trascritta non l'ho voglio dire non l'ho integrata cioè non c'è nulla di mio scritto in quell'appunto e tutto ciò che mi ha detto Colicchio senta ma l'appunto è allegato io l'ho esibito per la difesa l'allegato 11 al verbale di interrogatorio c'è il memoriale no l'ordine di servizio della stazione del 30 ottobre 2009 e poi c'è allegato questo appunto che rega l'intestazione compagnia di Roma Montesagro sì perché perché il maggiore Soligo mi disse portalo alla riunione portami una stampa alla riunione mi dovesse occorrere preparalo per questo con l'intestazione della compagnia Montesagro perché se se avesse avuto la necessità non so se di consultarlo di esibirlo in quella sede c'aveva già l'intestazione della compagnia Montesagro ed è aggiungo che gli appunti siccome ho visto che non l'ha precisato nessuno fino ad oggi gli appunti non sono firmati c'è proprio un atto per il quale non è prevista per quello che sono le mie conoscenze la sottoscrizione di chi lo redige quindi questo appunto che facemmo quindi con Colicchio lo allegai all'ordine di servizio mio di Colicchio della pattuglia perché in realtà noi avevamo dei compiti da assolvere per non non avendo assolto quei compiti il giustificativo e ne ho dato anche atto nel paragrafo 9 di quell'ordine di servizio dove la scrittura è la mia dalle 8 alle 9.15 in ufficio per redigere appunto poi inviato perché glielo mandai anche sempre all'email istituzionale individuale al medesimo ufficiale in merito all'escussione del carabiniere scelto Colicchio e tipo di intervento disposto da comandante compagnia Montesacro senta il tuo corrente quello appunto lo prendo un attimo sì punto 3 sì il primo passaggio aveva confermato sì aveva allora allora innanzitutto il carabiniere scelto Colicchio sentite al rientro in sede dallo scrivente volevo specificare dottore sentito al rientro in sede dallo scrivente l'intestazione della compagnia Montesacro non è dalla stazione Torsapienza Covid Colicchio il 29 è andato a testimoniare in sede non l'ho sentito io questo appunto è allegato a un ordine di servizio che è stato poi sottoscritto da Colicchio cioè cosa voglio dire che è sentito in sede dallo scrivente lo scrivente non sono io ma il maggiore soligo perché Colicchio mi disse quando facemmo questo appunto che quando ritornò fu chiamato dal maggiore soligo ah ecco bene lo spieghi bene al suo ritorno perché altrimenti ci sarebbe stato scritto qua il carabiniere scelto Colicchio sentito al rientro dal luogotenente Colombo Labriola dice no c'è scritto sentito dallo scrivente e lo scrivente si identifica nel comandante della compagnia e Colicchio mi disse il 30 quando facemmo l'appunto che quando era rientrato a Tor Sapienza l'aveva chiamato il maggiore e gli aveva chiesto beh come è andata e lui gli aveva detto è andato tutto bene e lui gli aveva spiegato già sommariamente al maggiore al maggiore soligo non nella misura in cui sta dettagliato qua ma gli aveva detto i contenuti quindi volevo far emergere questo vado avanti nella lettura di quello sì perché su questo diciamo su queste quattro righe devo fare due domande sì quindi questo siamo al primo a linea del punto 3 aveva confermato il contenuto dell'annotazione di servizio redatta dal medesimo in data 26 ottobre 2009 su richiesta su richiesta telefonica del comandante della stazione Roma Appia aspetti un attimo faccio capire due cose la prima è quindi il dottor Barba a Colicchio esibisce questa annotazione sì ma lei ha chiesto in questa circostanza a Colicchio ma quale ti ha esibito delle due no per me esisteva solo la seconda per me esisteva solo la seconda sì ecco ed ecco perché quando abbiamo fatto poi questo appunto non è che ci siamo messi le due annotazioni di fronte no per me esisteva cioè per me la seconda Colicchio non aveva detto nulla della seconda versione che lui non l'aveva coniugata il suo veto opposto eccetera eccetera quindi io ho dato per scontato che siccome fosse avvenuta la sostituzione in realtà Appia avesse la seconda io sono sempre stato convinto che alla stazione Appia avesse le due annotazioni modificate e perché c'è scritto che questa annotazione è stata redatta su richiesta del comandante della stazione Appia allora in realtà questa è stata diciamo una forma più più speditiva perché l'appunto è molto più sintetico perché avremmo dovuto scrivere qui dottore richiesta dal Maggiore Soligo richiesta dal Maresciallo Mandolini sollecitata dal Maresciallo Mandolini sollecitata dal Maggiore Unali e risollecitata dal Maggiore Soligo siccome l'appunto viene fatto sotto una forma speditiva cioè molto riassuntivo insomma rispetto a quello che era il vecchio rapporto giudiziario o un verbale ecco perché alla fine era Appia che doveva trasmettere secondo quello che c'era stato detto e per questo è stato messo Appia cioè come forma speditiva voglio dire di comunicazione senta ecco la cosa che mi interessa è quella cosa scritta fra parentesi alla fine della frase ah oggetto annotazione il cui il contenuto è stato oggetto di precedente appunto e appunto cioè questo il il giorno 27 come ho detto quando andò via il Maggiore Soligo mi disse di redigere un appunto un appunto è praticamente cioè era il riassunto un riassunto di quello che era accaduto quindi delle due annotazioni e io come c'è scritto nel mio memoriale dalle 14 alle 16 e 15 è impropria l'indicazione indagini di polizia giudiziaria me l'ho consegnato quando c'è stato non mi ricordo se all'interrogatorio o al sequestro il mio memoriale del servizio del 27 dalle 14 alle 16 e 16 e 30 16 e 15 indagini in sede di polizia giudiziaria in realtà io non ho fatto nessuna indagine era soltanto riferita alla stesura di quell'appunto che mi aveva chiesto il maggiore soligo che appunto è non ho capito purtroppo purtroppo dottore questo appunto io lo spillai ne feci due copie fotocopie e lo spillai alle annotazioni non me ne feci una copia nella cartella quella raccoglitore però riassumevo quello che era indicato nelle seconde versioni delle annotazioni poi io non so lui il maggiore soligo non mi disse a chi fosse destinato questo appunto ho mandato il maggiore soligo questo appunto sì il primo appunto sì l'ho mandato che era un appunto che sintetizzava il contenuto delle due annotazioni delle due annotazioni modificate nella forma modificata e quando lo ha mandato sempre il 27 sempre il 27 ho capito quindi scusi dopo che lei fa questa cosa volevo chiedere una cosa un'altra cosa in questo appunto ci sono scritte una serie di cose che Colicchio non ha mai detto il dottor Barba tipo Cucchi su espressa richiesta dello stesso carabiniere aveva escluso di aver ricevuto maltrattamenti di sorta mentre risulta esattamente il contrario cioè che Colicchio non ha chiesto niente io non so se il verbale lo vogliamo produrre come però queste cose a me le ha dette Colicchio le ha dette Colicchio lo confermo assolutamente qui voglio dire la forza la forma il format l'impaginazione però c'è scritto Colicchio si è ben guardato da chiedere anche ma questo l'ho scritto io questa è una considerazione questo è un appunto mio questo è un appunto vero è la questione della cintura dottore mi sono calato troppo nel ruolo sulla cinta per esempio Colicchio non aveva chiesto nulla neanche come si era rotta la cinta no no ma guardi dottore la prima volta la prima volta rispetto la sua relazione del 16 ottobre parlo dei compiti assolti durante il militare di servizio alla caserma di Colicchio e la sua annotazione qui comincia a emergere e da questo da questo che mi dice Colicchio comincia a emergere che in realtà la persona si presentava più compromessa rispetto come l'avesse descritta prima e lui a me che fosse impressionante non me l'aveva mai detto dottore vabbè senta lasciamo questo appunto lei poi è andato a questa riunione sì allora sempre con riguardo all'ordine di servizio al paragrafo 9 volevo partire se posso signor giudice da questo consultandolo dal paragrafo 9 dell'ordine di servizio e ho indicato allora con riferimento all'ordine di servizio questo del 30 ottobre signor giudice 4 di 5 signor sì la parte sì ed è mia la scrittura è la mia dalle 9 15 alle 12 30 sempre disposto dal comandante della compagnia presso comando provinciale Roma per rapporto con quel comandante col comandante gruppo Roma comandante compagnia Montesacro comandante compagnia Casilina e personale coinvolto nella vicenda di Stefano Cucchi quindi noi siamo partiti alle 9 15 da Torsa Pienza calcolando nel rispetto della segnalettica abbiamo impiegato circa un'ora per arrivare alle spalle di piazza San Lorenzo in Lucina perché piazza San Lorenzo in Lucina è un'area solo pedonale quindi abbiamo parcheggiato siamo andati a piedi fino al comando provinciale al comando provinciale siamo entrati abbiamo fatto 5-10 minuti diciamo di antecamera non mi ricordo se ancora non erano arrivati tutti perché era stata estemporanea la richiesta di questo rapporto e quindi siamo entrati in questa stanza oltre quindi erano presenti il generale Tommasone il colonnello Casarsa il maggiore Soligo il maggiore Unali il maresciallo Mandolini io Colicchio Di Sano ovviamente non c'era perché era in Sicilia Palermo e c'erano 3-4 militari diciamo del versante Casilina perché io puoi dire stazione Appia PMZ dico versante Casilina e così sono certo perché io non annotai i nominativi dei presenti anche perché insomma mi sembrava anche alquanto irriguardoso irrispettoso farlo non e ma lei ha portato l'appunto con le dichiarazioni di Colicchio sì l'ho consegnato al maggiore Soligo l'appunto questo ha legato all'ordine di servizio sul contenuto del quale dottore l'ultima precisazione e mi sembra doveroso farla l'ordine di servizio è firmato da me Colicchio sempre al paragrafo 9 ci sono due firme una è di Colicchio e l'altra la mia quindi tutto ciò che c'è scritto qua è voglio dire Colicchio avendo sottoscritto l'ordine di servizio coniugava anche il contenuto dell'appunto che è integrante l'ordine di servizio stesso cioè io non ho scritto nulla non ho aggiunto nulla che fosse di mio Colicchio l'ha coniugato questo quindi sono tutte parole che mi ha dato indicazioni che mi ha dato lui vabbè andiamo avanti dicevo proseguo nella riunione allora non ci fu un un ordine nel senso innanzitutto non era filmata non era videoregistrata non era stenografata non nessuno ha preso appunti ma c'è un verbale no non c'è un verbale di questa di questa riunione però voglio dire io normalmente venivano fatte delle lettere dopo delle riunioni dove partecipavano questa diciamo era più ma più che una riunione posso dire vabbè non lo dico lo dico tanto guardi meglio di quello che ha detto delle intercettazioni meglio di così si non lo puoi dire lo dico no dico era io l'ho l'ho apostrofata come non non ho difficoltà a dirlo come riunione degli alcolisti anonimi riferita non alle alle voglio dire non alle persone di chi io facevo ma alle modalità perché allora innanzitutto voglio dire e spiego lo riempio di contenuti questa mia affermazione il 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 io avevo partecipato ad altre riunioni al termine voglio dire delle quali poi normalmente seguiva un un diciamo una comunicazione una sorta di riassunto di compendio degli argomenti trattati su questa non ci fu nessun compendio ma non è tanto questo perché quelle riunioni hanno diciamo uno spirito di commentare di introdurre di ammaestramento pure argomenti invece è stata tipica c'era una sorta di accertamento disciplinare all'aperto aveva senso quello che aveva fatto il maggiore soligo cioè sentire i militari separati in modo asettico approfondito piuttosto che sentirli tutti uno di fronte all'altro ma ci spieghi diciamo ecco senza come impostati come eravate messi c'era da una parte dove ci sono i giudici e i vari praticanti ecco c'era il generale tommasone centrale più defilato c'era il colonnello casarsa dall'altra parte c'erano i due comandanti di compagnia seduti avanti e poi diciamo eravamo un po' seminati sempre nei primi posti tra maresciato quelli di Appia stavano da una parte io Colicchio ci eravamo messi diciamo spostati dall'altra parte quindi sempre frontalmente e frontalmente il generale e la riunione voglio dire non è che c'è stata un io almeno di questo non ne ho memoria una premessa un'introduzione io mi ricordo che si è iniziato a direttamente e non una in un ordine temporale per come erano sedute le persone quindi magari chi ha riferito un fatto si è saltato si è saltato per poi tornare indietro temporalmente ma chi è che dava la parola allora lì oltre ciascuno che parlava chi diciamo l'interfaccia era solo il generale Tommasone ma come si interfacciava cioè cosa diceva no praticamente innanzitutto il generale Tommasone era molto attento a guardarli in faccia ma non aveva nessuna notazione tra le mani non lui sentiva cioè quello che raccontava cosa hai fatto qual è stato il tuo ruolo in questa vicenda e il militare lo raccontava quale fosse stato il suo ruolo quindi materialmente cosa aveva fatto fino a quando il allora ci fu qualcuno ci fu qualcuno che non mi ricordo su che passaggio aveva difficoltà a spiegare il diciamo il contenuto qualcuno di Appia qualcuno di Appia di Appia no 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 Colicchio fu fu dettagliatissimo quando espose e e gli dissero pure bravo glielo disse il generale Tommasone e non mi ricordo su quale passaggio un intervenì Mandolini in Durarecialo Mandolini due volte perché diciamo in un modo più argomentato spiegava quello che non riusciva a esprimere il concetto che non riusciva a esprimere il militare e il generale Tommasone intervenne e lo zitti dice se il militare se il carabiniere non sa spiegare davanti al suo generale come stanno le cose come lo potrà fare davanti a un magistrato questo è stato il senso insomma del richiamo fatto al maresciallo Mandolini perché di sua iniziativa interveriva e voleva interpretare quello che dicesse il carabiniere ma scusi non ho capito ma perché lei ha parlato di riunione degli alcolisti anonimi cosa l'ha colpita di questa che se qualcuno avesse ecco perché dicevo differiva da tutte queste altre riunioni di cui avevo partecipato perché se qualcuno avesse avuto da dire qualcosa lo dovrebbe dire davanti a tutti cioè qualcuno dovrebbe alzarsi e dire l'ho picchiato io o so qualcosa non poteva farlo cioè almeno io penso sempre col buonsenso non l'avrebbe detto così apertamente davanti a tutti anche perché se ho capito bene erano stati convocati tutti i soggetti coinvolti nel bere a bere bisogna un attimo di bere scusi dottore nascherina ecco no se ho capito bene i partecipanti alla riunione erano salvo quelli che erano in permesso e c'è tipo Di Sano erano tutti quelli che avevano partecipato alla vicenda Cucchi no no le dico guardi anche per Tor Sapienza non Grimaldi e Giarrocco il 30 ottobre erano di servizio a me alla stazione a me il maggiore Soligo mi disse Colicchio Di Sano io gli spiegai che Di Sano non c'era che era sempre partito e disse allora porta solo Colicchio vieni solo con Colicchio non mi disse porta pure Grimaldi e Giarrocco e pure quella notte ma io mi riferivo a quelli di Appia di Appia non lo so lo devo dire col senno di poi però lei ha detto quanti erano a parte Mandolini 3-4 la persona che non riusciva ad esprimere bene quello che era successo si ricorda chi fosse no perché io non conoscevo nessuno di Appia e non annotai nemmeno i nominativi cioè fissai i nominativi dei comandanti di compagnia e poi Mandolini che mi colpì che aveva una serie di decorazioni sull'uniforme e quindi fui diciamo attratto da quello perché io non ce li avevo con tanti anni di servizio eh sì se lo conosciamo senta ma in quella sede si parlò del discorso delle modifiche delle annotazioni? no senta una domanda per curiosità se ho capito bene in quella sede c'erano il generale Tommasona che è una persona conosciuta anche per aver ricoperto ruoli di operativi sì sì il comandante del gruppo che è il comandante della territoriale di tutta Roma no? confermo due comandanti di due compagnia confermo due comandanti di stazione confermo sì un titolare un interinale si può dire altrimenti mi corregga se sbaglio che il fotosegnalamento dell'arrestato è un atto obbligatorio confermo e in quella sede tutti i presenti lo sapevano? sì lo sapevano tutti ok ecco allora la domanda è questa qualcuno disse qualcosa sul fotosegnalamento? allora non mi ricordo chi della torna a ripetere perché non sarebbe più che tra l'altro fisicamente io li ho visti quel giorno poi non ho memoria di averli rivisti dopo e i nomi non li conoscevo ma uno del versante Casilina sempre di stazione Appia si perché poi stazione Appia ma perché non so poi chi altro c'era pure la consorziata Appia Quadraro di quella notte c'era il personale dell'Apmz io lo dico versante Casilina così però non mi ricordo se fosse proprio dell'Appia che lo disse praticamente spiegò che il signor Cucchi non era stato fotosegnalato perché non collaborativo cioè il motivo del fotosegnalamento è che comunque si era soprasseduto a questo aspetto in quanto italiano e con documento allora andiamo per oggi innanzitutto anzi partiamo dalla fine per quella che è la sua esperienza il fatto che fosse italiano e con documento autorizzava il mancato fotosegnalamento assolutamente ecco può spiegare lo sappiamo tutto con me ma lo dico anche lei è un atto lo posso è un atto obbligatorio ma il fotosegnalamento non è finalizzato tanto quanto per l'identificazione della persona perché ci sono tantissimi tantissimi soprattutto per gli stranieri accade questo dove nell'elenco dei precedenti dattiloscopici viene indicato esatte generalità sconosciute quindi l'identificazione come nome cognome date luogo di nascita è interpretato in questo modo è un dato non corrispondente alla finalità del fotosegnalamento che è quello di dimostrare che quella persona che ho di fronte con quella con quell'impronta corrispondente a un codice univoco identificativo sia la stessa che è stata fotosegnalata se ha dei precedenti in passato e l'elenco dei precedenti serve perché in 21 anni di stazione di comando di stazione non pochi arrestati o accompagnato alle direttissime serve anche poi per consentire l'estrapolazione dei casellari dei precedenti quindi è un atto necessario al di là del che possa poi essere utilizzato in sede di indagini per confrontare se con quelle impronte ci sono dei reati irrisolti quindi o che con quel nominativo dato sotto un altro nominativo ma con quelle impronte ci sia una persona gravata da un provvedimento restrittivo quindi gli scenari del fotosegnalamento sono talmente e quindi l'utilizzabilità sono talmente tanti che lo rendono per questo obbligatorio è obbligatorio sì ok senta innanzitutto poi passiamo alle ragioni del mancato fotosegnalamento ma restiamo sul dato oggettivo del mancato fotosegnalamento è davanti a questa informazione cioè il mancato fotosegnalamento in una vicenda già di per sé così complessa preso atto di quello che ha detto questo militare del versante Casiglina cioè che Cucchi non è stato fotosegnalato qualcuno per una sua per una condotta sì adesso ci arriviamo qualcuno innanzitutto il generale Dommasone il colonnello Casassa il maggiore Soligo hanno espresso stupore no nessuno ha detto niente nessuno ha detto niente allora adesso andiamo alle ragioni del mancato fotosegnalamento lei ha già detto che è un atto obbligatorio perché non è stato fotosegnalato quindi stava dicendo perché disse questo militare che non era stato collaborativo aveva fatto opposizione però dottore non fu circostanziata cioè questa affermazione non fu circostanziata né diciamo né come condotta né come collocazione del momento dell'opposizione sì si capisce al fotosegnalamento ma quando mentre lo sto portando mentre lo sto fotosegnalando mentre lo sto facendo sedere cioè il questo dettaglio nell'esposizione non fu fornito e non fu chiesto ecco e fu chiesto almeno cosa aveva fatto Cucchi per essere fotosegnalato non essere fotosegnalato no no e quindi dico circostanziare il comportamento non fu chiesto perché vuol dire lei ha fatto qualche fotosegnalamento sì come di solito l'ha arrestato e contento di essere assolutamente no anzi già solo sporcarsi le mani è motivo di di ampio convincimento insomma che si deve operare con l'arrestato per poterlo fotosegnare ma scusi quindi nessuno ha chiesto spiegami esattamente cosa è successo che ha fatto la ragione per la quale non abbiamo la foto nessuno ha chiesto niente no dottore perché nell'esposizione il messaggio che è passato è stato quello non è stato fotosegnalato in quanto non collaborativo ha fatto opposizione però si è bypassato al problema dell'identificazione in quanto italiano cioè la motivazione nell'esposizione che è stata data è non fotosegnalato ma problema risolto in quanto italiano e con documento è problema risolto cioè questo è ciò che poi domande visto che se ho capito bene ma forse non lo sa neanche lei la riunione era stata convocata per capire cosa era successo lei mi conferma che davanti a questa circostanza cioè Cucchi non fotosegnalato perché ha fatto opposizione nessuno fa alcun tipo di domanda no dottore nessuno ha fatto domande nessuno a parte l'avrebbe dovuto fare in quel momento solo il generale Tommasone perché voglio dire era lui l'interfaccia del militare in quel momento e lui ma nessuno poi ha detto nemmeno dottore che allora perché lei ricordo la richiesta se si è parlata di resistenza il termine resistenza non è stato mai utilizzato in quella riunione scusi sì io lo so il comportamento è è un sinonimo di resistenza la parola resistenza non è stata mai utilizzata la parola resistenza non è stata utilizzata però è stato detto che Cucchi ha fatto opposizione senza però circostanziarla in tal modo non ha consentito che venisse compiuto un atto d'ufficio obbligatorio confermo ecco e questa secondo lei che cos'è? è resistenza però il termine resistenza no ma il termine resistenza proprio il termine cioè la qualificazione resistenza non è stata data mi conferma per me resiste a tutti gli effetti nessuno si pose no nessuno signor Giudice si pose e qualcuno il generale Tommasone disse scusate ma l'avete denunciato per resistenza? no non lo disse non fu detto nemmeno se dovesse essere fatta un'informativa per questo non fu detto nulla nessuno precludeva la possibilità di farla anche a posteriori non era un atto a convalida nelle 48 ore dottore quindi l'informativa tranquillamente si poteva fare anche adesso non parlo col seno di voi parlo con la pratica ricorrente non era un atto soggetto a convalida quindi però non fu detto la faremo dopo la vedremo è stata fatta questa affermazione che è rimasta così e nessuno ha detto ma perché nel verbale di arresto non è precisato perché le modalità di identificazione sono indicate nel verbale di arresto no no non si è parlato proprio di verbale di arresto ma insomma a che serviva questa riunione? io cioè gli hanno dato una spiegazione? no c'era un oggetto? no lei non sapeva che quel giorno doveva essere redatto un appunto che poi sarebbe stato utilizzato dal ministro per rispondere in aula? assolutamente no dottore il colonnello Cavallo partecipò a questa riunione? no senta luogo tenente io vorrei adesso stimolare il suo il suo ricordo sulla relazione a sua firma del 29 dicembre dicembre 2019 adesso gliela esibito lei ricorderà lei era presente è stato presente a tutte le udienze che quella relazione è stata esibita anche al generale Tommasone sì confermo e gli è stato esibito anche uno scambio di mail col colonnello Casarsa sì ha avuto modo poi di ripensarci di fare un pochino mente locale allora dottore io ci ho ripensato già quando lei in corte d'assise mi ha fatto la domanda a pagina 42 delle trascrizioni in cui lei mi ha detto se qualcuno avesse messo becco è stata la sua proprio la sua testuale e io le avevo risposto negativamente dicendo nessuno me l'ha corretta sì e io non potevo fare di scopere io non ho visto io non premesso che voglio dire ero anche venuto in corte d'assise senza chiedere alcuna di scopere di atti quindi scusi solo per comprendere la domanda del pubblico ministero in quell'occasione fu se qualcuno avesse messo becco sul contenuto di quella relazione e io signor giudice risposi di no nessuno mi ha fatto nessuna correzione ma perché avevo quella che era gli atti miei la relazione il e adesso spiego come sono giunto avevo la relazione corretta il quando al 415 bis ho acquisito tutta la documentazione ho riconosciuto nella 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 prima mia relazione il mio stile di scrivere e ricostruisco quello che è accaduto in questa relazione mi sono mi si è aperto il cassetto della memoria è proprio per chiarezza non ho proprio capito la prima e la seconda relazione adesso cercheremo di capire è ovvio insomma voi dovreste avere tutti gli atti quindi forse e conoscete anche il contenuto forse è più difficoltoso per me comprendere questo è per tutti quali cassetti magari allora se vogliamo un attimo pubblico ministero insomma magari introdurre questo tema della relazione almeno che per il giudice è senz'altro sconosciuta sì no giudice in realtà guardi l'abbiamo già esibito al generale Tommasone e io adesso vi ho fornito una nota mi sembra di capire dalla risposta che ci sono due testi anche in questo caso delle relazioni cioè sono una relazione una relazione modificata sì mi ha sembrato di cogliere questo allora innanzitutto può spiegare il luogotenente come si arriva a questa relazione qual era l'oggetto chi aveva fatto la richiesta allora il il 22 il 22 dicembre del 2009 perviene alla stazione Torsapienza in fax una richiesta dalla commissione parlamentare sull'efficacia e l'efficienza del servizio nazionale del servizio sanitario nazionale presso commissione presso il senato della repubblica allora preseduta dal dal senatore se non ricordo male Ignazio Marino era indirizzata alla quindi stazione Torsapienza egregio luogotenente sì e questa veniva chiesto quali fossero i motivi in forza i quali nella prima mattinata del 16 ottobre fosse stata richiesta l'intervento del personale sanitario del 118 a quel punto le premetto che io ero ho avuto modo di verificarlo le parlo all'epoca quando poi sono tornato perché avevo dato quella risposta in corte d'assise che le ho citato prima ma mi era rimasto posso dire un retrogusto un amaro in bocca cioè c'era qualcosa che nella mia mente mi ruotava mi richiamava e sono andato poi diciamo a verificare al al doxpa cosa fosse presente di questi atti e cosa ho trovato al doxpa della stazione torsapienza la come documento principale la mia lettera alla compagnia montesacro del 29 dicembre del 2009 nella quale trasmettevo dei documenti la relazione con dei documenti e la cosa che mi è sembrata strana che nell'allegazione ai documenti che avevo al quindi parlo degli allegati del doxpa il primo allegato era in word la relazione da me non firmata ed era quella la possiamo definire versione modificata quella corretta dal generale tommasone che io non ho copiato pedissequamente dottore io l'ho ricevuta direttamente in formato word da chi e questa l'ho ricevuta lo stesso giorno in cui adesso arrivo da chi io non ho avuto interlocuzioni né col generale tommasone né con il colonnello casarsa né con nessun altro il mio unico interlocutore era il maggiore soligo della vicenda aggiungo il a questa a questa relazione sono allegati ci sono altri due allegati al doxpa quindi il doxpa era formato dal documento principale che era la mia lettera di trasmissione alla compagnia Montesacro e che io portai in sede di interrogatorio da lei ma le voglio dire perché c'è stato lei pensava fosse stata sottoposta a sequestro e io le dissi di no che questa l'avevo consegnata al nucleo investigativo questa lettera qui quando era venuta nel 2015 la relazione e ritorno all'allegato del doxpo quindi documento principale lettera di trasmissione di torsapienza che ho fatto personalmente alla compagnia Montesacro e come allegati c'erano tre allegati il primo era la relazione in word già corretta il secondo allegato era la richiesta della stazione Appia fatta all'Ares 118 del diciamo del cartellino di emergenza e del modulo di rilevazione dati in più c'era quindi sempre come secondo allegato era formato da tre fogli primo foglio richiesta di Appia all'Ares risposta dell'Ares con allegato quindi era il terzo foglio il cartellino di emergenza che è quello che è allegato qui alla mia relazione guardando quel cartellino di emergenza ci sono e c'è l'orario di richiesta ad Appia che fa Appia all'Ares che è sempre la mattina del 27 quindi la mattina del 27 sono partite in contemporanea all'Ares 118 due richieste una da torsapienza che per quanto mi riguarda mi ha chiesto il maggiore Soligo e l'altra è partita da Appia poi c'è il terzo allegato invece era il modulo di rilevazione dati ed era un foglio solo che è questo se vuole posso leggere il progressivo di quello il 1419 anche questo è riferito sempre alla trasmissione di Appia cioè quindi a me il 29 è stata mandata chiedo scusa faccio un passaggio indietro quando è arrivata questa richiesta in fax io ero in licenza comandava la stazione il maresciallo di Maio e il maresciallo di Maio mi chiese questa è la prima volta che a noi stazione ci arriva una richiesta da un organo parlamentare perché normalmente le interlocuzioni arrivavano per il tramite gerarchico erano indirizzate al comando generale al comando adesso normalmente al comando generale che poi le mandava a scendere e poi ovviamente a risalire tramite gerarchico nella risposta questa ci pervenne invece direttamente a noi allora io dissi a Di Maio guarda a me non è mai successo e non so manco se sia un ente al quale noi possiamo fornire direttamente informazioni in quanto comando stazione cioè unità di base e non lo debba fare un comando ufficiale anche se non sapessi quale fosse il comando ufficiale allora dissi guarda manda la compagnia Montesacro questa questa richiesta e chiedi indicazioni infatti nel carteggio acquisito presso il comando provinciale c'è un'email mandata il 22 dicembre intorno alle 19 dal maresciallo con l'indirizzo di posta elettronica del maresciallo Mastronardi aspetti che gli asibisco mi dica se è questa chiedo scusa pubblico ministero visto che ha interrotto il test se posso io chiedo scusa in anticipo sicuramente deve essermi sfuggito qualche passaggio però siccome ho sempre chiesto la copia integrale degli atti può darsi che l'abbia chiesta ma poi che non l'abbia diciamo debitamente consultata questa copia io mi sono un po' perso confesso cioè la relazione di cui parla il test la conosco bene l'ha legato 10 al suo interrogatorio è la relazione che fa lui il 29 di dicembre si ferma un attimo e le spiego ecco tutti questi altri documenti non ho capito sono documenti che abbiamo già esibito il generale Dommasone all'udienza del 18 novembre 2020 e che fanno parte del fascicolo del provinciale acquisito dal colonnello D'Aloia e trasmesso dal colonnello Conio e quindi il novembre del 2018 ok se nell'affogliazione del pubblico ministero 1417 1419 sì sì ma sono atti Gesi B venga un secondo mi scusi allora è questa la media una giudice ha ritrovato l'avvocato Borzano è avvocato ci siamo dalla affogliazione del PM dal 1408 in poi questa invece è 1416 no 12 mail da maresciallo ordinario Mastronardi sì rettor sapienza sì a CPRM 214 eccetera eccetera sì 70 ne ho signor giudice quello è l'indirizzo di posta elettronica del della compagnia Montesacro nucleo operativo perché il praticamente se non ricordo male in quel periodo perché io controllai così come ho fatto per l'aprile del 2011 però non abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti controllai la pratica dell'ordinanza di servizio e il 22 dicembre il maggiore Soligo era in licenza era comandava la compagnia il tenente Carmine Mungiello ecco perché l'indirizzo di posta elettronica è quello del nucleo operativo non so se sono stato quindi non è l'indirizzo del comando provinciale no questo è l'indirizzo della compagnia Montesacro nucleo operativo il giorno scusi 22 dicembre 2009 da quello che poi lei che ho verificato il maggiore Soligo era in licenza l'ho dedotto perché l'ordinanza di servizio che ci veniva mandata cioè l'impiego del personale presso vigilanze insomma altre esigenze interne voglio dire non so rinforzo di pattuglie e via dicendo veniva fatto con un'ordinanza di servizio dalla compagnia alle stazioni e l'ordinanza di servizio del del 22 era a firma del firma digitale del tenente Carmine Mungiello ecco perché la posta elettronica è indirizzata a lui ok quindi quindi dico siccome chiedo indicazioni chiedo indicazioni eh sul praticamente dico scrivi a Montesacro e chiedi indicazioni a chi innanzitutto se possiamo rispondere noi direttamente o in tal caso ma questa ma questa mail cioè avrebbe dovuto chiedertelo come telefonicamente no ecco perché il ho detto manda alla compagnia la richiesta sì in modo tale che superiormente sia analizzata anche perché io avevo solo ed unicamente le annotazioni non avevo un quadro d'insieme una panoramica quindi voglio dire insomma già sulle annotazioni c'erano stati dei problemi e poi già mi aveva mi aveva richiamato il maggiore cioè ma che fatto che quelle lette e allora per escludere qualsiasi forma di problema ha detto mando la richiesta e chiedo indicazioni ma avete lei ha parlato personalmente con il maggiore il suo dico no allora quando ho mandato questa no no eh allora il praticamente è stata fatta questa io stavo in licenza sono rientrato il 28 ho controllato ho ripreso servizio il giorno 28 di dicembre il maggiore è stato in licenza è rientrato il 30 il 29 però mi ha chiamato il maggiore soligo maggiore soligo sempre per me il maggiore soligo è stato il punto di riferimento mi sono ricordato di questo che mi ha detto dice fai la relazione mandamela te la guardo e te la restituisco quindi la relazione sulla quale ha indicato le correzioni il generale Tommasone è quella che ho redatto io e che ho mandato al maggiore soligo quella mia originaria e la riconosco senza ombra di dubbio quale sarebbe scusi la mia mi dica se mi hanno magari numeri aspetta quella che può stare corretta intende quella che è stata corretta che ha una forma discorsiva di narrazione cioè quella di cui lei riconosce la paternità di cui riconosco la paternità se mi dica se è questa si è questa però aspetta il numero di pagina 1422 e 1423 senta luogotenente ma questa qua risulta mandata in visione preventiva da Casarsa a Tommasone il 23 dicembre io però non so cioè io i passaggi successivi no aspetta non mi sto spiegando lei la sua che poi è stata corretta quando la scrive materialmente allora io sono rientrato il 28 non ricordo se l'ho scritta il 28 e l'ho mandata il 28 e mi è stata restituita il 29 o l'ho scritta il 29 perché qui dottore viene mandato io non ho mandata non l'ho mandata il 23 non c'ero ero a Bari per questo lo dico però questa risulta legata almeno stando agli atti contenuti nel fascicolo del provinciale con una mese del 23 no io guardi l'ho fatta o il 28 e il 29 glielo posso confermare uno di quei due giorni o quando ho rientrato diciamo sono rientrato e l'ho redatta ma e mi è stata restituita il 29 perché al DOX fa ritorno a dire quando sono tornato dalla corte d'assise me le sono segnate tutte queste cose a dicembre 2018 io nell'ordine ho acquisito intorno alle 21 e 36 la mia 21 e 26 la mia prima lettera e poi 21 e 36 primo allegato secondo allegato e terzo allegato che mi erano arrivati con email però io di quell'email dottore non ho scannerizzato cioè non l'ho protocollata perché comunque c'era una lettera mia poi di trasmissione e e io non ho letto rispetto la mia relazione originaria io non ho letto significative notifiche perché andandole a riscontrare no 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 spiego il perché lo spiego perché io praticamente nella mia relazione avevo desunto gli orari e le diciamo il passaggio del rifiuto del ricovero ospedaliero dalla da quello che era voglio dire anche indicato dal da Colicchio da quello che stava nel nel referto del 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 118 quindi voglio dire poi invece in quella corretta era più schematica era con contrattini poi era stato richiamata la certificazione che è quella di Appia però non è quella mia allora premesso che nessuno sta contestando no no spiegato lo volevo solo spiegare però cerchiamo di capire meglio nessuno sta contestando reati con riferimento a questa annotazione e relazione però lei ha detto di avere redatto la bozza cioè quella poi corretta quella che la prima la prima sì 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 la bozza esatto in world ok il generale Tommasone ha già riconosciuto la sua grafia nella in quella scritta a penna sulla sua bozza sì ok quella è una bozza veramente perché non è sottoscritta non è protocollata e quindi su questo siamo d'accordo lei dice io l'ho mandata al maggiore Soligo al maggiore Soligo all'email del maggiore Soligo ok e dalla risulta che Casalstra l'ha mandata a Tommasone l'unico passaggio che non mi torna io stimolo e ricordo è la data e io ma non è il 23 perché io stavo a Bari il 23 è impossibile ma perché era a Bari non poteva scrivere una bozza no 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 non gliela avranno sollecitata scrivere la commissione parlamentare antimafia antimafia sempre da dottore l'altro giorno ho visto proprio un filmino che il 24 del 24 dicembre 2009 ero a Bari quindi non può questo è il 23 però io andavo prima con la mia famiglia io pure vado a Leccio a Natale però mi porto di lavoro è sicuro che non ha che non l'ha fatta io io del 23 dottore non ne posso essere proprio sicuro perché mi ricordo più 28 29 ecco però una cosa è non essere sicuro una cosa è dire me la ricordo no no io diciamo del 23 non posso essere sicuro la mia memoria mi spinge verso il 28 29 come memoria perché ricordo che la risposta mi arrivò lo stesso giorno o il giorno dopo ho questo ho questo ricordo ho questo ricordo comunque la bozza la scritta lei è mia è mia è mio lo riconosco il mio stile va bene il generale Tommaso ne riconosce la sua grafia nelle correzioni quindi su questo ci siamo senta ma quindi chi è che poi le manda la versione definitiva che lei poi sottoscrive ritorno il 28 il 29 io guardi non sono allora a mandarla l'ho mandata sicuramente al maggiore Soligo questo sono certo del ritorno non ho memoria dottore sinceramente non ho memoria non posso dire io posso affermare quello che ho memoria certa del ritorno no però escludo escludo che la possa aver ricevuta dalla segreteria del comando provinciale dalla segreteria non so se me l'ha mandata me l'abbia mandata il tenente mungello il nucleo comando non lo so questo nel senso non lo ricordo più che non lo so non lo ricordo ma perché dice non sta su doc no no perché io io non la protocollai in entrata mi salvai gli allegati e nella misura in cui mi erano arrivati cioè relazione prima certificazione di appia seconda certificazione di appia io li salvai tanto è vero dottore che quando c'è stato il mio interrogatorio con lei il ritorno a questa relazione io l'avevo l'avevo portata dietro e gliela vedi e lei mi disse che non non era stata chi mi chiese se fosse stata sequestrata io le distino che questa documentazione l'avevo data in copia cioè l'avevo consegnata al al nucleo investigativo va bene però poi ho visto che il nucleo investigativo questa documentazione non l'ha trasmessa cioè ma quantomeno il capitano Blanco non l'ha trasmessa va bene senta un'altra domanda ma fra lei che tipo di interro... al di là della mail con cui che lei manda a Soligo con la bozza lei che tipo di interrogazione ha avuto col maggiore Soligo su questa relazione no l'interlocuzione è stata a parte poi il 30 la compagnia a firma del maggiore Soligo l'ha mandata io l'ha trasmessa il 29 la compagnia l'ha avuta il 30 cioè l'ha l'ha trasmessa il 30 al comando del gruppo allora di questa stiamo dicendo della relazione guardi dottore io ho della cioè hai dato delle indicazioni su come scrivere no 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 assolutamente no 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 poi ha detto cosa no ma ne ho iniziato a scrivere le solite cose che scrivete voi no 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 io guardi proprio per evitare quello che mi era stato contestato prima ho detto al maresciallo Di Maio trasmettila alla compagnia Montesacro e facciamoci dare indicazioni però io mi ricordo la risposta il 23 mi ricordo tra il 28 e il 29 so se non posso confermarlo il 23 se non è certo no non ne sono certo lei è certo che quella bozza sia sua sì questa è mia è mia riconosco proprio il mio stile senta e in questa bozza lei sostanzialmente che fa riprende quello che ha scritto Colicchio Colicchio nella sua seconda versione cioè parlo di malessere generale e perché non parla di quello che ha scritto Di Sano? ma anche perché diciamo Di Sano aveva fatto pure c'erano delle valutazioni nella parte di Di Sano della notazione e poi il diciamo il range di richiesta rientrava nella parte di Colicchio ma comunque Di Sano mi sentì di escluderla perché c'erano delle valutazioni fatte nella notazione di Di Sano Senta Locotenente lei in una intercettazione che poi è sempre la solida con il suo fratello del 26 settembre 2018 progressivo 49-87 a un certo punto dice ho dovuto rispondere a un'interrogazione parlamentare nel frattempo quindi gli atti nostri tutti originali andavano avanti e dietro tra compagnia e gruppo in continuazione io li trasmettevo in questi passaggi spesso il comandante di compagnia si riprendeva direttamente e infatti io diciamo con quell'affermazione dottore era facevo riferimento a questa perché poi questa è stata questa relazione dell'Ares è stata consegnata a mano ecco perché io dicevo questa atta avanti e dietro era riferito alla correzione io questo intendevo dire e poi non non sono entrato proprio nello specifico senta visita del senatore Pedica se la ricorda si 2 novembre del 2009 e lì presso la stazione Torsapienza fu venne il colonnello ecco quello è stato l'unico contatto che io ho avuto con il il colonnello Casarsa al di là della riunione che però lui è stato uno spettatore insomma non ha preso parola è venuto a Torsapienza con il maggiore Soligo perché quel giorno venne in visita se non ricordo male il senatore Pedica appunto visitò non la caserma ma la camera fu condotto presso la camera di sicurezza dove era stato detenuto il signor Cucchi vide la camera di sicurezza ricordo che facciamo anche vedere il registro cioè la registrazione del del detenuto ma io non ho avuto interlocuzioni con il senatore ma chi ha parlato con il senatore eh no solo il il colonnello Casarsa senta eh lo contenente ultimo argomento eh ce la fa o è stato? sì sì novembre 2015 visita del nucleo investigativo sì ci vuole iniziare a spiegare te sì posso così cercherò di di fare ogni ogni passaggio allora era quindi parliamo 5 novembre 2015 il il militare di servizio alla caserma mi avvisa ehm guardi comandante qui c'è personale del nucleo investigativo che vuole parlare con lei allora quella mattina noi avevamo alle ore 10 e stavamo proprio in procinto di uscire io e il maresciallo di Pietrantonio ehm un già fissato il rapporto dei comandanti di stazione e dei reparti dipendenti la compagnia Montesacro che all'epoca era comandata dal capitano Nico Blanco e il rapporto già fissato prima di quel giorno presso la stazione Fidene e e e quindi vennero poco prima che noi dovessemo uscire vogliamo dire intorno le perché da Torso noi arrivavamo sempre diciamo all'ultimo minuto e eravamo i più distanti dalla stazione Fidene e erano intorno alle 10 meno 20 posso dire il perché ci volevano un quarto d'ora 20 minuti arrivare a Fidene e noi arrivavamo sempre puntuali per l'orario del rapporto e a questo punto entrarono nel mio ufficio io non li conoscevo era la prima volta che vedevo erano in tre poi ho appreso i nominativi dei tre non cioè poi voglio dire dopo dopo l'interrogatorio non sapevo come si chiamassero o meglio si sono anche qualificati ma io non ricordavo più poi i nominativi e e mi dissero che avevano una una delega e dovevano a cui si dovevo produrre tutti gli atti della vicenda Cucchi cosa che avevano no dice che loro stavano lì in forza di una delega di una delega si si io così guardi io così ricordo il ricordo può essere anche fallace io mi ricordo di una delega si si erano lì in forza di una delega ma questa delega chi l'aveva fatta? allora io la delega non l'ho vista la delega non l'ho chiesta perché adesso spiego perché non l'ho chiesta loro e che volevano gli altri allora aspetti aspetti però le chiedo di nuovo il delegante chi era? la procura la procura la procura gli hanno detto anche chi era il magistrato no nel magistrato negli estremi perché lei nell'interrogatorio ha detto per acquisire gli atti sul delega della procura eh nell'igenza lei ha detto mi hanno detto che avevano una delega a sua firma le facevo le domande io ah si le facevo le domande lei risponde a me si avevano una delega a sua firma no no era della procura però quando lei me l'ha chiesto in corte di assisi la sua firma perché la domanda me la faceva lei ah vabbò avevo capito ma va bene ma per questo ho dato la risposta no 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 la delega della procura io poi la prima cosa che ho fatto è stato il pensiero devo avvisare il comandante premesso che in quel momento nella stazione c'era il piantone che era il carabiniere valenzano il carabiniere lupino segnato allora loro vengono prima delle 10 ma lupino veniva scendeva sempre prima c'era il carabiniere lupino segnato 10-14 ricezione 14-16-30 di sbrigo io e il maresciallo di Pietrantonio ma io e il maresciallo di Pietrantonio dovevamo andare al rapporto quindi la mia prima preoccupazione è stata quella di telefonare al capitano Blanco e chiedere al capitano Blanco informarlo signor capitano qui c'ho personale del nucleo investigativo che deve citare una delega della procura riguardante la vicenda cucchi io al rapporto non posso venire ci viene solo di Pietrantonio si va bene Colombo dice la cosa importante mi raccomando dai tutta la tua collaborazione dai tutta la tua disponibilità dice certo se lo piano provvederò come è sempre fatto quindi io informo il capitano che non andrò al rapporto e che quindi il capitano a torsafienza io lo escludo categoricamente ma dico lei ha sentito il capitano Blanco ha detto che è venuto per pochi minuti io lo escludo dottore e se è venuto è rimasto fuori al cancello o sarà entrato nel cortile ma io non ho memoria di lui davanti al mio cospetto io ho memoria di due telefonate fatte a lui una per informarlo che io non ero non sarei andato al rapporto per questa esigenza e la seconda sulle modalità di acquisizione della documentazione ma al termine della mattinata che stavano è stato il nucleo investigativo io ho memoria di due telefonate però c'è una telefonata che dico del 23 settembre 2018 con tale Luigi che credo sia un suo amico collega era il brigadiere Luigi Vigiano ed era a Torsa Sapienza in servizio si si era ancora a Torsa Sapienza il RIT 49 47 18 progressivo 158 in cui lei dice perché a me hanno acquisito tutto quel giorno vennero qua e si presero tutto con blanco no no io volevo dire per blanco no 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 ma è sicuro il cacano blanco che motivo avrebbe avuto guardi la mia memoria mi porta a escluderlo io la mia memoria mi porta a escluderlo e non cioè voglio dire perché dovrei dire che c'era io mi sento di dire veramente quello che ricordo non se lo ricorda no io non me lo ricordo per niente vabbè andiamo e non proprio ma ma nel modo più assoluto lo ricordo io invece ricordo le due telefonate fatte che dico ma provate a fare lo sforzo perché nel lei nel capitano blanco no ma infatti non ci avrei motivo di dire anzi anzi per tutto ciò che ha detto il capitano blanco per la parte in cui c'è stato vuol dire è anche a mia garanzia perché no io non me lo ricordo per niente va bene va bene se poi non lo so ha parlato col piantone non non ha parlato con me vuol dire io non me lo ricordo non posso non posso dire c'era quando la mia la mia memoria non lo colloca di fronte a me va bene non se lo ricorda va bene non me lo ricordo diciamo quello che si ricorda invece allora mi fu chiesta la di quindi di consegnare tutto quello che fosse nella diciamo tutti gli atti tutti gli atti della vicenda cucchi allora io avevo innanzitutto il in più voglio aggiungere segnatamente il memoriale e gli ordini di servizio del 15 e 16 di dicembre del 2009 ottobre no dico ottobre ottobre chiedo scusa ottobre 2009 e a quel punto dottore ho allora io sapevo che c'era stato un allagamento perché l'avevo vissuto torno al 2013 2014 e della parte di una parte degli archivi che noi avevamo nel perimetro circoscritto della caserma quindi chiuso delimitato da recinzione ma all'aperto e un e in questo carteggio purtroppo era andata distrutto quello che noi tenevamo fuori degli anni precedenti quindi il 2009 gli atti originali che loro mi chiedevano io non ce li avevo avevo però in fotocopia quella famosa che ho detto all'inizio raccolta che io mi ero fatto composta da un foglio per ogni atto e dissi proprio questo guardate io c'è stato l'allagamento gli originali non ve li posso dare o le fotocopie e li possiamo anche incrociare con i protocolli informatici allora cominciamo dai memoriali dissi che era la cosa più che avevo certezza ci fosse incaricai a Lupino di di andare fuori insomma farsi dare anche una mano perché erano a causa dell'allagamento noi avevamo diciamo non più tutto bello ordinato ma avevamo dovuto purtroppo accatastare dei faldoni gli si fatti dare pure una mano se ti occorre ma non dal piantone che era impegnato alla ricezione del pubblico e quindi siccome lui all'inizio non li trovava non riusciva a seguire le mie indicazioni io stavo poi fisicamente con i tre componenti del nucleo investigativo non li potevo lasciare da soli questi tre componenti erano quindi che poi ho identificato il capitano testarmata il luogotenente Petrollini e l'appuntato Serra vabbè l'appuntato Serra lei l'ha mai visto in vita sua no no capitano testarmata e Petrollini li ha visti li ha visti fisicamente erano loro sì sì loro ma chi si interfaccia con lei allora a parlare è stato il capitano testarmata anche se qualche interlocuzione così c'è stata pure con il luogotenente Petrollini il ma il diciamo il la principale era il capitano testarmata ok e il quindi ricerca memoriali ordini di servizio ma questi ricercano gli archivi che avevate fuori che avevamo fuori all'esterno mentre all'interno dottore io avevo sempre questa cartellina raccolta dove la prendo nelle mani mie quindi non ho consegnato loro la cartellina nelle mani mie ho cominciato dagli atti che stavano a partire da sotto perché io erano tutti messi in ordine cronologico e non classificati perché non non potevano avere una classifica in quanto non era una copertina che rispondeva a un protocollo era un raccoglitore cioè non indicizzati non indicizzati non indicizzati si usate il termine nostro dell'arma classificare che vuol dire indicizzare però erano tutti in una coppia all'interno di questa cartellina quindi nell'ordine ho consegnato che cosa la relazione come primo atto del 16 ottobre le prime due annotazioni con la lettera dell'appia io consegnavo un foglio così chiarisco subito un foglio alla volta lo consegnavo in mano come erano seduti il capitano testarmata ce l'avevo alla mia sinistra il luogotenente Petrollini a destra qui c'avevo il monitor del mio pc scrivania e dietro loro due c'era l'appuntato serra seduto su di una poltrona e da dove stava non poteva vedere il monitor quindi le due persone sedute io un foglio alla volta lo passavo nelle mani del capitano testarmata capitano testarmata lo guardava scusate luogotenente scusate se interrompo siccome mi pare che nell'esprimersi cioè nei gesti dica sinistra e destra ma riferendoli di fronte a sinistra e a destra chiedo scusa invece poi dalla trascrizione sinistra e destra può sembrare ai lati scusate sono interrotto ma mi sembrava un particolare poi utile per la trascrizione se di fronte sulla sinistra e sulla destra oppure se a fianco a lei sinistra e a destra voglio dire per vedere il monitor poi il luogotenente Petrollini si era un pochino più spostato ecco perché avevo allora quindi produco anche nella descrizione faccio anche la mimica no dico escludo la mimica e volevo dire il contrario chiedo scusa se lo aggiungono ma scusi chiariamo una cosa fra lei e i militari del nucleo investigativo c'era la scrivania si c'era la scrivania che ci si parla quindi quando lei dice che il capitano della destra armata è la sua sinistra non intende accanto a lei ma oltre la scrivania no no di fronte a me di fronte a me alla sinistra si volevo dire di fronte a me a sinistra ok si quindi ho passato passavo il primo foglio ho passato la relazione il capitano testa armata guardava leggeva faceva vedere a Petrollini che stava a fianco e poi si rimetteva a sinistra il foglio secondo foglio annotazioni prima prima versione originale prima annotazione colicchio seconda annotazione di sano scheda numero 80 di registrazione lettera dell'appia le ho passati perché erano quindi scusi prima annotazione colicchio seconda di sano quindi sta facendo riferimento alle prime versioni quindi ho passato quindi prima ha dato la lettera di trasmissione ad appia con allegate le due annotazioni quelle non modificate sì quelle non modificate così come c'era erano diciamo nate ho dato questo loro hanno guardato sempre al capitano testarmata che guardava leggeva guardava pure Petrollini diceva bene avanti ho dato le seconde annotazioni aspetti io in quel momento si è reso conto che stava dando le annotazioni modificate sì certo che me ne sono reso conto l'ho data io e non le hanno prese loro dottore certo che lo sapevo ho dato le seconde versioni prima non mi ricordo se prima colicchio di sano ma voglio dire in chiare ma ho dato la prima delle seconde versioni seconda seconde versioni l'ha guardata e prima l'ha guardata il capitano testarmata l'ha passata al luogotenente Petrollini e mi ha detto subito chi il capitano testarmata ma quale delle due innanzitutto perché ce ne sono due mi ha chiesto e quale delle due è quella che bisogna tenere conto quindi lui voglio dire ma è stato dieci secondi cioè alla visione del del foglio parlo lui sempre il capitano testarmata e io ho detto guardate c'è una logica in tutto questo adesso ve lo dimostro a quel punto ho aperto il c'avevo il il pc insomma con con il il doc spa aperto il poi ogni tanto il doc spa si bloccava quindi bisognava riavviarlo vabbè ma era una roba di attimi il ho ruotato lo schermo in modo che loro lo potessero vedere e da lì ho fatto una ricerca molto semplice ho tolto l'anno di riferimento quindi ho lasciato un range tutto il range del doc dox spa dal 2015 dal 2005 fino al 2018 ho digitato il cognome eh 2015 vi chiedo scusa 2015 perché dal 2005 perché esiste dal 2005 sì perché il doc spa è entrato in vigore nel nel 2005 ho quindi ho tolto l'anno che ne limita poi la ricerca ho digitato cucchi e sono usciti tutti gli atti eh di cucchi non solo anche coloro che avevano le faccio un esempio il cognome cucchiarale quindi con quel tipo di ricerca esce tutto tutto quanto ma mi scusi se l'entrò un po' è la stessa cosa che poi ha fatto anni dopo con Codicchio quando è tornato dall'audienza la stessa ricerca più o meno sì no è semplice anche perché io quella famosa cioè quell'e-mail eh incamerata nel doc spa e protocollata informaticamente io l'avevo protocollata col profilo base di protocollista in modo che chiunque digitasse il cognome gli la potesse consultare cioè non avevo dato un dominio ristretto o esclusivo a solo chi avesse un incarico di comando no a tutti allora il ho ruotato il pc quindi ecco qua ed è da lì poi ho cominciato a spiegare eh quello che era accaduto nel 2009 diciamo non come lo stiamo facendo oggi in un processo ovviamente e dissi che erano state redatte queste prime annotazioni che fui chiamato dal maggiore soligo mi fu mossa la contestazione che erano troppo particolareggiate non andavano bene il maggiore soligo poi è venuto a Torsapienza si è incontrato con il personale ha interlocuito con loro e sono giunti alla determinazione di queste seconde annotazioni sono giunti perché ovviamente io non sapevo nulla di Colicchio Colicchio me l'aveva detto poi nel 2018 che a lui non andavano bene cioè a lui non andava bene la sua io fino ad allora non lo sapevo l'avevo trovata firmata nessuno mi dice niente vuol dire che sono giunte a quella determinazione dice guardi quella annotazione poi dice è la versione modificata delle seconde annotazioni sono giunte con questi mail ed ecco che ho sempre con con Cucchi ho aperto direttamente sulla maschera dove stavano tutti i ripetuti tutte le cartelle che avessero la radice Cucchi ho aperto quella dell'email molto semplice è lì allora è lì che ho colto lo stupore quando hanno diciamo nell'email hanno visto chi fosse il mittente aspetti aspetti quindi non aveva colto lo stupore davanti alla doppia no 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 pensate su l'hanno colto pressoché subito invece la meraviglia l'hanno colta vedendo l'email ma non tanto l'email in sé per sé il mittente di quell'email perché poi queste sono tutte voglio dire riflessioni che uno lì per lì non fa e che fa col senno di poi perché il colonnello Cavallo in quel momento era il stava al comando provinciale all'ufficio comando con la porta a fianco del comandante del reparto operativo quindi vuol dire era una persona conosciuta a chi stava facendo in quel momento l'accertamento quantomeno e vista questi mail allora ho aperto chiaramente gli allegati e mentre e nel frattempo avevo diciamo anche spiegato come si è raggiunto come si è raggiunti alla determinazione di quell'email fatto questo vista l'email il capitano testa armata si è alzato e tu scusi un attimo è uscito senti aspetti un attimo circostanziamo un pochino per insomma per ancorare le sue percezioni dell'epoca a dei dati di fatto questo stupore lei da cosa ha desunto l'ha dedotto perché ha visto che a quell'email erano allegati due file word la datazione di quei due file word del 27 era dall'espressione del viso ah si no volevo dire dall'espressione ah si è certo lei per esempio negli interrogatori o negli integrali dice quando ha visto le email il capitano del nucleo investigativo gli si sono aperti gli occhi si sono aperti dall'espressione del viso si no lo davo non ha fatto affermazioni a livello vocale era di di mimica facciale ed è stato molto più diciamo è quello che ha attivato subito perché forse sono andato un attimo e un passo avanti dopo questo la prima cosa che lui ha voluto verificare da lì che si è attivato era il email in uscita e io gli spiegai guardi che purtroppo mi hanno cambiato il pc mi hanno sostituito il server è cambiata anche la versione io non dispongo più dell'email in uscita ma lei è sicuro che li ha mandati in questo modo guardi cioè che li ha mandati in un altro modo e sono stati modificati quindi noi abbiamo perso tantissimo tempo ecco perché sono stati tre ore nella ricerca dell'email in uscita mi ha fatto controllare al Doxpa mi ha fatto aprire tutte le caselle che stavano mi ha fatto anche controllare in Outlook le email se ci fosse qualcosa con oggetto Cucchi se ci fosse qualche email con diciamo diretta col maggiore cavallo col colonnello cavallo in uscita in entrata cioè lì si è attivata ecco perché abbiamo perso molto tempo perché voleva vedere se ci fosse un riscontro quindi non ci fosse solo l'entrata ma anche l'uscita era legittimo d'altronde però io le avevo spiegato che questo non era possibile perché non avevo più gli strumenti dell'epoca e per quello che ho detto del serve del piccino era cambiata la versione io non sapevo non ricordavo nemmeno se con la versione dell'Outlook cambiata si fossero rimaste tutte le email che c'erano all'epoca cioè quelle della precedente versione terminato questo controllo quindi vista l'email terminato il controllo di verifica il capitano ha detto esco un attimo le premetto che in tutto questo voglio dire io a quel punto avevo un grosso problema che non sapevo fare lo screenshot dell'email cioè della videata d'Oxpa di quell'email quindi il capitano è uscito ed è andato nella parte posteriore della caserma dove c'è il parcheggio io l'ho detto circose retrostante la parte di dietro della caserma io nel frattempo ho stampato i due perché quello era una cosa elementare apri la cartella stampa il file word perché realmente ci vuole quello non serviva avere una competenza particolare ho fatto un solo tentativo di screenshot della videata dopodiché non ci sono riuscito avevo paura di cancellarla o di far sparire cioè di cancellare di far sparire qualcosa ma con un'operazione veramente cioè da incompetente sono quindi ho dato la stampa sono andato a prendere la stampa sono tornato ho invitato i due colleghi ho tentato di fare lo screenshot non ci sono riuscito ho invitato i due colleghi che erano rimasti con me Petrollini e Serra ad andarci a prendere un caffè che nella parte dove stanno le macchinette o meglio dove stavano poi stanno fatto dei lavori non so se stanno ancora lì e questa parte dove stanno le macchinette c'è un'uscita di emergenza che dà accesso alla parte retrostante della caserma e qui ho visto il capitano testa armata con il telefono cioè aveva il telefono in mano all'altezza dell'orecchio ma non ho sentito né so con chi stesse parlando né so con di cosa stesse parlando perché era distante da me aspetti ma lei era uscito sì perché mi sono uscito ma ho offerto a Petrollini e Serra una consumazione alle macchinette poi siccome da quando era venuto io sono un fumatore non ho non ho non avevo fumato manco una sigaretta e in ufficio stavano loro non potevo fumare e allora sono andato fuori a fumare ecco perché ho visto questa scena del capitano che stava al telefono quindi lei non sa con chi stava parlando no non sa di cosa stava parlando no ma scusi perché lei me lo ha detto però sì però lei fa bene a dire quello che sa con certezza però cerchiamo pure di essere logici quando lei fa vedere la mail del capitano sgrana gli occhi sì poi che succede dopo che fate tutta facciamola per me allora ma questa è la mia interpretazione la mia voglio dire per me la telefonata era pertinente quell'email cioè cosa devo fare su questa mail come mi devo regolare perché era la telefonata per me era relazionata tant'è che io le ho pure a una sua richiesta a una sua domanda io ho pure risposto per me dottore poteva essere anche lei al telefono cioè io cioè lei nel senso ma tutti pensano che questa armata mi chiama nelle situazioni di criticità ma perché dottore il nucleo investigativo le posso dire per esperienza ha sempre diciamo un rapporto più diretto con i pubblici ministeri sì sì ma io lo confermo anch'io per esperienza rispetto a quello che abbiamo noi le stazioni dove voglio dire è molto più difficile ecco perché io ho pensato che la telefonata fosse correlata all'email perché poi dopo non so mi devo fermare dottore o continuo no aspetti no perché io le leggo allora su questo passaggio della telefonata lei ha dichiarato negli interrogatori le leggo l'integrale così evitiamo equivoci di alcun tipo quando ha visto le mail il capitano gli si sono aperti gli occhi ed è andato fuori è stato circa una decina di minuti il tempo della sigaretta per telefonare e poi in udienza invece dice la vista senza un problema di dubbio sta parlando della mia domanda e che ha fatto è uscito dice guardi cioè per virgolette sarebbe la frase di testa armata guardi un attimo l'uscita la telefonata poi lei non sa con chi ha parlato non sa esattamente cosa ha detto ma per quella che fu la percezione all'epoca erano connesse era connessa sì perché fu conseguenziale tanto che lei ha pensato che stesse parlando col pubblico ministero tanto che io ho pensato questo sì senta vorrei capire un attimo una cosa prima che lei vada avanti negli interrogatori nell'udienza lei però non parla di tutta questa fase di ricerca della mail in uscita se lo ricorda questo io in quel momento eravamo focalizzati sulla mail cioè sul fatto della mancata acquisizione oggi voglio dire dobbiamo ricostruire pure in un modo più particolareggiato quello che è stato il comportamento ma anche mio voglio dire innanzitutto in quella circostanza ed è per questo che io avevo negli applicativi aperti di Outlook e di Doxpa perché perché siamo andati a cercare anche nell'Outlook ho capito sì anche se io davo per scontata la ricerca perché già per altre questioni di mail che cercavo di lavoro in passato l'avevo l'avevo avevo verificato che purtroppo con la sostituzione del pc e del server erano erano dati persi non ce li avevo più ok sì 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 ma io no 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 spiegavo voglio capire bene voglio capire bene va bene quindi lei lo ricorda con certezza questo certissimo va bene e la presenta anche Petrovini quando si perché ha visto pure lui il monitor lo ha ruotato sì ma allora della questione del dialogo della conversazione l'hanno sentita tutti chi stavamo in quell'ufficio perché l'ufficio faccio il conto erano circa 15 metri quadri non c'erano muri tra mezzi non parlavamo a voce bassa e non avevamo manco motivo di parlare voglio dire non era una riunione di segreta no si stava discumento serenamente di quello che era di come erano andate le cose cioè lei ha già detto che non furono sorpresi per quello che ha percepito lei dalla doppia annotazione no non dalla doppia ma dall'imente lei ha detto se ne sono accorti subito sì secondo me sì perché da quando gliel'ho data cioè è come se l'occhio fosse andato ma questa voglio dire è una percezione rivivendo quella scena di quel momento come se l'occhio fosse andato lì cioè come se ne avessero conoscenza ma questa è la mia è la mia percezione si capisce il senso della domanda lo sa benissimo il giorno prima alla casilina c'era la doppia di disarmi però io non sapevo che fossero andati alla casilina e ne che il giorno dopo sarebbero andati al gruppo non sapevo nulla di questa attività va bene andiamo avanti quindi io finisco è stata pressoché contestuale il rientro del diciamo il termine della telefonata col finire della sigaretta e siamo rientrati insieme adesso io su Petrollini e Serra dopo che ci siamo presi il diciamo il caffè voi non so se adesso noi abbiamo preso materialmente il caffè questo non me lo ricordo i loro gusti però non ricordo se preso il caffè io mi me ne andai fuori e rimassi con loro a parlare fuori e quindi da da fuori vedi il capitano testarmata al telefono o se Petrollini si fermarono un poco ma poi rientrarono in ufficio fatto sta che io comunque ritornai in ufficio col capitano testarmata da lì lui mi disse che avremmo dovuto iniziare a fare le copie il voglio dire le mi sfugio il termine le copie conformi le copie conformi di quello che avevamo preso quindi aspetti aspetti un secondo innanzitutto poi con lo screenshot come avevamo e questo dico allora quindi aspetti quindi la richiesta la famosa richiesta di copie conformi che tanto ha destato strepitus l'hanno chiesta loro le copie conformi sì sì ma ha detto lui che dovevano fare le copie conformi scusi lui il capitano testarmata sì 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 il capitano testarmata che dovevano essere redatti in copie conformi le copie conformi e dove era il problema che si pose a questo riguardo è che in realtà bisognava rendere conforme la fotocopia che io avevo nella cartella cioè io in quella cartella raccoglitore avevo le fotocopie gli originali non ce le avevo più perché erano andati distrutti con l'allagamento e quindi era rendere conforme un atto non da un originale ma da una fotocopia però questo poi come l'abbiamo fatto c'è prima il passaggio che devo collocare temporalmente sono andato un passo avanti dello screenshot dell'email perché quando siamo rientrati io non ero riuscito a fare lo screenshot ho chiesto ausilio a Lupino perché so che è più pratico era molto più pratico di me in materia informatica e gli ho chiesto a Lupino di per cortesia mi aiuti a fare lo screenshot di queste due videate del DOCS in un primo tempo manco Lupino non riusciva manco lui e ci abbiamo perso 5-10 minuti su questo perché lui mi dava le indicazioni ma il momento in cui andavo a copiare l'immagine non riuscivo a riportarla sul foglio in tutto questo i colleghi del nucleo investigativo erano presenti nella stanza e già prima avevo richiesto che mi uscisse a fumare la sigaretta e quindi prendere le consumazioni avevo chiesto se loro lo sapessero fare e mi avevano risposto di no quindi parlo dello screenshot della videata del DOCS mi scusi sempre su questo per una questione di precisione l'avevo chiesto a tutti perché in quel momento erano presenti erano presenti a chi si riferisce al capitano testarmata luogotenente Petrollini e Serra quindi quando apro quell'email per fare lo screenshot signor giudice io lo chiedo a loro perché non lo sapevo fare e loro mi hanno cioè non è che tutti e tre mi hanno risposto capitano testarmata mi ha risposto di no gli altri non mi hanno dato non mi ricordo mi abbiano dato una risposta ma la mia domanda era chiaro che era di no cioè per me è stata questa la risposta che ho ricevuto io poi da lì io ho dato c'è stata la questione delle stampe degli allegati la ricerca prima la ricerca le stampe degli allegati dopo la ricerca il capitano testarmata è uscito e poi siamo andati noi alle macchinette e io poi sono uscito a fumarmi la sigaretta e non mi ricordo se sia stato seguito se si siano più che altro più che seguito fermato si siano fermati con me Petrollini e Serra mentre mi fumavo la sigaretta o all'inizio che ho iniziato a fumarla poi loro sono rientrati questo la permanenza fuori con me non me la ricordo estremamente cioè per tutta la durata della sigaretta comunque ritorno alla videata chiesta a Rupino dello screenshot abbiamo perso tempo poi Rupino mi ha dato finalmente l'indicazione di come dovesse essere fatto questo screenshot di questa videata tribolata insomma è stato e l'abbiamo ho riportato primo screenshot prima videata secondo screenshot seconda videata li ho riportati su un file di Word che ho aperto quindi li ho copiati e ho dato la stampa finalmente siccome la stampante è settata sul fronte retro mi è uscita una stampa fronte retro dello screenshot che mi aveva esibito prima il pubblico ministero ora c'era la questione delle da lì abbiamo affrontato quindi fatta la stampa l'email è rimasta lì con gli allegati che avevo stampa dell'email che avevo stampato prima a questo punto si è posto il problema della conformità degli atti perché io ce li avevo in fotocopia o altri stavano nel diciamo nel pc era tardi perché avevamo perso parecchio tempo e il capitano testarmata mi disse dice guardi dice facciamo una cosa il semplifichiamo dice possiamo dice mettere una conformità tratta da copia tratto da copia informatica e quindi ciò che io avevo in fotocopia fu messa questa posizione di conformità tratta da copia informata ma non è vero il memoriale da memoriale sì non è vero dottore in realtà non è vero però c'erano i richiami sul DOCSPA di questi protocolli in realtà non è vero in realtà non è vero delle doppie annotazioni sul DOCSPA che c'era? delle seconde annotazioni no allora le prime erano registrate le seconde non c'erano sul DOCSPA le prime avevano quando erano state protocollate dai due carabinieri cioè quelle che voi avete mandato ad appia con le lettere sì le prime avevano il loro protocollo infatti hanno tutte e due trattino uno ma quelle stanno pure al DOCSPA? no quelle non stanno al DOCSPA delle annotazioni cosa c'è? al DOCSPA stanno solo quelle in word ricevute con l'email del colonnello Cavallo stanno solo quelle non ci stanno altre annotazioni in DOCSPA però adesso gli esibisco ma lei già lo sa su quelle acquisite dal nucleo investigativo c'è scritto tratto d'archivio informatico e sì no era questo il problema dottore perché il capitano testarmata mi disse siccome non ci stanno come possiamo fare si pose il problema di come autenticarle che non la voleva l'autentica per lui non andava bene tratta dalla fotocopia allora disse per visto che ce le ha al DOCSPA registrate mettiamoci tratto da ci metta ci metta tratta da archivio informatico eh però insisto non è vero cioè per le annotazioni non è vero no in realtà non è vero cioè l'archivio informatico è il DOCSPA è il DOCSPA non ci sta non sono acquisite al DOCSPA non sono acquisite al DOCSPA sono protocollate informaticamente ma i carabinieri ed è lì che me ne sono accorto la prima volta che i carabinieri nel 2009 non le avevano acquisite perché non le avevano scannerizzate in pdf e acquisite e me ne sono accorto nel 2015 con il capitano testarmato ma scusi ma lei che è così preciso perché si è prestato a fare un'attestazione del genere così come nel 2009 perché ha avuto fiducia di quello che mi stesse dicendo un superiore cioè io torno a ripetere il nostro lavoro si fonda sulla disciplina e sulla fiducia che si ha nel superiore se uno mai pensa che un superiore venga lì per metterti in difficoltà o crearti il problema anzi il superiore deve perseguire dove non c'è il problema al contrario non che lo deve creare e io ho avuto estrema fiducia nei confronti sia del maggiore soligo all'epoca e sia del capitano testarmato senta ma mi faccio capire una cosa ma in tutta questa attività quelli del nucleo investigativo non erano sempre fisicamente presenti nel suo sempre sempre ma avevano quegli atteggiamenti di cui ha parlato Luppino allora io Luppino in quel momento siccome parlavamo col capitano testarmata sempre in relazione alla alla questione della ora arrivo poi alla chiusura dell'email sempre alla questione della conformità stavamo guardando con il DOCSPA continuavamo riscontravamo io non me ne sono accorto che Petrollini seguisse a Luppino quando è stato il momento della della fotocopia perché io proprio perché era coppia unica gli davo a Luppino relazione di Colicchio e andava a fotocopiare la relazione di Colicchio lettera di Appia con allegato questo e lui andava e fotocopiava quindi diciamo ha fotocopiato a più riprese io non me ne sono accorto mi tolgo una curiosità ma il DOCSPA è visibile a tutti tutti i carabinieri dico allora chi ha la chi ha la la diciamo il referente telematico lo può visualizzare anche in remoto anche in remoto e quindi dico si poteva verificare in qualsiasi momento da chiunque che dolosamente andasse o anche con no no mi faccio finire la domanda che a DOCSPA quegli annotazioni non c'erano ci deve essere una cancellazione però no non mi sto spiegando lei ha detto io sono andato al DOCSPA al DOCSPA quelle annotazioni c'erano solo in Word modificate in Word modificate ok visto che voi le avete acquisite loro le hanno acquisite in pdf sostanzialmente cioè una copia eh no c'era una copia che avevo io ma quello che voglio capire io è chiunque in qualsiasi momento avrebbe potuto verificare che nell'archivio informatico quelle non c'erano in remoto sì voglio dire in remoto sì e lei ha detto quel giorno loro sono stati sempre fisicamente presenti sì sì sempre loro sanno lei da dove ha preso cosa sì e invece l'ho detto prima dottore dalla cartella ho dato le fotocopie siccome io aprivo loro hanno visto che non c'erano e l'hanno seguita direttamente cioè non è che il eh nell'incrociare perché loro l'hanno verificata al doxma di torsapienza non c'è non sono acquisite i carabinieri colicchio di sano non l'hanno mai acquisita né la prima versione né la seconda non l'hanno mai acquisita e io me ne sono reso conto nel 2015 quando ho fatto quel tutta quell'interrogazione col capitano testarmata ma quindi scusi quando nel momento in cui le dicono vabbè attesta tratto da archivio informato la prima è una cosa che attesta lei e firma lei lei non ha eccevito nulla no perché loro hanno visto che all'archivio informatico in realtà il protocollo eh c'è questa risulta registrata ma signor giudice scusi scusi c'è il capitano che continua a farmi segni ma io non cioè non è non è il capitano quando sarà il momento suo lei viene si siede e riferisce perché questo è il momento vogliamo spiegare all'imputato che è bene che faccia l'imputato e non che dia disposizione di contegno le persone in atto cioè non è no mi distrae perché anche io guardo il pubblico ministero però è nella stessa direttiva va bene poi il capitano testarmata quando sarà il suo turno lo dirà se vorrà anche all'esito potrà fare delle dichiarazioni spontanee se lo riterrà opportuno però per la verità io non stavo dicendo niente però è da dieci minuti che si sente stanno disturbando anche me da dietro per cui se ognuno stesse al posto suo forse sarebbe meglio diciamo che comunque gli imputati possono interloquire con i difensori però insomma ecco senza rivolgersi né all'imputato che in questo momento sta sostenendo l'esame e senza nei limiti del possibile senza fare il proprio francamente questo non possiamo accettarlo questo richiamo perché qui è tutto completamente calmo io il capitano test armata non so neanche chi sia non ha mostro un muscolo quindi l'imputato può dire che sta muovendo un muscolo non c'è assolutamente caos non è stato fatto riferimento a lei il capitano test armata può intervenire può intervenire per suo conto non c'è bisogno che intervengano altri difensori a supporto del capitano test armata intervengo di fronte a quello che dice il pubblico ministero che sente un brusio brusio non c'è assolutamente evidentemente se lui l'ha sentito il brusio ci sarà magari non sappiamo bene a cosa è riferibile sicuramente sarà così va bene per favore possiamo procedere e mantenere diciamo ognuno il rispetto dei propri ruoli prego guardi me luogo tenente allora torniamo a noi quindi innanzitutto io vorrei capire bene perché le copie conforme gliele chiede il nucleo investigativo sì confermo io quello che le ho chiesto io è cioè le viene data una disposizione cioè dice lei scrivi tratto d'archivio informatico sì che e lei lo scrive e lo firma e però mi sta dicendo che non è vero allora queste non sono state stampate dal DOCSPA no dottore perché al DOCSPA non sono a suo tempo non sono state acquisite dai rispettivi redattori io però risultano il protocollo al DOCSPA risulta risulta cioè che questa relazione di colicchio sia la 16 barra 211 trattino 0 parlo della relazione inerente i compiti assolti durante il servizio alla caserma al DOCSPA risulta registrata è protocollata il 16 ottobre fisicamente l'atto però non è stato da colicchio scannerizzato e acquisito al DOCSPA ma è protocollato lo stesso per le annotazioni io mi son reso conto di questo quando quel giorno siamo andati col capitano testa armata presente l'operazione la facevo io il capitano testa armata controllava la mia operazione che siamo andati ad aprirli e non c'erano erano vuoti ecco perché però si poneva il problema che io avevo la fotocopia non gli originali quindi mi disse non possiamo attestare la conformità su di un atto che tu non hai voglio dire che non è originale perché non c'erano le firme originali per la questione che io ho spiegato dell'allagamento ecco perché voglio dire il allora questa tra virgolette impasse eh l'abbiamo superata che mi ha detto il capitano dice vabbè visto che sono registrati c'è un riscontro del protocollo informatico scriviamo tratti da da regista da archivio informatico cioè è stato questo lo lo sviluppo e quindi io scriviamo scrivi e in questo caso infatti la scrittura è mia la grafia è mia questa oltre che la firma e ho spiegato come siamo arrivati a questa determinazione perché non si poteva dare la conformità sulla fotocopia ma dalla diciamo l'atto l'atto il protocollo ce l'aveva al DOCSPA ma non era fisicamente inserito nel DOCSPA dottore non so se sono riuscito a no il discorso è chiaro cioè volete sapere il capitano destarmato avrà capito l'ha detto tante volte la difesa destarmato in questo processo che la procura aveva chiesto in originale o in copia non necessariamente conforme ma le ha detto questo no mi ha chiesto la copia conforme lì che c'è stata questa diciamo impasse perché le chiedo guardi le leggo questa dichiarazione che lei ha reso nell'interrogatorio del 18 ottobre 2018 vorrei sapere se me la conferma se me la spiega se me la integra mi dica lei allora lei dice quando è venuto il nucleo investigativo mi ha detto nella copia conforme metti perché stavo per non perdere tempo e fare il distingo ha detto metti tutto archivo informatico e va bene così confermo però quello che le vorrei chiedere qua lei non parla del problema relativo al fatto che non c'era l'originale e si poneva tutto il problema che sta spiegando no avevo spiegato che c'era stato l'allagamento dottore sì l'allagamento e quindi che erano stati purtroppo andati distrutti perché avevano preso tantissima acqua i carteggi degli anni precedenti questo è chiarissimo e quindi per questo io non ce li avevo più in originale le doppie diciamo versioni e la relazione di Coricchio cioè tutto ciò che era del 2009 io non l'avevo più in originale no io ne avevo la copia perché ero stato previdente a farmela in quella raccolta ma io pure perché risulti degli atti lei fin dal primo interrogatorio ha detto c'è scritto tratto d'archivio informatico ma in realtà io ho fatto una copia e mi hanno detto loro di scrivere così però quello che le dico altrimenti me la spieghi che stando a questa dichiarazione sembra che le abbiano detto scrivi tratto d'archivio informatico per la fretta non perché no 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 perché poi ci fu questa impasse di questa poi tra l'altro avevano anche fretta perché me lo dissero che dovevano tornare a Montesacro ma questo fu dopo la telefonata che io feci al Capitano Blanco sulle modalità di acquisizione quella che dicevo la seconda telefonata al Capitano Blanco che perché io dissi ma all'epilogo come ma questi atti facciamo un verbale ridigete un verbale no devono essere noi li prendiamo e li portiamo alla compagnia a Montesacro devono essere trasmesse dal Capitano Blanco allora io ho chiamato il Capitano Blanco e ho chiesto conferma e lui lì mi ha detto sì te lo confermo perché è stata depositata da me la richiesta quindi non mi ha parlato di delega la richiesta mi ha detto ma la delega chi l'aveva detto esattamente dei presenti di quelli del e chi quando è venuto è stato il Capitano Testarmata a parlarmi va bene quindi vabbè abbiamo capito questo discorso della doppia annotazione e c'eravamo fermati all'email dottore sì questo volevo alla lei aveva fatto lo screenshot e la mia stampa un foglio fronte retro delle due videate ecco perché l'aveva fatto voleva legare anche quello sì no perché io ne ho fatta solo una perché in realtà fino a quel momento non mi aveva io ancora non avevo capito se si bastasse quel foglio o potesse occorrere direttamente tutta l'email fare una copia di quell'email ecco perché ho correlato la telefonata vista l'email fatto tutto l'accertamento di cosa esistesse ancora e avuto l'esito negativo era uscito il capitale dottorestarmato io a questo l'ho collegato a quello che aveva visto lui quindi sulla modalità sul da farsi e io a quel punto gli ho detto a conclusione quindi delle copie conformi e di questa cosa facciamo la vuol cioè la prende la mail di questa no io ho detto dalla fotocopia io ho detto la fotocopia che facciamo la mail di cosa no io sono partito dalla fotocopia ma di cosa la fotocopia della della no scusi la fotocopia la stampa la stampa della videata ha detto deve dobbiamo rendere conforme anche questa deve prendere la mail cioè io l'ho chiesto o sono partito dalla conformità del foglio stampato fronte retro e dei due allegati dice deve prendere anche l'e-mail lì ha detto no dice guardi è stato chiaro nella sua spiegazione l'e-mail tanto resta qui dico quindi dove l'abbiamo trovata c'è lì è stato chiaro non si preoccupi dice se serve l'e-mail sta qui e lei non ha detto beh però in questo modo diamo una spiegazione no perché ha detto che ero stato chiaro nella spiegazione pure troppo di come diciamo si erano di come si era formata la mail quindi qual era diciamo l'antefatto a quella mail lei è stato chiaro questo lo dice il capitano testarmata e quindi insomma ci siamo salutati e se ne sono andati ho capito senta volevo chiedere una cosa lei prima ha detto al comando provinciale accanto all'ufficio del capo ufficio comando c'è quello del reparto operativo il comandante del reparto operativo può essere più precedente lei intanto lo sa per certo si si come lo sa? eh beh sono andato diverse volte al comando ho fatto 21 anni ho comandato una stazione una stazione torsapenza quindi in più circostanze sono andato al comando provinciale e sa che accanto all'ufficio del capo ufficio comando c'è quello adesso la disposizione non mi ricordo se è a fianco o di fronte comunque nello stesso stabile nello stesso piano si nello stesso piano nello stesso piano cioè insomma stanno si si stanno lì proprio posso dire concentrati ho capito cioè non è uno un'estremità e l'altro l'estremità completamente opposta ma lei perché voleva un verbale di acquisizione perché chiamò il capitano no chiesi delucidazioni sulla modalità nel senso che a me il capitano testarmata disse che gli atti li prendeva direttamente lui senza redigere nulla sul posto e doveva li portava a Montesacro e doveva essere poi il capitano Blanco a trasmetterli io quindi ho chiesto conferma al capitano Blanco per questo l'ho chiamato e ricordavo bene la seconda telefonata di quel giorno per chiedere conferma che fosse questa la modalità cioè che non dovesse essere fatto né un elenco da me né dal capitano testarmata né un verbale di acquisizione quindi questa era la mia la mia richiesta e mi disse no mi confermò che quello che aveva detto il capitano testarmata fosse andato bene aspetta un attimo vediamo se va bene andiamo adesso al giorno successivo all'udienza del 17 aprile 2018 poi c'era un'altra parte che volevo dire che avevo informato anche comunque cioè il capitano Blanco io di tutta questa vicenda ne ho parlato ma non voglio dire non il giorno stesso e attenzione quando è capitato a Torsafienza nell'ambito delle sue cicliche ispezioni io l'ho informato di tutto quello che è accaduto gli ho anche riferito di quello che parlammo con cioè di Luppino che mi aveva detto che aveva avuto la percezione di essere stato seguito perché io ho sempre avuto un rapporto voglio dire estremamente aperto e riferivo tutto quanto al comandante di compagnia proprio perché non dovessi poi essere richiamato su qualcosa perché non me l'hai detto perché non mi hai taciuto questo io riferivo tutto ciò che si verificava anche quando voglio dire nell'accesso degli altri perché così fanno cioè proprio tutti i comandanti di stazione nei confronti dei loro comandanti di compagnia e io riferì quel giorno la questione sia diciamo dell'email e sia che avevo spiegato al capitano testarmata come si era giunti alla formazione di quell'email e il capitano Blanco annuiva non mi disse nulla e mi disse pure lui non ti preoccupare tanto l'email ce l'hai lì se dovesse occorrere sta dove l'hai trovata cioè voglio dire più di tutto questo cosa dovevo fare ma quindi lei non si sentiva rassicurato del tutto no ma l'ho detto non io l'ho detto non perché non mi sentissi rassicurato l'ho detto perché era doveroso riferirlo al comandante della compagnia proprio perché lui non c'era e proprio perché doveva essere a conoscenza di questa situazione cioè io ho spiegato anche perché poi all'epoca il capitano Blanco non c'era nel 2009 e non ne avevamo mai parlato prima di allora di questa vicenda non c'era stato proprio motivo non è che ne parlavamo tutti i giorni in caserma ogni tanto no sinceramente se ne è parlato dopo ma non erano argomenti di diciamo di confronti di conversazioni assolutamente ecco perché io gliel'ho detto l'ho riferito al capitano Blanco guardi in sua assenza l'accesso del nucleo investigativo è avvenuto così si è sviluppato in questo modo io questo gli ho detto ma giusto per tenerlo informato anche del fatto dell'email non è vero che io non gli abbia mai detto niente e dico perché lei si ricorda le posizioni ma certo certo ecco perché intende lo volevo precisare io gliene ho parlato ricordo pure all'aperto stavamo sotto l'albero delle nespole che stava entrando a destra in caserma senta passare per bugiardi poi mi scusi dottore io no va bene ma dopo tenente io sto dando ampio spazio le sto facendo le domande le sto lasciando rispondere vuoi aggiungere qualcosa no 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 questo questo è quello senta andiamo andiamo al 18 aprile 2018 ricorda cosa è successo quella mattina mi perdoni la data il giorno dopo l'udienza ah sì il 18 aprile 2018 sì erano mesi che non sentivo il maggiore soligo era quel giorno quello di servizio di rappresentanza militare e mi trovavo nella zona di Tor Vergata quando ricevetti una telefonata dal dal maggiore soligo e il praticamente esauriti era tanto veramente che non 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 insomma non mi contattava mi scusi dopo quando è che andò via la compagnia Montesagro allora andò via nel 2000 non mi ricordo se era 2011 2012 tra il fine 2011 2012 c'era stata qualche occasione pure che ci eravamo visti sentiti però di questo argomento non se n'era più parlato quindi lei aveva continuato a mantenere in qualche modo un rapporto sì 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 no ma perché una persona che nutrivo tantissima fiducia stimavo non veramente una persona poi professionalmente un punto di riferimento perché era molto competente quindi voglio dire per me era anche un onore potermi insomma pregiare dalla sua amicizia lei non aveva avuto mai problemi con il maggiore no ma assolutamente cioè mi aveva fatto anche delle riservate che conservo ancora del per quanto era preciso però delle contestazioni sì delle contestazioni scritte su due per due segnalazioni che avevo mandato in ritardo mai prese riservate in vita mia le uniche due nel 2008 mi sembra e ha trovato uno più preciso di te ovviamente senta vabbè quindi c'è la stima molto da parte sua almeno c'è la stima sì ha mai avuto ragioni di astio di risentimento no no assolutamente guardi le posso dire assolutamente no e ha continuato a mantenere un rapporto cordiale di cui se ho capito bene lei si onorava assolutamente sì ok sì quindi lei dice non lo sentivo da mesi ma comunque lui se ne era andato da anni mentre lei lo continuava a sentire sì no ogni tanto mi chiamava come va che si dice cioè voglio dire qualche volta sono andato anche a trovarlo nella nuova sede dove era la nuova sede no quando andò al comando generale si occupava di infrastrutture insomma andai a trovarlo no ma è stata una persona veramente molto cioè io sono anche dopo sono rimasto non dopo questa vicenda dopo il cioè dopo che lui fosse andato via siamo rimasti in contatto era sporadico non ma voglio dire c'era quel contatto non è che si è dissolto nel modo più assoluto non poi ritornavo ecco perché il 18 aprile del 2018 il giorno dopo l'esame di di colicchio di sano in corte d'assise era la mattina ricevetti una telefonata e mentre stavo guidando stavo in zona torvergata ero di rappresentanza militare che ora ha detto che era più o meno se se lo ricorda no io mi ricordo che la durata invece che era circa durò circa una ventina di minuti era la mattina non so le le dieci e mezza undici vado oriente dal carburato risulta 10 e 43 ah e quindi dieci e mezza ricordavo bene dieci e mezza dieci e mezza undici ho detto il range esatto e praticamente il come va come non va eccetera eccetera il maggiore mi disse ma hai sentito ieri sera hai sentito colicchio di sano le testimonianze gli ho sentito ieri sera dice ma hai visto non hanno saputo spiegare quello che è successo all'epoca io in realtà l'ottore colicchio mi aveva detto come erano andate le cose che cioè dell'intervento della telefonata io ho voluto ascoltare quello che mi dicesse vediamo che cosa mi dice e non diciamo di tutto quell'aneddoto lì raccontato da colicchio il maggiore non mi ha detto nulla solo che non avevano saputo cioè è stato il fatto che non avevano saputo spiegare perché si era arrivati a determinare quelle modifiche questo era il senso e disse di nuovo tutta la sua e sì e mi ripetette dice ma colicchio che gli refertava che ha il mal di testa e mica do colicchio un medico cioè questo ma lui mi enunciò e nessuno e chi è che vuole stare nelle camere di sicurezza perché poi questo particolare me lo ricordo sempre perché mi sono reso conto che colicchio non l'aveva messo nella seconda nella sua annotazione quindi voglio dire come faceva cioè invece lui e quindi non era un dato che entrava nel patrimonio dell'autorità giudiziale però lui lo contestava senta ma in questa lefana lei ha detto non ha fatto riferimento alla discussione che ebbe con colicchio il maggior no assolutamente e il fatto che il povero di sano non era partito non disse nulla non disse nulla quindi la chiamò e ribadì questa cosa sì mi ribadì questo concetto mi chiamò sul mio cellulare ma lei ha detto era torvergata più o meno sì 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 tant'è che stavo guidando poi avevo difficoltà tra parlare c'era traffico e mi sono fermato in quella zona in quella zona per parlare sì ma era arrabbiato in quella telefonata no ma no perché in quella deposizione che poi finì su tutti i giornali e telegiornali di sano disse ho eseguito una disposizione del comandante di stazione ordinato dalla scala gerarchica lui non ha fatto riferimento no 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 ha detto che non avevano saputo spiegare ed era seccato di questo cioè il senso della telefonata era quello ho capito senta buco tenente ma lei in tutta questa storia lei ha detto che a Colicchio hanno detto bravo sì alla riunione del 30 lei che eseguendo le disposizioni ha fatto ha dato insomma quel contributo che ha detto nella mail ha fatto quell'appunto su le dichiarazioni di Colicchio e dottor Barba ha scritto tratto dall'archivio informatico ma ha avuto dei vantaggi degli encomi no nulla dottore delle promozioni no no c'è una telefonata con suo fratello sempre la solita in cui lei dice di temere un trasferimento sì quel timore poi si è concretizzato sì il quantomeno il al rinvio a giudizio mi è stato mio rinvio a giudizio sono stato trasferito dal dal comando generale con determinazioni del signor comandante generale al per motivata oggi purtroppo non ce l'ho ma con l'avvocato ci proponevamo di produrlo il il trasferimento con la motivazione dello svolgimento dello svolgere il servizio con serenità causa insomma per affrontare questo procedimento e visto l'ecomediatica della della vicenda sono stato trasferito all'ufficio aio del comando legione carabinieri lazio dove appena arrivato ho chiesto di conferire con il comandante perché avendo una figliola autistica in forma grave non potevo andare a a a a occupare l'alloggio di servizio che mi era stato assegnato in località magliana che era in un condominio a un quinto piano e allora ho chiesto di poter conferire e mi è stato concesso e al comandante della legione lazio ho rappresentato la mia difficoltà del poter andare in un contesto condominiale tra l'altro senza le misure di protezione per mia figlia e che non percepisce il senso del pericolo e poteva precipitarsi infatti a torsapienza sembrava strano al secondo piano ci sono tutte grate messe in sicurezza alle finestre perché non è messe da me proprio all'insediamento io purtroppo c'era questo procedimento insomma non potevo sopperire e manco poteva l'amministrazione farsi carico di queste di questo sistema di difesa passiva e diciamo di difesa passiva per mia figlia e allora avevo cioè ho casa di proprietà ad Anzio e ho chiesto di essere trasferito che è fatta proprio in relazione alle esigenze di quella mia figlia è stata ho chiesto il trasferimento ed è stato accordato per il nucleo di polizia militare presso lo stabilimento di Nettuno quindi all'interno di una caserma dell'esercito io ho incarico di polizia militare non incarico di comando che è a Nettuno io abito ad Anzio quindi è poco distante e sono stato insomma sono stato l'amministrazione su questo è stata sensibile e pronta perché in tre mesi da ottobre che ero stato destinato all'ufficio a gennaio sono stato trasferito alla polizia militare senta ma in questa telefonata con il suo fratello sempre la stessa la ripeto 497 come progressivo del 26 settembre 2018 lei nel come dire nel palesare il timore di un trasferimento dice testualmente e se quando torno mi trovo trasferito alla compagnia speciale ma perché cos'è la compagnia speciale allora la compagnia speciale per quanto mi risulti nei 21 anni di servizio che ho comandato la stazione d'Orsapienza è il reparto dove in linea di massima andava a confluire personale che avesse procedimenti penali quindi in atto ecco perché dove appunto non c'è un rapporto con di comando di rapporto con la popolazione si fanno vigilanza rappresentanza talvolta anche pattuglie insomma ecco perché lo avevo indicato così a spanna insomma quel reparto come come sede dove potessi essere trasferito per questa vicenda senta un'ultima domanda sempre nella famosa telefonata con suo fratello lei parlando della mail dice ho già fatto un primo filmino ma non viene bene ma non è venuto bene lo devo rifare perché ho paura che me la cancellano se la ricorda questa sì perché in quel momento mi sono reso conto realmente della di quanto fosse importante per me perché l'email è l'unico documento oggettivo che dimostra che il 27 ottobre del 2009 quelle annotazioni sono state modificate non dal sottoscritto ma per volere e intervento di chi stava sopra di me e ma chi gliela doveva cancellare eh no il remoto si poteva cancellare tutto e il mio timore era che che potessi cioè che vuol dire ci potrebbero ci potessero essere delle ingerenze lì su quella vicenda visto che vedeva coinvolti delle figure di ufficiali che avevano fatto carriera in quel momento lì dottore e quindi a che si riferisci io mi riferisco al comandante al generale Tommasone che era diventato generale di corpo d'armata dal generale di brigata e comandava l'Italia centro-meridionale la divisione Ogaden e l'interregionale volevo dire Ogaden e il generale il generale Casarsa che in quel momento era servizio alla più alta carica dello Stato i corazzieri quindi la vigilanza alla più alta carica dello Stato quindi avevo sapevo che avevano fatto questa carriera insomma nel frattempo ecco perché ho avuto timore e ho filmato ma lo stesso anche anche Di Sano quando io dopo ma Di Sano il 22 se lo filmò con col suo telefono questa mail perché Di Sano non ne sapeva niente ne ha presa quel giorno e l'ha filmata beh non ho altre domande sono le 18 insomma non so le parti civili hanno un esame lungo perché mi immagino che ovviamente per quello delle difese sicuramente dovremo aggiornarci alla prossima udienza volevo capire se insomma almeno l'esame dei difensori di parte civile non ci sono domande ah vabbè quindi diciamo insomma quante domande ce l'ha la quarta civile l'avvocato Perugini ha una domanda veloce veloce se posso così le esaurisco subito senta prima ha fatto riferimento buonasera avvocato buonasera noi ci siamo già salutati per questo non la saluto pubblicamente ha fatto riferimento alla telefona dal 118 si ricorda che lei ha riascoltato successivamente quella in cui la notte colicchio chiama il 118 ha parlato di una terza voce lei l'ha riconosciuta questa terza voce no ok no perché è talmente istantanea che però è un timbro è un timbro facilmente riconoscibile insomma si non l'ho riconosciuta lei non l'ha riconosciuto tra quelli che erano gli appartenenti alla sua stazione no purtroppo no se no l'avrei già detto al pubblico ministero va bene non altre domande era solo questo che volevo capire grazie le altre parti civili quindi nessuno ha domande quindi si può accomodare grazie allora alla prossima penso che l'esame è anche diretto da parte del suo difensore e poi gli altri difensori immagino che sia impegnativo visto tutti i temi che sono stati trattati ci chiedo scusa se è possibile potremmo sapere quanto tempo ci vuole per il deposito delle trascrizioni martedì o massimo mercoledì la ringrazio rimetto un po' d'ordine perché è uscito quindi va bene ovviamente ci aggiorniamo alla prossima udienza che è quella del 15 gennaio sempre qui a San Basilio vi avevo anticipato l'altra volta sì non è purtroppo non c'è stato assolutamente modo sì ho immaginato dal fatto che per i difensori delle parti civili perché sono impegnati al processo appello se riuscite ad organizzarvi perché non c'è stata altra possibilità e quindi intanto io sono riuscito ad ottenere alcune udienze di maggio e di giugno quindi vorrei dare comunicazione affinché ne prendiate nota l'ultima che voi avevate che avevamo in calendario era quella dell'8 aprile se non ricordo male vero e quindi il sì sì aspetto giudice chiedo scusa l'aula è questa ha ottenuto questa aula sono tutte qui sono tutte qui anche quelle che adesso vi sto per indicare quindi diciamo ci hanno riservato l'aula per il 6 maggio 2021 sì tutte diciamo da oggi in poi almeno fino a diversa disposizione tutte le udienze di questo processo si terranno qui quindi quelle che già vi avevo indicato ve ne do conferma quelle che vi sto comunicando ora ugualmente quindi abbiamo detto 6 maggio 2021 27 maggio 2021 4 giugno 2021 e 8 giugno 2021 quale giorno vediamo io intanto ve le sto dando perché come avevo spiegato lei avvocato carta non c'era però purtroppo cioè purtroppo in realtà c'è tutta quanta una nuova procedura con delle linee guida diramate dalla presidenza per poter trattare processi come questo con tanti imputati o comunque insomma in cui c'è bisogno di spazio almeno finché queste regole che riguardano insomma la pandemia non vengano in qualche modo modificate per cui io mi devo interfacciare con un funzionario di cancelleria che eventualmente mi indica una data mi indica l'aula viene coinvolto un presidente di sezione a ciò delegato quindi io non ho molti margini quindi allo Stato può darsi pure che magari quell'udienza non ce ne sarà bisogno di tenerla però allo Stato diciamo io non posso cancellarla perché altrimenti non saprei in quale altra data perché nel frattempo ovviamente ogni giorno in tutto il tribunale collegi o giudici monocratici GUP chiedono il San Basilio chiedono l'aula o corsio quindi vediamo che cosa cioè non sappiamo neanche a quella data se quella data sarà assolutamente necessaria eventualmente si potrà valutare in proseguo e neanche che tipo di attività a quell'epoca insomma in prospettiva si potrà fare però intanto ecco voi tenete presente che c'è l'udienza in modo che magari se c'è margine anche per organizzarvi perché purtroppo c'è questa adesso ho individuato due finestre a marzo e a maggio nel turno mio delle direttissime in cui potrei fare un'udienza però ovviamente è inutile che adesso ve lo dico perché devo fare tutta questa procedura insomma 4 giugno e 8 giugno giudice chiedo scusa solo se lo posso anticipare a marzo io probabilmente avrò grosse difficoltà per concomitanti impegni quindi se fosse possibile restare a marzo come stiamo senza giugno però le due udienze rimangono ferme quindi eventualmente quella in più insomma ecco di farla ricadere a maggio anziché a marzo si sono quattro diciamo che nella settimana che diciamo il 21 maggio dovrebbe essere un venerdì in quella settimana lì io ho le direttissime come sezione normalmente ne facciamo tre quindi diciamo potrei un giorno però ovviamente anche per rispetto ai colleghi della sezione non potrò chiedere né il lunedì né il sabato perché sono i giorni più impegnativi quindi eventualmente in quella settimana se c'è disponibilità dell'aula potrebbe ricadere di giovedì o di venerdì di quella settimana di maggio però devo mandare la richiesta la prossima settimana a chi di dovere insomma va bene allora ci vediamo il 15 giudice questo volevo chiedere il 15 che attività è prevista allora è vero dobbiamo finire l'esame di Colombo che penso impiegherà insomma impegnerà diverse ore immagino quantomeno tutta la mattina non so si può procedere con l'esame di disano secondo me è un po' complicato forse già riuscire a finire colombo la viola per il giorno perché io ho fatto queste domande molte sono state già fatte a due giorni però infatti magari eh sì però diciamo vabbè nove e mezza diciamo iniziamo diciamo che iniziamo un quarto alle dieci un quarto alle undici un quarto a mezzogiorno un quarto all'una un quarto alle due sono già quattro ore avvocato in panchina possiamo dire che comunque qualora si riuscisse possiamo fare l'esame di disano per me va bene però per tanto comunque dovrebbe cominciare il pubblico ministero prima di lei quindi insomma e se lo cominciamo nel pomeriggio perché la mattina se si riesce a finire colombo inizia nel pomeriggio immagino che al massimo lo farà solo il pubblico ministero nel senso che poi magari si finisce va bene va bene allora diciamo fine esame di colombo ed eventuale esame di disano se ci sono i tempi per poterlo per poterlo fare c'è il derby grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.